capitolo 1 la voce al telefono era chiara e perentoria ma non sentivo troppo bene quel che diceva perché ero sveglio soltanto a metà e perché tenevo il ricevitore capovolto lo girai borbottando avete sentito o no ho detto che sono clyde amney l'avvocato clyde amney l'avvocato perché ce ne sono molti di clyde amney siete marlow vero beh credo di sì guardai l'orologio da polso erano le sei e mezzo del mattino non è la mia migliore ora giovanotto non fate lo spiritoso scusatemi signora amney ma non sono un giovanotto sono vecchio stanco e non ho neanche una goccia di caffè in corpo che cosa posso fare per voi alle 8 andrete all'arrivo del super chief individuerete una donna tra i passeggeri e la seguirete finché non si sistemerà da qualche parte e poi verrete a riferire a me chiaro no perché no rimbeccò la voce al telefono non ne so abbastanza e non sono sicuro che accetterò l'incarico sono clyde am no l'interruppi potrebbe venermi una crisi isterica provate a dirmi qualcosa di più fatti forse vi ci vuole un altro investigatore mai stato uno del federal bureau o la mia segretaria la signorina vermiglia verrà tra mezz'ora nel vostro ufficio vi porterà le informazioni necessarie è molto abile spero che lo siate anche voi sono molto più abile quando ho fatto colazione fatela venire qui invece e qui dov'è gli diedi l'indirizzo del mio appartamento in yucca avenue e gli dissi come doveva fare la sua segretaria per arrivarci molto bene riprese ma voglio mettere bene in chiaro una cosa la donna non deve sapere di essere seguita è molto importante agisco a nome di uno studio legale di washington uno studio molto importante la signorina vermiglia vi verserà un anticipo sulle spese e altri 250 dollari sul vostro onorario esigo un lavoro estremamente coscienzioso e non perdiamo tempo a discutere farò il possibile signor amney riattaccò mi trascinai fuori dal letto feci la doccia mi rasai e attaccavo la terza tazza di caffè quando il campanello suonò sono la signorina vermiglia la segretaria del signor amney annunciò con voce piuttosto decisa avanti e entrate non era male aveva un impermeabile bianco stretto alla vita niente cappello un casco ben curato di capelli color platino sopra scarpe in armonia con l'impermeabile un ombrello riducibile in plastica un paio di occhi grigio azzurro che mi guardavano come se avessi detto una parolaccia l'aiutai a togliersi l'impermeabile aveva un paio di gambe a quanto riuscì a scoprire tutt'altro che spiacevoli alla vista inguainate in calze di nylon velatissime le fissai con una certa attenzione specialmente quando la ragazza le accavallò e avvicinò la sigaretta perché gliela accendessi christian di or disse leggendo il mio piuttosto evidente pensiero non porto altro volete accendermela per favore beh oggi avete addosso parecchio di più delle calze dissi facendo scattare l'accendino a quest'ora del mattino non sono molto propensa alle frivolezze e che ora sarebbe di vostro maggior gradimento signorina vermiglia sorrise piuttosto acida fece l'inventario del contenuto della borsa e mi gettò una busta qui dentro troverete tutte le informazioni necessarie al vostro lavoro beh non proprio tutto volete piantarla o no gorilla so già tutto di voi scegliere voi non è stata un'idea del signor amney è stata mia e piantatela di guardarmi le gambe apri la busta conteneva un'altra busta sigillata e due assegni a mio nome uno di 250 dollari portava scritto anticipo compenso per prestazioni professionali e l'altro di 200 diceva anticipo a philip marlow per spese necessarie mi presenterete un rendiconto spese molto particolareggiato disse la signorina vermiglia ma il bere pagatevelo da voi l'altra busta non l'apri subito e che cosa fa credere al signor amney che sia disposto ad accettare un incarico del quale non so proprio nulla sono certa che lo accetterete non vi si chiede di fare nulla di scorretto di illegale vi do la mia parola che altro mi date di questo potremmo discutere in una sera di pioggia bevendo qualcosa quando non sarò troppo occupata mi avete convinto aprì l'altra busta conteneva la fotografia di una ragazza l'atteggiamento dava la sensazione di naturalezza e sicurezza o di una grande esperienza nel farsi fotografare i capelli scuri avrebbero potuto essere rossi la fronte ampia e liscia occhi seri zigomi alti narici nervose e una bocca che non rilevava nulla era un viso molto ben disegnato quasi scarno e tutt'altro che sereno voltate disse la signorina vermiglia sul rovescio della foto c'erano le informazioni scritte a macchina nome ilion or king statura 1 e 60 età 29 circa capelli castano rosso folti naturalmente ondulati portamento eretto voce bassa chiara ben vestita ma niente di eccessivo trucco moderato nessuna cicatrice visibile atteggiamenti caratteristici l'abitudine di muovere gli occhi senza spostare la testa quando entra in una stanza si graffia il palmo della mano destra quando è nervosa mancina ma tenta di nasconderlo gioca bene a tennis nuota e si tuffa splendidamente e regge bene l'alcol nessuna condanna ma le impronte digitali in archivio stata al fresco dissi alzando la testa a guardare la signorina vermiglia non so nulla più di quanto c'è scritto seguite le istruzioni e basta strano signorina vermiglia a 29 anni un bocconcino come questo dovrebbe essere sposato non si parla né di fede matrimoniale né di altri gioielli mi rende piuttosto perplesso guardò l'orologio meglio che andiate a sentirvi perplesso alla union station non vi resta molto tempo si alzò l'aiutai a infilare l'impermeabile bianco e le aprì la porta siete venuta con la vostra macchina sì uscì per metà e poi si volse una cosa mi piace in voi non allungate le mani e siete ben educato in un certo senso allungare le mani è una pessima tecnica e poi c'è una cosa di voi che non mi piace provate a indovinare spiacente nessuna idea a parte che certa gente mi odia perché sono vivo non intendevo questo scesi le scale assieme a lei e le aprì lo sportello dell'automobile un arnese da poco una cadillac flitwood la signorina vermilia mi salutò con un cenno del capo e infilò la strada che scendeva dalla collina risali in casa e preparai una valigetta con poche cose perché non si sa mai capitolo 2 un lavoretto da niente il super chef arrivò in perfetto orario come quasi sempre e la era facile da individuare quanto un canguro in abito da sera non aveva bagaglio soltanto un sacchetto di carta che gettò nel primo cestino dei rifiuti che trovò andò in sala d'aspetto sedette e si mise a guardare il pavimento se ci capivo qualcosa quella era una fanciulla infelice dopo un poco si alzò e andò all'edicola si allontanò senza scegliere nulla diede un'occhiata a un grosso orologio a muro e si chiuse in una cabina telefonica mise un pugno di monetina nella fessura e parlò con qualcuno la sua espressione non mutò riattaccò tornò all'edicola e prese una copia del new yorker guardò l'orologio da polso e sedette a leggere indossava un abito a giacca blu scuro con una camicetta bianca al risvolto della giacca era appuntata una grossa spilla di zaffiri probabilmente uguale agli orecchini se li aveva ma non riusciva a vederle le orecchie i capelli erano rosso scuro assomigliava molto alla fotografia ma era un poco più alta di quel che credevo dal cappellino di gros blu scuro pendeva una breve veletta portava i guanti dopo un poco di tempo uscì sotto gli archi all'esterno dove stazionavano i tassi guardò a sinistra verso il caffè poi si volse ed entrò nella sala d'aspetto centrale guardò il banco dei dolci l'edicola lo sportello informazioni e la gente che sedeva sulle lisce panche di legno alcuni sportelli della biglietteria erano aperti altri no non li guardò nemmeno sedette di nuovo e alzò gli occhi a guardare il grosso orologio si tolse il guanto destro e caricò l'orologio da polso un giocattolo di platino semplice senza pietre preziose mentalmente le misi a fianco la signorina vermiglia questa non aveva l'aria ritrosa né severa né impettita ma la vermiglia accanto a lei sembrava una pari patetica neanche questa volta rimase seduta a lungo si alzò e si mise a passeggiare uscì nell'atrio ritornò entrò nella farmacia poi rimase per qualche minuto a guardare i giornali dell'edicola i casi erano due aspettava qualcuno e l'appuntamento non era stato per l'arrivo oppure aspettava soltanto fra un treno e l'altro sedette a uno dei tavolini di plastica lesse il menu poi si misi a leggere la rivista arrivò la cameriera con l'inevitabile bicchiere di acqua ghiacciata la ragazza ordinò qualcosa la cameriera se ne andò e la ragazza riprese a leggere erano le nove o un quarto uscii sotto gli archi e mi avvicinai a un facchino che aspettava accanto al posteggio dei taxi siete stato al super chief domandai infatti guardò senza particolare interesse il dollaro che spiegazzavo tra le dita aspettavo qualcuno sulla carrozza diretta a washington san diego sceso nessuno ci pensò sopra scrutandomi con gli intelligenti occhi castani un passeggero è sceso disse finalmente com'è il vostro amico descrissi un tale che assomigliava a edward arnold il facchino scosse la testa niente da fare signore quello che è sceso non gli somigliava per niente il vostro amico probabilmente sta ancora in treno non occorre scendere della carrozza diretta l'attaccano a 74 parte di qui alle undici e mezzo il treno non si è ancora formato grazie dissi e gli diedi il dollaro il bagaglio della ragazza era ancora sul treno quello che volevo sapere tornai verso il caffè e guardai dentro la vetrata leggeva sempre e aveva davanti a sé una tazza di caffè e una brioche entra in una cabina telefonica chiamai un'auto rimessa dove mi conoscevano bene e dissi che mandassero a ritirare la mia macchina se non ritelefonavo prima di mezzogiorno lo fanno spesso poiché hanno un'altra chiave andai all'automobile presi la valigetta e la misi al deposito poi entrai nell'immensa sala della biglietteria e presi un'andata ritorno per san diego poi tornai in fretta nel caffè era ancora là ma non più da sola di fronte a lei sedeva un giovanotto che sorrideva e parlava e mi bastò un'occhiata per capire che lo conosceva e non era affatto contenta il giovanotto gridava a california dalle punte dei mocassini color vino di porto alla camicia a quadri gialli e marrone abbottonata e senza cravatta sotto la ruvida giacca sportiva color crema era alto all'incirca 1 e 84 aveva una faccia affilata e presuntuosa e troppi denti teneva in mano un pezzo di carta il fazzoletto giallo sbocciava dal taschino della giacca come un mazzetto di ranuncoli e un fatto era limpido e chiaro come l'acqua distillata la ragazza non voleva quell'individuo tra i piedi il giovanotto continuava a parlare e agitare il pezzo di carta finalmente scrollò le spalle e si alzò allungò una mano e passò un dito sulla guancia della ragazza che scattò all'indietro poi depose il pezzo di carta sul tavolino e aspettò sorridendo gli occhi della ragazza si abbassarono lentamente molto lentamente la mano si mosse per prendere il pezzo di carta ma la mano di lui fu più rapida lo agguantò e se lo mise in tasca sempre sorridendo poi estrasse uno di quei tacquini con i fogli perforati scrisse qualcosa con una penna a sfera strappò il foglietto e lo depose sul tavolino quello poteva prenderlo lo prese lo lesse e lo ripose nella borsa e finalmente alzò la testa e gli sorrise un sorriso tirato e faticosissimo il giovanotto le accarezzò una mano poi si volse e se ne andò andò a chiudersi in una cabina telefonica compose il numero e parlò per un bel pezzo uscì chiamò un facchino e andò con lui al deposito ritirò una valigia color bianco ostrica e un sser dello stesso colore il facchino seguì il giovanotto all'esterno fino al parcheggio caricò le due valigie nel sedile posteriore della snella buic roadmaster di colore il tipo decapotabile a tetto grigio che non è decapotabile prese il denaro e si allontanò il giovanotto con la giacca sportiva il fazzoletto giallo salì al volante uscì a marcia indietro dal parcheggio si fermò per quel tanto che occorreva per mettersi un paio di occhiali neri e accendere una sigaretta e poi se ne andò trascrissi il numero della targa e torna in prestazione il turno seguente di lavoro durò tre ore la ragazza uscì dal caffè andò a leggere in sala d'aspetto ma non stava attenta a quel che leggeva continuava a voltare pagina all'indietro e a rileggere quel che aveva già letto in certi momenti non leggeva teneva la rivista in mano e guardava nel vuoto comperai la prima edizione di un giornale del pomeriggio mi cinascosi dietro e tenni d'occhio la ragazza meditando su quel che sapevo sapevo ben poco ma mi serviva a far passare il tempo il tipo che aveva parlato con lei doveva essere sceso dal treno perché aveva bagaglio poteva essere lo stesso treno e lui il passeggero che era sceso dalla vettura della ragazza l'atteggiamento di lei diceva ben chiaro che non desiderava averlo tra i piedi e quello di lui che era un vero peccato ma se lei dava un'occhiata al foglietto avrebbe cambiato idea e a quanto pareva l'aveva cambiata poiché era accaduto quando ormai erano scesi dal treno dove tutto avrebbe potuto svolgersi molto più tranquillamente si poteva dedurne che il giovanotto in treno non aveva quel foglietto a questo punto la ragazza si alzò di scatto andò all'edicola e tornò con un pacchetto di sigarette lo aprì e accese una sigaretta fumava in modo goffo come se non ci fosse abituata e il suo atteggiamento parve cambiare divenire più rozzo e duro come se cercasse di involgarirsi guardai l'orologio a muro le 10 e 47 mi rimisi a pensare il pezzo di carta sembrava un ritaglio di giornale la ragazza aveva tentato di afferrarlo ma lui non glielo aveva permesso poi aveva scritto qualcosa su un foglietto di carta bianca glielo aveva lasciato prendere e a quel punto lei aveva guardato il giovanotto con quel sorriso sforzato conclusione il maliardo sapeva qualcosa di lei e lei doveva fingere di divertirsi un mondo punto seguente il giovanotto sceso dal treno era uscito dalla stazione per andare a prendere la macchina oppure il ritaglio di giornale o qualcos'altro questo voleva dire che non temeva di vedersi sfuggire la ragazza e convalidava la teoria secondo la quale non le aveva mostrato tutto quello che aveva nella manica ma soltanto una parte poteva anche darsi che non fosse sicuro doveva controllare ma dopo averle mostrato l'asso se n'era andato con buic e bagaglio questo significava che non temeva più di perderla quel che li legava qualsiasi cosa fosse era abbastanza importante e duraturo alle 11 e 5 buttai via tutto e ricominciai da capo non arrivai a nulla alle 11 e 10 l'altoparlante annunciò che il 74 era in partenza dal binario numero 11 i passeggeri per santa ana ocean side del mare san diego potevano prendere posto un gruppo di gente uscì dalla sala d'aspetto compresa la ragazza un altro gruppo aveva già superato i cancelli aspettai che la ragazza passasse poi andai alla cabina telefonica inserì la moneta e composi il numero dell'ufficio di clyde amney rispose la signorina vermilia parla marlow c'è il signor amney dolente disse la signorina in modo gelido il signor amney è in tribunale posso riferire qualcosa sono in contatto e parto in treno per san diego o per qualche altra fermata intermedia però non so ancora quale grazie nient'altro oh sì il sole splende e l'amica non ha più fretta di squagliarsi di quanto non ne abbiate voi ha fatto colazione al caffè che ha una vetrata verso l'esterno è rimasta in sala d'aspetto insieme ad altre 150 persone e avrebbe potuto restarsene in treno senza farsi vedere da nessuno ho preso appunto grazie riferirò al signor amney alti presto non avete un'opinione precisa ce l'ho mi tenete nascosto qualcosa la voce cambiò di colpo qualcuno doveva essere uscito dall'ufficio sentite bello siete stato ingaggiato per uno scopo dateci sotto e lavorate sodo in questa città clyde amney conta parecchio e a me che importa bellissima io i conti me li faccio da solo incoraggiato potrei anche farli in compagnia incassate se lavorate altrimenti niente capito tesoro è la cosa più carina che mi abbiate detto arrivederci a presto sentite marlo aggiunse vermiglia con improvvisanzia non volevo essere scortese è una faccenda molto importante per clyde amney se non riesce rischia di perdere parecchio volevo soltanto tastare il terreno mi è piaciuto molto brividi al subcosciente ritelefono appena posso riattaccai barcai cancelli scesi la rampa di scale camminai finché non raggiunsi il binario numero 11 e salì in una vettura già piena di fumo di sigarette delizioso per la gola che vi lascia quasi sempre un polmone di scorta riempì la pipa e l'accesi e contribuì all'affumicamento generale il treno si mise in moto traballò all'infinito attraverso i depositi e i magazzini della periferia est di los angeles e fece la prima e fermata a santa ana la ragazza non scese e non scese né a ocean side né a del mar a san diego saltai a terra uscì di corsa e presi un taxi poi aspettai otto minuti fuori dalla vecchia stazione spagnola e finalmente arrivarono i facchini con le valigie poi uscì anche la ragazza non prese un taxi attraverso la strada svolto l'angolo entrò in un'auto rimessa e poco dopo tornò fuori con aria delusa niente patente niente macchina annolo avrebbe dovuto saperlo questa volta prese un taxi e il mio lo seguì l'autista mosse qualche obiezione per l'inseguimento roba che si legge nei romanzi qui a dago non lo si fa gli passai un verde e la copia fotostatica della mia licenza osservò con attenzione due oggetti poi alzò la testa e guardò dritto davanti a sé ok ma faccio un rapporto disse faccio rapporto all'ufficio di polizia da queste parti si usa così amico proprio il genere di città nella quale dovrei vivere dissi e avete perduto la merce ha svoltato a sinistra a due isolati da qui l'autista mi restituì la licenza perduto un corno rispose secondo voi a che serve il radiotelefono prese il ricevitore e ci parlò dentro all'incrocio di ash street con la provinciale 101 svoltò a sinistra e si infilò nel traffico a una tranquilla velocità di 60 gli guardavo la nuca tutto a meraviglia mi disse l'autista senza voltarsi quel verde è oltre al tassametro vero certamente e perché fila tutto a meraviglia la passeggera va a esmeralda a 20 chilometri da qui sulla riva dell'oceano destinazione a meno di cambiamenti durante il percorso e se ce ne sono me lo diranno un motel che si chiama arancio descansado solitario in spagnolo non preoccupatevi accidenti servizio completo dissi il servizio si paga signore qui non si regala niente siete messicano non ci chiamiamo così signore ci chiamiamo ispano americani nati e cresciuti in usa alcuni di noi non parlano neanche più lo spagnolo es gran lastima dissi una lengua mucissimo ermosa si voltò e sorrise tiene rason amico estoi muy bien de acuerdo proseguimmo verso torrens beach e oltre poi svoltammo verso la punta ogni tanto l'autista parlava a radiotelefono e si volse di nuovo non volete farvi vedere e l'altra autista non dirà la passeggera che è seguita non lo sa neanche lui perciò ve l'ho domandato superatelo e arrivate prima di loro un altro verde in più facile non mi vedrà neanche posso sfotterlo dopo davanti a una bottiglia di tecate si infilò in una stradina affiancheggiata da negozi poi la strada si allargò e le case su di un lato avevano l'aria lussuosa mentre quelle sull'altro lato avevano l'aria nuova e tutt'altro che a buon mercato la strada si restrinse da capo e ci trovammo in una zona con il limite di velocità 40 l'autista svoltò a destra serpeggiò per alcune viuzze strette non badò al segnale di stop e prima che avessi il tempo di rendermi conto di dove mi trovassi si infilò giù per un canyon in fondo si vedeva scintillare il pacifico oltre la lunga spiaggia con due torri di vedetta in metallo arrivato in fondo al canyon l'autista fece per svoltare oltre il cancello ma gli dissi di fermare un grande cancello verde disegnato a lettere d'oro indicava rancio descansado scomparite dissi voglio essere ben sicuro tornò sulla provinciale filò via rapido lungo il muro di gesso poi prese una stradina sinuosa e si fermò sopra di noi si elevava il tronco contorto di un ecoliptus scesi dal taxi inforcai un paio di occhiali scuri e tornai a piedi fino alla provinciale andai ad appoggiarmi contro una jeep rossa con il nome di un distributore di benzina dipinto in giallo un taxi scese dalla collina e varcò il cancello di rancio descansado passarono tre minuti il taxi tornò fuori vuoto e si avviò di nuovo verso la collina risali fino al mio taxi taxi numero 423 dissi coincide è la merce beh e adesso si aspetta com'è la sistemazione laggiù villette con spazio per la macchina una o due stanze ufficio in un villino sul davanti piuttosto caro in stagione ora è un periodo di calva da queste parti metà prezzo e posto a volontà aspettiamo cinque minuti poi vado dentro prenoto il posto mollo la valigia e cerco una macchina a nolo disse che era facile a esmeralda tre autorimesse noleggiavano macchine a giornata e a chilometraggio qualsiasi marca aspettammo cinque minuti erano passate da poco le tre mi sentivo la pancia così vuota che avrei rubato la zuppa al cane pagai l'autista lo guardai allontanarsi e mi capitolo 3 appoggiai educatamente un gomito sul banco e guardai in faccia il giovanotto dall'aria abbeata con la cravatta a farfalla a pallini guardai prima lui poi la ragazza seduta contro la parete laterale era un tipo aria aperta con trucco splendente e coda di cavallo sul biondo che le si rizzava nel retro del cranio aveva begli occhi grandi e lucidi che scintillavano ogni volta che si posavano sull'impiegato la ragazza agitò la coda di cavallo e dedicò un'occhiata anche a me signor marlow vi mostrerò quello che abbiamo libero disse gentilmente il giovane in seguito potrete decidere se desiderate trattenervi qui più o meno per quanto tempo pensate di trattenervi finché si ferma lei disse la ragazza vestita di blu è appena arrivata non so che nome usa il giovane e la ragazza si guardarono i loro visi avevano la stessa espressione di sospetto misto a curiosità è una scena che si può recitare in centinaia di modi ma questo per me era nuovo non avrebbe funzionato in nessun albergo di nessun'altra città al mondo forse qui avrebbe funzionato soprattutto perché non me ne importava un accidente non vi va genio vero domandai il giovane scosse la testa leggermente beh se non altro siete molto franco sono stanco di fare il furbo non ne posso più ha notato l'anello oh no non l'ho notato guardò la ragazza che scosse la testa senza levarmi gli occhi di dosso niente fede dissi niente più tutto finito dopo tanti anni all'inferno tutto l'ho seguita da beh non importa non vuole neanche parlarmi e che ci faccio io qui la figura dell'idiota mi voltai e mi soffiai rapidamente il naso mi stavano a sentire meglio che me ne vada in un altro posto dissi allontanandomi volete fare la pace e lei non ne vuole sapere disse sottovoce la ragazza sì vi capisco disse il giovanotto ma sapete com'è signor marlow gli alberghi devono sempre stare molto attenti queste situazioni possono portare a conseguenze spiacevoli persino a delitti delitti lo guardai sbalordito ma santo iddio che idea assurda e spaventosa si appoggiò con i gomiti al banco signor marlow ditemi che cosa vorreste fare starle vicino nel caso abbia bisogno di me non le parlerei neanche non andrei neanche a bussare alla sua porta ma lei saprebbe che sono qui e saprebbe perché ci sono la aspetterò la aspetterò sempre alla ragazza piaceva moltissimo ero dentro fino al collo nella lagna resi fiato e mi lanciai con il pezzo forte e poi non so il perché ma il tipo che l'ha accompagnata qui non mi piace affatto nessuno l'ha accompagnata qui soltanto l'autista del taxi disse l'impiegato ma sapeva molto bene quel che volevo dire la ragazza quasi sorrise jack non parla di questo parla della prenotazione jack disse lucille c'ero arrivato anch'io non sono poi così tardo all'improvviso levò di sotto il banco una scheda e me la mise davanti una scheda di registrazione nell'angolo in diagonale c'era scritto il nome larry mitchell con una calligrafia molto diversa nello spazio giusto signorina betty mayfield west caten new york poi nell'angolo superiore sinistro nella stessa calligrafia con la quale era scritto larry mitchell una data un'ora un prezzo e un numero siete molto gentile dissi e così ha ripreso il nome di ragazza naturalmente è legale qualsiasi nome è legale se non c'è l'intenzione di frodare vorreste l'alloggio accanto al suo spalancai gli occhi non escludo che luccicassero un poco è impossibile metterci più energia perché luccicassero sapete dissi siete molto gentile forse è meglio di no non ho di mettervi nei guai ma non potete esserne certo se combinassi qualcosa sareste voi a rimetterci non importa disse mi servirebbe di lezione ma mi sembrate a posto non ditelo a nessuno e basta prese la penna e me la porse ma poi vedendo che avevo già in mano la mia pelican la mise nuovamente sul banco sorrisi io sono abituato a scrivere con la mia penna con le altre non mi ci trovo firmai col mio nome e misi l'indirizzo della 61esima strada di new york jack guardò la scheda è vicino a central park vero domandò distrattamente tre isolati e mezzo risposi tra lexington e la terza avenue annui sapeva dov'era sistemato prese una chiave vorrei lasciare qui la valigia dissi e andare a mangiare qualcosa poi vorrei una macchina a nolo se è possibile potreste far mettere la valigia nella mia camera lo avrebbe fatto subito mi accompagnò fuori e indicò oltre un gruppo di alberi le villette erano tutte bianche col tetto verde avevano un terrazzino con ringhiera mi indicò il mio attraverso gli alberi lo ringraziai fece per tornare indietro e allora dissi sentite c'è ancora una cosa se lo viene a sapere potrebbe andarsene jack sorrise naturale ma non possiamo farci niente signor marlow molti ospiti si trattengono soltanto una notte o due a parte l'estate in questo periodo dell'anno non abbiamo ospiti permanenti entrò nel villino dell'ufficio e sentì che la ragazza gli diceva è piuttosto carino jack ma non avresti dovuto sentì anche la risposta quel michel l'odio anche se amico del proprietario tornavo 20 minuti dopo con la mia auto a noleggio capitolo 4 l'alloggio era decente il solito divanetto due poltrone e due sedie una piccola scrivania contro la parete di fronte un armadio a ripostiglio il bagno con una grande vasca e luce al neon sopra lo specchio del lavandino una piccola cucina con frigorifero e fornello elettrico a tre piastre nello scaffale accanto all'acquaio piatti e utensili tirai fuori dei cubetti di ghiaccio e mi preparai a bere con la bottiglia che tolsi dalla valigia andai a sedere con il bicchiere in mano lasciai le finestre chiuse e le veneziane abbassate ascoltavo non sentì nulla poi lo sciacquio del bagno vicino era in casa finì di bere fumai una sigaretta ed esaminai la stufetta elettrica sulla parete divisoria tra i due alloggi erano due lampade lunghe e bianche in una scatola di metallo non doveva riscaldare molto ma nell'armadio c'era un ventilatore ad aria calda con tripla spina da 220 volts feci scivolare via la griglia cromata della stufa elettrica e svitai le lampade levai dalla valigia uno stetoscopio lo poggiai al metallo e ascoltai se contro l'altra parete c'era una stufetta elettrica come la mia e c'era quasi sicuramente soltanto un pannello di metallo e un minimo di materiale isolante dividevano le due camere per qualche minuto non sentì nulla poi sentì comporre un numero al telefono la ricezione era perfetta una voce di donna disse esmeralda 41499 per favore era una voce fredda contenuta dai toni medi e quasi priva di espressione a parte la stanchezza dopo aver seguito la ragazza per tutte quelle ore sentivo la sua voce per la prima volta ci fu una lunga pausa poi il signor le rimiccia il per favore un'altra pausa ma più breve poi parla betty mayfield dal rancio descansado pronunciava male la di descansado poi ho detto betty mayfield non fate lo stupido per piacere come devo spiegarvelo ascoltò poi disse appartamento 12 c dovreste saperlo avete prenotato voi oh capisco va bene allora riattaccò silenzio silenzio assoluto poi la voce nella camera accanto disse lentamente e tristemente betty mayfield betty mayfield betty mayfield povera betty una volta eri una brava ragazza tanto tempo fa sedevo sul pavimento su uno dei cuscini a righe con la schiena rivolta verso il muro mi alzai con cautela deposi lo stetoscopio sul cuscino e andai a stendermi sul divano letto tra qualche tempo sarebbe arrivato lei lo aspettava perché vi era costretta era stata costretta a venire qui per la stessa ragione quella ragione volevo conoscerla anche se ciò non faceva più parte del mio incarico probabilmente lui portava scarpe con suola di gomma perché non sentì nulla finché la cicala non suonò alla porta accanto e non era arrivato in automobile alla villetta mi sedetti di nuovo a terra e rimisi in funzione lo stetoscopio la ragazza aprì la porta lui entrò e mi parve di vedere il sorriso sulla sua faccia quando le disse salve betty betty mayfield vero mi piace era il mio nome una volta chiusa la porta l'uomo ridacchiò avete fatto bene a cambiarlo ma come avete fatto con le iniziali sulle valigie non mi piaceva affatto la sua voce era acuta e allegra quasi spumeggiante di buon umore non aveva proprio una sfumatura sarcastica ma ci arrivava molto vicino mi legava i denti probabilmente è la prima cosa che avete notato disse lei in tono secco no bimba la prima cosa che ho notato siete voi la seconda il segno della fede matrimoniale ma niente anello le iniziali sono state soltanto la terza cosa non chiamatemi bimba lurido ricattatore sibilò lei con ira improvvisa quello non mi andava proprio a fagiolo sarò anche un ricattatore tesoro ma altro risolino ipocrita costo caro la ragazza si mosse probabilmente per allontanarsi da lui volete bere vedo che vi siete portato la bottiglia potrei diventare lascivo c'è una sola cosa in voi che mi fa paura signor michel disse freddamente la ragazza siete un presuntuoso fanfarone parlate troppo e vi compiacete troppo di voi stesso sarà meglio vedere di capirci esmeralda mi piace ci sono già stata io ho sempre desiderato di tornarci è soltanto una sfortuna pura e semplice che ci abitiate voi e che foste sul mio treno ed è stata una sfortuna ancora peggiore che mi abbiate riconosciuta sfortuna e basta niente altro una bella fortuna per me tesoro commentò l'uomo in tono strascicato può darsi disse la ragazza se non esagerate e se esagerate rischia di scoppiarvi in faccia ci fu un breve silenzio mi sembrava di vederli mentre si scrutavano a vicenda il sorriso dell'uomo forse diventava nervoso ma non molto non ho altro da fare che prendere il telefono e chiamare i giornali di san diego disse michel con calma volete pubblicità ci penso io sono venuta qui per evitarla disse lei amaramente l'uomo rise sì e siete qui grazie a un giudice rimbambito e grazie a una legge che esiste non solo stato dell'unione ho potuto controllarlo in base al quale si consente al giudice di respingere il verdetto dei giurati avete cambiato nome due volte se la storia viene fuori qui è proprio una gran bella storia tesoro dovrete cambiare nome un'altra volta e ricominciare a viaggiare ancora alla fine stanca vero sono qui per evitare tutto questo quanto volete mi rendo conto che sarà solo un anticipo ho parlato forse di denaro ne parlerete e non alzate la voce la villetta è tutta vostra tesoro prima di entrare ho fatto il giro porte chiuse finestre sbarrate tende abbassate niente macchina se siete nervosa posso informarmi in ufficio ho un amico da queste parti sono amici che dovreste conoscere perché potrebbero rendervi piacevole la vita socialmente in questa città è difficile aprirsi un barco e quando si sta fuori a guardare è una città incredibilmente noiosa e voi come ci siete entrato signor michel il mio genitore è un pezzo grosso a toronto non si va d'accordo e lui non mi vuole tra i piedi ma è sempre il genitore e costa parecchio paga perché gli resti fuori dai piedi la ragazza non rispose i passi si allontanarono la sentì muoversi in cucina poi il rumore del ghiaccio quando viene tolto dai vassoi dei cubetti l'acqua scorreva poi i passi tornarono indietro berrei qualcosa volentieri disse forse sono stata scortese sono stanca volete un whisky anche voi oh sì osservò michel in tono apacato siete stanca una pausa beh ci rivedremo quando non sarete più stanca facciamo stasera verso le sette e mezzo alla glass room vengo a prendervi un posto simpatico per andarci a pranzo si balla tranquillo ben frequentato se significa ancora qualcosa fa parte del beach club non vi danno un tavolo se non vi conoscono là sono tra amici è costoso abbastanza già mi ricordate una cosa finché non mi arriva l'assegno mensile potresti allungarmi un paio di dollari rise sono sorpreso di me stesso ho parlato di denaro visto un paio di dollari un paio di centinaia di dollari andrebbero meglio 60 tutto quel che ho finché non aprirò un conto non incasterò dei traveler checks potete farlo all'ufficio bimba bene eccone 50 non vorrei viziarvi signor michel perché non mi chiami larry e non sei più carina con me devo proprio la voce era cambiata aveva una sfumatura invitante mi parve di vedere un lento sorriso di compiacimento apparire sulla faccia dell'uomo poi dal silenzio immaginai che l'aveva agguantata e lei glielo aveva permesso quando parlo di nuovo la voce sono affievolita adesso basta larry si gentile va via alle sette e mezzo sarò pronta ancora uno della staffa un momento dopo la porta si aprì e michel disse qualcosa che non capì mi alzai andai alla finestra per dare un'occhiata prudente attraverso le listelle della veneziana un lampione si accese su uno degli alti alberi vidi michel incamminarsi lungo il pendio e scomparire tornai al pannello radiante e per un poco non sentì nulla non sapevo neanche che cosa cercassi di sentire ma subito dopo lo capì si muoveva rapidamente avanti e indietro sentì il rumore dei cassetti che si aprivano lo scatto di una serratura il lieve tonfo di un coperchio sollevato e appoggiato contro qualcosa si preparava a partire avvitai di nuovo le lunghe lampade nel pannello sistemai la griglia al suo posto e riposi lo stetoscopio nella valigia incominciava a far freddo indossai la giacca e rimasi in piedi in mezzo alla camera era quasi buio e non avevo acceso la luce stavo fermo in piedi a pensare potevo andare al telefono e fare il mio rapporto ma correvo il rischio che nel frattempo la ragazza chiamasse un taxi e se ne andasse a prendere un altro treno un aereo verso un'altra destinazione poteva andare ovunque volesse ma ci sarebbe sempre stato uno come me ad aspettarla all'arrivo se davvero era così importante per quella gente di washington ci sarebbero sempre stato un larry mitchell o un giornalista con una buona memoria ci sarebbero sempre stati quei piccoli particolari che non quadravano ci sarebbe sempre stato qualcuno che li avrebbe notati non si può fuggire da noi stessi il mio era un lavoro meschino basso per gente che non mi era simpatica ma sei disponibile per questo lavoro amico mio loro pagano il conto tu scavi nel fango questa volta però mi sembrava di sentirne il sapore la ragazza non aveva l'aspetto di un'avventuriera e neanche di una criminale questo significava soltanto che avrebbe potuto esserlo veramente con molto maggior successo di quanto non le sarebbe stato possibile in qualsiasi altro modo capitolo 5 apri la porta e mi avvicinai a quella accanto premetti la cicala nell'interno nessuno si mosse non senti il rumore di passi poi ci fu lo scatto della catena inserita nel solco e la porta si aprì di qualche centimetro sul vuoto e sulla luce la voce da dietro la porta domandò chi è potete prestarmi un poco di zucchero non ne ho è un paio di dollari finché non mi arriva l'assegno mensile di nuovo silenzio poi la porta si aprì quanto lo permetteva la catena e il viso apparve nell'apertura occhi e cupi mi guardarono sembravano pozze d'oscurità il riflettore dall'alto dell'albero li illuminava diagonalmente chi siete il vostro vicino stavo dormendo alcune voci mi hanno svegliato le voci dicevano strane parole sono rimasto perplesso andate a sentirvi perplesso da un'altra parte volentieri signora king o scusate signorina mayfield ma non sono del tutto convinto che lo desiderate veramente non si mosse e gli occhi non cedettero scossi una sigaretta dal pacchetto e cercai di sollevare il coperchio del mio accendino e di far girare la rotellina si dovrebbe riuscirci con una mano sola è un procedimento un poco complicato alla fine ci riuscì accesi la sigaretta sbadigliai e soffiai fuori il fumo dal naso che cosa siete disposto a fare domandò la signorina mayfield stando ai regolamenti dovrei telefonare a los angeles e dire tutto a chi mi ha mandato ma non è escluso che non mi lasci convincere a non farlo mio dio esclamò con violenza due nello stesso pomeriggio sono ben fortunata non lo so dissi non so niente ho la sensazione che mi abbiano preso per le falde ma non ne sono convinto un momento mi richiuse la porta in faccia non durò a lungo la catena scivolò nel solco all'interno e la porta si aprì entrai lentamente la ragazza indietreggiò allontanandosi da me e che cosa avete sentito e chiudete la porta per favore la chiusi con la spalla e mi ci appoggiai il finale di una conversazione piuttosto feroce le pareti sono sottili come uno scenario lavorate in teatro niente spettacolo il mio ramo è meno vistoso mi chiamo philip marlow mi avete già visto davvero si allontanò da me a brevi passi cauti e si avvicinò alla valigia aperta si appoggiò al bracciolo di una poltrona dove union station a los angeles abbiamo aspettato fra un treno e l'altro tutti e due mi occupavo di voi mi interessava quel che succedeva tra voi e il signor michel si chiama così vero non ho sentito niente non ho visto molto perché ero fuori dal caffè e perché ve ne interessavate splendido esemplare di quello che so io ve l'ho già detto in parte l'altro aspetto interessante è il vostro cambiamento dopo aver parlato con lui vi ho osservata mentre ci lavoravate un lavoro accurato vi siete trasformata in una qualsiasi puttanella moderna vissutissime astuta perché è prima che cos'ero una ragazza carina tranquilla e ben educata questa era la parte che recitavo l'altra è la mia vera personalità alla quale va aggiunta ancora qualcosa mi puntò contro una piccola automatica la guardai pistole dissi non mettetemi paura con le pistole ci ho vissuto insieme tutta la vita ho messo i denti con una vecchia derringer a un colpo solo di quelle che si portavano dietro i giocatori sui battelli fluviali quando sono cresciuto ho preso il diploma con un fucile leggero da tiro al bersaglio poi un 303 e così via una volta ho fatto centro a 90 metri se non lo sapete vi dirò che il bersaglio a quella distanza sembra un francobollo una carriera affascinante le pistole non concludono mai niente dissi sono soltanto un sipario rapido su un secondo atto scadente sorrise e passò la rivoltella nella sinistra con la destra afferrò la camicetta all'altezza del collo e con un rapido gesto deciso la strappò fino in fondo poi disse ma non c'è nessuna fretta volto la pistola così la rimise nella destra ma tenendola per la canna mi colpisco allo zicomo con l'impugnatura e mi produco una bella maccatura e poi dissi rimettete la pistola nella posizione giusta togliete la sicura premete il grilletto intanto io ottengo la comunicazione con il giornale della sera annunciando la vostra presenza in città non arrivereste a metà della camera incrociai le gambe gli allungai all'indietro per prendere il portacenere verde sul tavolino accanto alla sedia lo misi in equilibrio sul ginocchio e infilai la sigaretta che stavo fumando tra il primo e il secondo dito della destra non mi muoverei proprio per niente ne starei seduto qui comodo e tranquillo ma leggermente morto disse so sparare e questi non sono 900 metri benissimo poi provate a dar da bere alla polizia la vostra storiella che ho tentato di assalirvi e che siete stata costretta a difendervi gettò la pistola nella valigia e si misi a ridere era una risata genuina che risuonò nella stanza con un tono di vera allegria spiacente disse voi l'ha seduto con le gambe accavallate un buco nella testa e io che spiego che vi ho dovuto uccidere per difendere il mio onore un'idea davvero divertente si lasciò cadere nella poltrona e si chinò in avanti con il mento nella mano a coppa il gomito appoggiato al ginocchio e il viso tirato e stanco i capelli di un rosso scuro che lo incroniciavano erano fin troppo folti tanto da farlo apparire più piccolo di quanto non fosse signor marlow ditemi che cosa volete fare di me o forse dovrei dire invece che cosa posso fare io per convincervi a non fare assolutamente niente chi è ilion or king che cosa rappresenta washington perché ha cambiato nome e ha tolto le iniziali dalle valigie potreste dirmi queste cosette e altre ancora ma probabilmente non me le direte oh non saprei il facchino ha tolto le iniziali dalle mie valigie gli ho detto che uscivo da un matrimonio molto infelice che ero divorziata e avevo deciso di riprendere il nome della ragazza che è elisabeth o betty mayfield potrebbe essere tutto vero non vi sembra giusto ma non spiega mitchell si appoggiò all'indietro gli occhi rimasero ben attenti una conoscenza qualsiasi era sullo stesso treno a noi ma è arrivato qui con la sua macchina vi ha prenotato la camera e non va a genio a quelli di qui ma a quanto sembra è amico di gente molto influente una conoscenza fatta in treno su una nave a volte si sviluppa molto rapidamente a quanto pare gli avete perfino sganciato un prestito un lavoretto rapido e ho avuto l'impressione che non vi fosse follemente simpatico e con ciò che significa ma se proprio volete sapere la verità sono pazza di lui voltò la mano e si mise a esaminarla chi vi ha ingaggiato signor marlow e a che scopo un legale di los angeles secondo le istruzioni prevenutogli da washington dovevo seguirvi e sapere dove vi sistemavate e ora siete pronta a ripartire dovrò ricominciare tutto da capo ma ora so che ci siete disse in tono astuto e così il vostro lavoro diventa molto più faticoso suppongo che siate una specie di investigatore privato le dissi che lo ero avevo già spento la sigaretta deposi il portacenere sul tavolino e mi alzai in piedi più faticoso per me ma come me ce ne sono molti altri signorina mayfield oh non ne dubito e tutti uomini proprio tanto simpatici alcuni di loro sono addirittura abbastanza puliti la polizia non vi ricerca vi avrebbero presa molto facilmente si sapeva del vostro treno o perfino ricevuto una vostra fotografia con descrizione ma michel può costringervi a fare quel che vuole e non vuole soltanto denaro mi parve che arrossisse lievemente ma la luce non la colpiva dritta sul viso può darsi disse e può anche darsi che non mi dispiace vi dispiace si alzò di colpo e mi venne vicino siete in un ramo dove non si guadagnano immense fortune vero a noi ora stavamo molto vicini e allora quanto volete per uscire di qui e dimenticare di avermi vista posso uscire gratis e per quanto riguarda il resto devo fare rapporto quanto lo disse in tono deciso posso pagare anche se è salato si chiama onorario vero lo chiamate così una parola molto più simpatica di ricatto non significa la stessa cosa potrebbe credetemi potrebbe proprio anche per certi avvocati e dottori il caso vuole che ne sia al corrente sfortuna nera e neanche per sogno segugio sono la donna più fortunata del mondo sono viva sto dall'altra parte attenta a come parlate ma guarda guarda esclamò in tono ironico un segugio provvisto di scrupoli andate a raccontarlo ai gabbiani il ragazzo avanti signor marlow andate a fare quella telefonata alla quale tenete tanto non vi trattengo si avviò verso la porta ma la afferrai per il polso e la costrinzi a voltarsi la camicetta strappata non rilevava sensazionali nudità ma soltanto una parte del reggiseno è un pezzo di pelle nuda sulla spiaggia si vede molto di più ma non attraverso una camicetta strappata probabilmente mi si leggeva in faccia perché sollevò la mano ad artiglio per graffiarmi non sono una cagna in calore disse a denti stretti levatemi le zampe di dosso presi l'altro polso e la tirai più vicina cercò di piantarmi un ginocchio contro linguine ma era già troppo vicina poi si lasciò andare piegò la testa in avanti e chiuse gli occhi le labbra si socchiusero come una piega sardonica era una serata freddina forse in riva al mare faceva addirittura freddo ma non faceva freddo dove mi trovavo io dopo un poco disse con voce languida che doveva vestirsi per uscire feci dopo un'altra pausa disse che era passato molto tempo da quando un uomo le aveva sganciato il reggiseno ci voltammo lentamente verso uno dei due divanetti coperti di stoffa rosa e azzurra le strane piccole cose che si notano aveva gli occhi aperti e curiosi li scortai una alla volta perché stavo vicino per vederli tutti e due contemporaneamente una bella coppia tesoro disse sottovoce sei delizioso ma davvero non ne ho il tempo le chiusi la bocca una chiave si infilò nella serratura all'esterno ma non me ne accorsi la serratura scattò la porta si aprì e il signor larry mitchell entrò ci staccammo mi voltai e lui mi guardò con occhi sommacchiosi era alto un metro e 84 solido e nervoso ho pensato di dare un'occhiata in ufficio disse in tono vago la 12b è stata affittata nel pomeriggio quasi subito dopo questa mi sono incuriosito perché in questa stagione ci sono molte camere libere e così ho preso in prestito l'altra chiave chi sarebbe questa costata di manzo bimba ha già detto che non vuole essere chiamata bimba non capì se questo gli diceva qualcosa fece dondolare pian piano il pugno contro la coscia la ragazza disse è un investigatore privato e si chiama marlow qualcuno lo ha incaricato di seguirmi seguirti così da vicino a quanto pare disturbo dei rapporti di amicizia molto intimi la ragazza si allontanò da me e andò a prendere la pistola dalla valigia parlavamo di denaro gli disse sempre un errore disse mitchell aveva il viso accaldato e gli occhi luccicanti soprattutto in quella posizione tesoro la pistola non ti serve mi si gettò addosso con un diretto rapido e ben calibrato entrai come un lampo e mi riuscì ma il destro non era tutto ci sapeva fare anche di sinistro avrei dovuto accorgermene alla union station di los angeles un buon osservatore non trascura neanche un particolare lo mancai di destro e lui non mi mancò di sinistro la testa mi scattò all'indietro perdetti l'equilibrio quel tanto che gli ci volle per balzare di lato e sfilare la pistola dalla mano della ragazza la minuscola arma parve danzare nell'aria e finirgli nella sinistra adesso calma disse lo so che suona male ma potrei pestarti e cavarmela credimi potrei proprio ok dissi con voce spessa per 50 al giorno non mi faccio impallinare costa 75 girati mi divertirebbe guardare nel tuo portafogli mi lanciai nonostante la pistola soltanto il panico lo avrebbe portato a sparare ma giocava in casa e non aveva ragione di spaventarsi forse la ragazza non era altrettanto sicura con la coda dell'occhio vidi che afferrava la bottiglia di whisky presi michel sul lato del collo la bocca si sganciò mi colpì da qualche parte ma non era un granché il mio punto era migliore ma non vinse il concorso perché in quel momento una mula dell'esercito mi colpì in pieno sul cranio me ne andai roteando sopra un mare nero ed esplosi in un'immensa fiammata capitolo 6 la prima sensazione fu che se qualcuno mi avesse rivolto la parola in tono sgarbato mi sarei messo a piangere la seconda che la stanza era troppo piccola per la mia testa la parte anteriore si trovava una grande distanza da quella posteriore i lati erano lontanissimi l'uno dall'altro c'è nonostante il dolore mi pulsava da una tempia all'altra al giorno d'oggi le distanze non significano nulla la terza sensazione era come un suono non molto lontano una specie di tintinio e un altro più lontano una specie di squittio la quarta e ultima sensazione che dell'acqua ghiacciata mi scorresse lungo la schiena la coperta del divanetto mi dimostrò che giacevo a faccia in avanti mi rigirai lentamente sedetti e il suono tintinnante cessò di colpo con un tonfo era un asciugamani annodato pieno di cubetti di ghiaccio qualcuno che mi amava follemente me lo aveva messo sulla nuca qualcuno che mi amava meno mi aveva pestato la nuca poteva anche trattarsi della stessa persona cambiamento d'umore mi alzai in piedi e mi tastai il fianco il portafogli c'era nella tasca sinistra ma aperto ci guardai dentro non mancava niente aveva ancora i suoi segreti ma ormai non valevano molto la mia valigia era aperta ai piedi del divano letto e così ero tornato a casa nel mio quartier generale quella specie di squittio continuava raggiunsi uno specchio e mi guardai la faccia sembrava abbastanza conosciuta andai alla porta e la apri lo squittio era sempre più forte di fronte a me appoggiato alla ringhiera c'era un uomo di statura media grassoccio e il grasso non aveva l'aria molliccia portava gli occhiali e larghe orecchie gli spuntavano sotto il cappello di feltro grigio il bavero del cappotto era sollevato le mani erano nella tasca del cappotto i capelli che si sorgevano erano grigio incrociatore aveva un aspetto solido come capita a molti uomini grassi la luce che usciva dalla porta aperta alle mie spalle si rifletteva negli occhiali aveva in bocca una piccola pipa di quelle che sembrano un ossetto per mastini ero ancora intontito ma qualcosa in lui mi disturbava bella serata disse serve niente cerco un tale non siete lui sono solo bene disse grazie mi voltò le spalle e si appoggiò con la pancia alla ringhiera seguì il ronzio metallico lungo il terrazzino la porta del 12 c era spalancata le luci accese il rumore proveniva dall'aspirapolvere manovrato da una donna con un grebiure verde entrai e mi guardai attorno la donna staccò l'aspirapolvere mi scrutò volete qualcosa dov'è la signorina mayfield scosse la testa la signorina che abitava qui disse oh quella è partita mezz'ora fa rimise in azione l'aspirapolvere è meglio se domandate in ufficio urlò nel frastuono questo appartamento è libero indietreggiai per chiudere la porta seguì il nero serpentello del filo fino alla parete stacca la spina la donna del grembiule verde mi squadrò furente mi avvicinai e le passai un dollaro divenne meno furente voglio soltanto telefonare dissi non c'è telefono nella vostra stanza smettete di pensare dissi per un dollaro andai al telefono e sollevai ricevitore una voce di donna disse direzione prego parla marlow sono molto infelice come oh sì signor marlow che cosa possiamo fare per voi se n'è andata non sono neanche riuscito a parlarle oh sono dolente signor marlow lo sembrava davvero sì è partita non siamo riusciti ha detto almeno per dove ha pagato e se n'è andata signore all'improvviso senza lasciare indirizzo con michel davvero dolente signore non ho visto nessuno con lei qualcosa avrete pur visto come se n'è andata in taxi purtroppo va bene grazie riattaccai e torna nella mia camera l'uomo grassoccio di media statura sedeva comodamente in una poltrona con le gambe accavallate potreste dirmi dov'è larry michel larry michel ci pensai attentamente lo conosco aprì il portafogli e ne trasse un biglietto sisso in piedi e venne apporgermelo il biglietto diceva gobel e green investigatori pradence building kansas city missouri un lavoro interessante signor gobel non fate lo spiritoso con me ragazzino mi irrito molto facilmente bene vediamo come siete quando vi irritate che fate vi mordete i baffi no no baffi stupido potreste farveli crescere sono disposto ad aspettare questa volta si alzò in piedi con maggiore rapidità si guardò in pugno una pistola gli apparve in mano all'improvviso mai stato pestato con la pistola idiota sgancia squagliati mi scocci i fessi mi scocciano sempre la mano gli tremava diventò rosso in faccia poi ripose la pistola nella fondina e arrancò verso la porta con te non finisce qui ringhiò di sopra la spalla lasciai perdere non valeva la pena di impegnarsi capitolo 7 dopo un poco scesi all'ufficio beh non mi è andata bene dissi uno di voi due per caso conosce l'autista del tassi che l'ha portata via joy arms rispose pronta la ragazza può darsi che lo troviate al posteggio a metà dei grand street oppure in ufficio un ragazzo proprio simpatico una volta mi faceva la corte bel colpo ringhiò l'impiegato oh senti non è poi tanto male infatti sospirò il giovanotto un disgraziato lavora venti ore al giorno cercando di mettere insieme quel che occorre per comprare una casa e quando finalmente ci riesce la ragazza intanto si è divertita con altri 15 idioti no questa ragazza no dissi scherza ogni volta che vi guarda si illumina tutta me ne andai e lasciai occupati a sorridersi a vicenda come la maggior parte delle piccole città esmeralda possiede una strada principale dalla quale si diramano in tutte le direzioni le strade più piccole con gli edifici commerciali all'inizio che poi lasciano il posto quasi impercettibilmente alle case di abitazione ma diversamente da quasi tutte le cittadine della california non aveva facciate pacchiane cartelloni piccanti ristoranti con sé parè distributori automatici e sale da biliardo e niente angoli di strada arredati da fannulloni duri i negozi di grand street erano o vecchi e piccoli ma non squallidi oppure ben rimodernati con grandi vetrate e variopinte modeste in segni al neon a esmeralda non tutti erano ricchi non tutti erano felici non tutti possedevano una cadillac o una jaguar o una relay ma il livello di vita era piuttosto alto e appariva evidente e i negozi che vedevano roba di lusso avevano l'aria costosa ed elegante più di quelli di beverly hills ma molto meno sgargianti c'era anche un'altra piccola differenza a esmeralda tutto quello che era vecchio era anche pulito e a volte anche originale nelle altre piccole città di solito quello che è vecchio è anche decrepito fermai a metà dell'isolato quasi di fronte all'ufficio del telefono naturalmente era chiuso ma dalla parte dell'ingresso un po indietro della strada scorsi due cabine telefoniche verde scuro simili a garitte di fronte c'era un taxi fermo diagonalmente sulle righe rosse l'autista dai capelli grigi leggeva un giornale attraversai la strada e mi avvicinai siete john arms scosse la testa torna tra poco volete un taxi no grazie mi allontanai e andai a guardare una vetrina c'era una camicia sportiva a quadri gialli e marrone che mi ricordò larry mitchell cinture di cuoio oscuro giacche di tweed cravate due o tre e camicia in armonia sistemate con larghezza di vedute sulla facciata lessi il nome di un atleta un tempo famoso intagliato e dipinto sul legno un telefono frillò l'autista scese dal taxi e attraversò la strada per andare a rispondere parlò riattaccò salì in macchina e se ne andò la strada rimase completamente deserta per un minuto poi passarono un paio di automobili poi un bel ragazzo di colore molto ben vestito con la sua ragazza tirata al lucido vennero avanti lungo l'isolato guardando le vetrine e chiacchierando un messicano in uniforme verde di fattorino arrivò con la chrysler di qualcuno ma per quel che ne sapevo poteva anche essere sua entrò in un negozio e ne uscì con una stecca di sigarette poi se ne andò nella direzione della quale era venuto un altro taxi nocciola con la scritta esmeralda cab company girò all'angolo e andò a fermarsi sopra le righe rosse ne scese un tipo robusto con occhiali spessi andò al telefono parlò poi si rimisi al volante e tirò fuori una rivista da dietro lo specchietto retrovisivo mi avvicinai lentamente decisi che era lui non portava giacca e aveva le maniche della camicia rimboccate fin sopra il gomito benché non fosse davvero una temperatura da modello bikini già sono joe arms si cacciò una paglia nell'imboccatura e l'accese lucille del rancio descansado mi ha detto che forse potreste darmi una piccola informazione mi appoggiai al taxi e sfoderai il largo sorriso cordiale tanto valeva a prendere a calci la carrozzeria e informazione su che questa sera in una delle villette siete andato a prendere una persona numero 12 c una ragazza piuttosto alta con capelli rossi e forme gradevoli si chiama betty mayfield ma probabilmente questo non ve l'ha detto di solito mi dicono dove vogliono andare strano no soffiò una bordata di fumo lo guardò schiacciarsi contro il parabrezza e poi diffondersi nel taxi beh che volete la mia ragazza mi ha mollato una piccola discussione tutta colpa mia voglio domandarle scusa la ragazza avrà pure una casa da qualche parte molto lontano da qui scosse la cenere della sigaretta con il mignolo senza togliersela di bocca l'idea potrebbe essere stata di squagliarsela l'idea potrebbe essere stata di non farvi sapere dove va l'idea potrebbe essere che siete fortunato in questa città pizzicano facilmente due che fanno il nido provvisorio in un albergo ammetto che ha da essere molto fragrante l'idea potrebbe essere che sono un bugiardo dissi e le vai di tasca uno dei miei biglietti lo lesse e me lo restituì meglio disse va meglio ma è contro il regolamento della compagnia non guido la bagnarola per allenarmi la muscolatura un verde potrebbe interessare o è anche questo contrario al regolamento il mio genitore è il proprietario della compagnia gli seccherebbe parecchio se sapesse che incasso non che il denaro non mi piaccia il telefono trillò scivolò dal taxi e raggiunse l'apparecchio e non più di tre passi rimasi dovero a mordermi il labbro parlò tornò salì in macchina e sedette al volante tutto in un movimento solo tocca filare disse dolente sono in ritardo appena tornato da del mar quello delle 7 47 per los angeles si ferma un momento la gente di qui parte quasi sempre da quella stazione mise in moto il motore e si sporse dal finestrino per sputare la sigaretta dissi grazie di che cosa e se ne andò guardai di nuovo l'orologio il tempo e la distanza coincidevano 20 chilometri fino a del mar ci voleva più o meno un'ora per trasportare qualcuno a del mar sganciarlo o sganciarla alla stazione e tornare indietro me lo aveva detto a modo suo sarebbe stato inutile dirmelo se non significava qualcosa lo guardai allontanarsi poi attraversai la strada diretto alle cabine davanti all'ufficio del telefono lasciai aperta la porta misi la moneta e feci girare il grosso disco una telefonata a carico del ricevente west los angeles prego diedi il numero prenotazione per il signor clyde amney il mio nome è marlow chiamo dalla cabina pubblica di esmeralda 4 2 6 7 3 venne all'apparecchio in uno spazio di molto tempo più breve di quel che mi ci era voluto per dire tutto bene all'apparecchio dritto come un fuso marlow era ora che vi faceste vivo bene sentiamo sono a san diego l'ho perduta se l'è squagliata mentre facevo un pisolino lo sapevo di aver scelto proprio quello giusto commentò amney in tono sgradevole non è brutta come sembra signor amney ho un'idea approssimativa di dove è andata le idee approssimative a me non bastano quando assumo qualcuno mi aspetto di ricevere esattamente quello che ho richiesto e come sarebbe a dire un'idea approssimativa signor amney per caso non potreste darmi un'idea un poco più precisa di quel che c'è in ballo ho accettato senza tanti discorsi perché si trattava di un treno in arrivo la vostra segretaria ha avuto molto contegno ma ha dato poche informazioni signor amney volete che il lavoro lo faccia volentieri o no pensavo che la signorina vermilia vi avesse detto tutto quanto è necessario farvi sapere borbottò amney agisco a nome di un importante studio legale di washington il loro cliente per il momento preferisce rimanere anonimo voi non dovete fare altro che seguire la persona finché non si fermi e per fermata non intendo una sala d'aspetto un bar intendo un albergo un appartamento o anche la casa di qualcuno che conosce tutto qui mi sembra molto semplice la semplicità non mi interessa signor amney mi occorrono dati chi è la ragazza da dove viene che cosa ha fatto per rendere necessario questo mio incarico necessario rimbeccò l'altro e che diavolo vi credete di essere per stabilire se è necessario o no trovate la ragazza organizzatevi e telefonatemi il suo indirizzo e se vi aspettate di essere pagato farete bene a sbrigarvi vi do tempo fino a domattina alle 10 poi prenderò altri provvedimenti ok signor amney e dove vi trovate esattamente e qual è il vostro numero di telefono sto più o meno vagando mi hanno pestato il cranio con una bottiglia di whisky o che guaio commentò in tono acido suppongo che la bottiglia l'avevate già vuotata ok avrebbe potuto andar peggio signor amney avrebbe potuto trattarsi della vostra testa vi telefono domattina verso le 10 al vostro ufficio non preoccupatevi per gli smarrimenti ci sono altri due tipi che lavorano sullo stesso percorso uno è un tale di qui e si chiama michel e l'altro è un seguccio di kansas city e si chiama goble porta la pistola beh buonanotte signor amney ehi un momento tuono un minuto che cosa significa altri due lo domandate a me che cosa significa a quanto pare a voi hanno rifilato soltanto una parte del lavoro aspettate aspettate ci fu silenzio poi con voce ferma domattina presto chiamo washington marlow scusatemi se sono stato brusco mi sembra che sia giunta l'ora di entrare in possesso di alcune informazioni supplementari a proposito di questa faccenda giusto se riuscite a ristabilire il contatto chiamatemi qui a qualsiasi ora qualsiasi ora bene buonanotte e riattaccò deposi il ricevitore sulla leva e respirai a fondo la testa mi doleva ancora ma l'intontimento se n'era andato aspirai la fresca aria della notte mista a nebbia usci dalla cabina e guardai dall'altra parte della strada il vecchio autista che avevo visto al posteggio poco prima era tornato attraversai la strada e gli domandai come si andava alla glass room cioè dove michel intendeva portare a pranzo la signorina betty mayfield le piacesse o no l'autista me lo spiegò lo ringraziai riattraversai la strada deserta e salì nella mia auto a nolo ripartì nella direzione della quale ero venuto c'era sempre la possibilità che la signorina mayfield avesse preso il 747 per los per qualche altra stazione intermedia ma era molto più probabile di no l'autista che accompagna un passeggero alla stazione non aspetta per vedere se il passeggero prende veramente il treno non doveva essere molto facile far mollare la presa a larry michel se sapeva abbastanza su di lei da farla tornare a esmeralda sarebbe riuscito anche a trattenercela sapeva chi ero io e quel che facevo non sapeva il perché ma non lo sapevo neanch'io se possedeva un mezzo cervello e gli facevo credito di molto più di mezzo capiva che potevo seguire i movimenti della ragazza fin dove l'avrebbe portata il taxi michel probabilmente era andato al del mar e aveva fermato la grossa buic da qualche parte in attesa che il taxi la scaricasse alla stazione poi l'aveva raccattata e riportata esmeralda betty mayfield non poteva dirgli niente più di quanto michel non sapesse già io ero un privato di los angeles ingaggiato dai gnoti per seguirla e seguendola avevo commesso l'errore di avvicinarmi troppo questo senza dubbio lo lasciava perplesso perché voleva dire che in campo c'era qualcun altro ma se le sue informazioni qualsiasi esse fossero provenivano da un ritaglio di giornale non poteva certamente aspettarsi di tenerle in esclusiva per sempre chiunque dotato di interesse e pazienza sufficienti avrebbe potuto procurarsene chiunque fosse chi si interessava di lei da ingaggiare un investigatore privato probabilmente lo aveva già fatto e questo voleva dire che quel che michel si proponeva di ottenere da betty mayfield fosse finanziario o amatorio o tutti e due doveva ottenerlo al più presto a metà circa del canyon una piccola insegna al neon con una freccia verso la direzione del mare indicava the glass room la strada scendeva ripida tra case dalle finestre illuminate da una luce calda giardini ben tenuti e muretti di gesso con tegole in stile messicano infilai l'ultima curva e l'odore di alghe mi riempì le narici le luci velate della glass room avevano un bagliore d'ambra e la musica da ballo mi venne incontro entrai nel posteggio non c'era inserviente si chiudeva la macchina e si entrava un paio di dozzine di macchine non di più le guardai a una a una se non altro qui ci avevo azzeccato conoscevo la targa della buic roadmaster stava quasi all'ingresso accanto a una cadillac decapottabile aperta verde pallido e avorio con sedili di cuoio coloro streca una coperta da viaggio sul sedile posteriore per mantenerlo asciutto e un'infinità di cose utili e inutili compresi due enormi retrovisori a specchio laterali un'antenna radio buona per andare a pesca di tonni un portabagagli pieglievole di alluminio una visiera da sole un riflettore a prisma anti abbagliante una radio con tanti pulsanti che sarebbero bastati per un aeroplano un enorme accendisigaro e diverse altre cosucce forse avrebbero installato anche il radar un registratore e una batteria antiaerea tutto ciò lo vidi con l'aiuto di una lampadina a pila presi il libretto di circolazione e lessi clark brandon hotel casa del poniente esmeralda california capitolo 8 la saletta dell'ingresso una specie di terrazza guardava verso il bar e la sala da pranzo a due piani una scalinata a curva coperta da una passatoia scendeva al bar di sopra non c'era nessuno soltanto la ragazza del guardaroba e un tale con l'aria di uno che non scherza nella cabina telefonica scesi la scala fino al bar e mi sistema in un punto dal quale dominavo la pista da ballo un lato della sala era un enorme parete di cristallo fuori non si vedeva altro che nebbia ma in una notte serena con la luna bassa sul mare doveva essere sensazionale un'orchestrina messicana composta di tre elementi suonava il genere di musica che suonano sempre le orchestrine messicane qualsiasi cosa esse suonino sembra sempre la stessa cosa cantano sempre la stessa canzone piena di belle vocali aperte in tono strascicato e dolciastro e il tipo che canta pizzica sempre una chitarra e dice un mucchio di cose su amor micorasona e una signora che è linda ma difficile da convincere ha sempre capelli troppo lunghi e troppo unti e quando mugola nene amorose all'aria di uno che lavora di coltello con abilità e sveltezza sulla pista da ballo una mezza dozzina di coppia si trascinava tutto attorno con il folle abbandono di un guardiano notturno con l'artrite quasi tutti ballavano guancia a guancia se lo si poteva definire un ballo gli uomini indossavano giacche da sera bianche e le ragazze avevano occhi splendenti labbra di rubino e muscoli da tennis o golf una coppia non ballava guancia a guancia lui era troppo sbronzo per badare al tempo e lei era troppo preoccupata di non farsi pestare i piedi per pensare ad altro non avevo ragione di temere che la signorina betty mainflid scomparisse michel aveva la bocca aperta sorrideva il viso era rosso e lucido e gli occhi avevano lo sguardo vitreo betty teneva la testa lontana da lui quanto più poteva a rischio di spezzarsi l'osso del collo era evidentissimo che del signor michel ne aveva abbastanza e anche di più un cameriere messicano in giacca verde corta e calzoni bianchi con una striscia verde sui lati mi si avvicinò gli ordinei una birra e gli domandai se poteva portarmi un club sandwich al bar disse muy bien señor sorrise radioso e si allontanò la musica tacque ci furono dei battimani poco convinti l'orchestra ne rimase profondamente commossa e riattaccò a suonare il capo cameriere dei capelli neri che assomigliava a un richard barton di seconda scelta circolava tra i tavoli distribuendo sorrisi intimi e fermandosi qua e là a lucidare una mela poi sedetta di fronte a un irlandese bello grosso e con qualche sfumatura di grigio tra i capelli proprio quel tanto che ci voleva era solo indossava una giacca da sera nera con un garofano all'occhiello aveva l'aria di un tipo pacifico se non gli si pestava un callo a quella distanza e con quella luce non si capiva molto di più a parte che se capitava di pestargli un callo era consigliabile essere robusti svelti duri e ben allenati il capo cameriere si chinò in avanti gli disse qualcosa e tutti e due guardarono dalla parte di michel e di betty mainfield il primo sembrava preoccupato l'altro quello solido sembrava del tutto indifferente il capo cameriere si alzò e se ne andò il tipo solido mise una sigaretta nel bocchino e un cameriere schizzò fuori dall'ombra per accendergliela come se avesse aspettato quell'occasione per tutta la serata il tipo solido lo ringraziò senza alzare la testa arrivò la mia bevanda la guantai e bevi l'orchestra smise di suonare le coppie si divisero e tornarono lentamente ai loro tavoli larry michel si aggrappava a betty sorrideva ancora poi fece per tirarsela più vicina le mise una mano dietro la testa lei cercò di scrollarselo di dosso lui tirò più forte abbassò la faccia arrossata contro il viso di lei lei lottava ma lui era troppo forte le sospirò in faccia ancora un poco lei gli mollò un calcio lui alzò la testa di scatto irritato mollatemi l'orido ubriacone il soffiò lei senza fiato ma in modo molto chiaro michel assunse un'espressione malvagia la ferrò per le braccia con forza da farle male e se la premette contro senza cedere di un millimetro gli altri li guardavano fissamente nessuno si muoveva che ti piglia bimba non vuoi più bene a papà domandò michel la voce alta non vidi quel che lei fece col ginocchio ma lo capì e doveva essere un male da cani lui le respinse e in viso gli apparve un'espressione feroce poi sollevò una mano e la schiaffeggiò con il palmo e con il dorso un segno rosso apparve immediatamente sulla pelle betty stava immobile poi con voce che tutti presenti in sala potevano sentire disse chiaramente e lentamente la prima volta che ci riprovate signor michel mettetevi un panciotto blindato gli voltò le spalle e si allontanò lui non si mosse la faccia gli era diventata lucida e bianca non si capiva se dal dolore o dall'ira il capo cameriere gli si avvicinò gli mormorò qualcosa sollevando un sopracciglio con espressione interrogativa michel abbassò gli occhi e lo guardò poi senza una parola si mise in moto come se l'altro non esistesse costringendolo a balzare da parte per non essere investito seguiva betty e durante il percorso andò a sbattere contro un tale non si fermò a domandare scusa betty era andata a sedere a un tavolino contro la parete di cristallo vicino al tipo solido in giacca da sera il tipo solido la guardò poi guardò michel si tolse dalle labbra il bocchino e guardò anche quello e in faccia non aveva espressione di sorta michel arrivò al tavolo mi hai fatto male tesoro disse con voce forte cattiva idea far del male a me capito molto cattiva vuoi chiedere scusa betty si alzò afferrò il mantello della spalliera della sedia e guardò michel in faccia pago io signor michel o pagate voi col denaro che vi ho prestato la mano di michel si sollevò un'altra volta in direzione del viso di lei betty non si mosse ma si mosse il tipo seduto al tavolino accanto si mise in piedi con un movimento agile afferrò il polso di michel piantala a larry adesso sei pieno la voce era chiara quasi con una nota di allegria michel svincolò il polso e girò di scatto sui tacchi lasciami perdere brandon con infinito piacere vecchio mio non mi interessi ma ti consiglio di non toccare la signora non capita spesso che sbattano qualcuno fuori di qui ma potrebbe anche succedere michel rise con ira perché non te ne vai al diavolo il tipo solido disse sottovoce larry ti ho già detto di piantarla non intendo ripeterlo michel lo guardò con occhi furenti ok ci si rivede disse con voce il rosa si avviò poi si fermò a più tardi molto più tardi aggiunse voltandosi per metà poi uscì barcollando ma rapidamente senza guardarsi intorno brandon restò piantato dove era betty rimase in piedi come se non sapesse che cosa fare lo guardò lui la guardò le sorrise educatamente e tranquillamente senza nessun impegno lei non gli ricambiò il sorriso posso fare qualcosa domandò posso accompagnarvi a casa poi volse la testa o carl il capo cameriere accorse in un baleno niente conto disse brandon date le circostanze vi prego disse betty in tono brusco non voglio che altri paghino per me brandon scosse la testa lentamente abitudini della casa disse io non c'entro ma posso mandarvi qualcosa da bere la guardò ancora quello aveva tutto il necessario mandarmi domandò betty lui sorrise cortesemente beh portare se volete sedere e scostò la sedia del proprio tavolino betty sedette e in quel momento neanche un secondo prima il capo cameriere fece un segnale all'orchestra che incominciò di nuovo a suonare riattaccando da dove aveva smesso il signor clark brandon aveva l'aria di chi ottiene tutto quello che vuole senza mai alzare la voce dopo un poco arrivò il mio club sandwich niente di eccezionale ma commestibile lo mangiai rimasi nei dintorni per mezz'ora brandon e betty stavano benissimo tacevano tutti e due dopo un poco andarono a ballare allora uscì e sedetti macchina a fumare se betty mi aveva visto non lo aveva certo fatto capire michel non ero certo se n'era andato troppo in fretta e troppo furente per poter vedere qualcosa verso le dieci e mezzo brandon uscì con betty salirono nella cadillac decapotabile aperta li seguì senza cercare di nascondermi perché presero la direzione che avrebbe preso chiunque verso la zona centrale di esmeralda andarono alla casa del poniente brandon scese lungo la rampa fino alla rimessa c'era soltanto una cosa da capire andai a sistemare l'auto nel posteggio vicino poi entrai e andai in una cabina telefonica la signorina mayfield per favore betty mayfield un momento prego breve pausa oh sì è appena arrivata chiamo in camera signore un'altra pausa molto più lunga spiacente la camera della signorina mayfield non risponde ringraziai e attaccai me ne andai più che veloce perché potevano anche passare dall'atrio tornai alla mia carriola d'affitto e bucai la nebbia per la strada fino al canyon e al rancio descansato il villino dell'ufficio era buio e chiuso una fiocca lampadina illuminava il campanello notturno raggiunsi la 12b sistemai la macchina nel piccolo cortile ed entrai sbadigliando nella mia camera era fredda umida e squallida qualcuno aveva ripiegato la coperta del divano letto e tolto i cuscini e righe mi spogliai appoggiai la testolina ricciuta sul guanciale e mi addormentai capitolo 9 un rumore lieve ma insistente mi svegliò molto lieve ma anche molto insistente avevo la sensazione che durasse da molto tempo e che avesse perforato gradatamente il mio sonno mi voltai e ascoltai qualcuno mosse la maniglia della porta poi il picchettio riprese diedi un'occhiata all'orologio le lancette fosforescenti segnavano le tre mi alzai strisciando fino alla valigia e ci frugai dentro alla ricerca della pistola poi andai alla porta e aprì uno spiraglio c'era una figura in ombra e portava un paio di pantaloni anche una specie di giacca a vento e una sciarpa annodata intorno alla testa era una donna che vuoi fammi entrare presto non accendere la luce e così era betty mayfield aprì la porta e lei scivolò dentro come un brandello di nebbia chiusi la porta presi la vestaglia e la indossai c'è nessun altro fuori domandai nella camera accanto c'è qualcuno no sono sola si appoggiò alla parete respirava a fatica tirai fuori la lampadina a pila dalla tasca del cappotto e girai il minuscolo raggio tutto attorno trovai l'interruttore del pannello radiante poi le illuminai il viso lei si riparò gli occhi con la mano e distolse la testa abbassai la luce a terra la passai sulle finestre le chiusi tutte e due e calai le veneziane poi andai ad accendere una lampada betty soffiò fuori il fiato ma non disse una parola stava ancora appoggiata alla parete aveva l'aria di chi ha bisogno di bere qualcosa andai nella piccola cucina versai un po di whisky in un bicchiere glielo portai fece un cenno di diniego con la mano poi ci ripensò afferrò il bicchiere e lo vuotò sedetti accesi una sigaretta la solita reazione meccanica che diventa così noiosa quando lo fa qualcun altro poi rimasi seduto a guardarla e aspettai i nostri occhi si incontrerono dopo un poco betty infilò la mano nella tasca obliqua della giacca a vento e tirò fuori la pistola oh no dissi non ricominciamo guardò la pistola le tremavano le labbra si staccò dalla parete e venne a deporre l'arma accanto a me la conosco dissi siamo vecchi amici l'ultima volta che l'ho vista l'aveva michel e allora ti ho colpito con la bottiglia perché avevo paura che ti sparasse gli avrebbe rovinato il programma se ne aveva uno ma non potevo esserne sicura mi dispiace di averti colpito grazie per i cubetti di ghiaccio non guardi la pistola l'ho già guardata sono venuta fin qui a piedi dalla casa ora abito là mi ci sono trasferita oggi nel pomeriggio lo so hai preso un taxi ti sei fatta portare alla stazione di del mar poi michel ti ha raccolta e ti ha riportato indietro siete andati a pranzo insieme avete ballato poi c'è stato un lieve malinteso un tale di nome clark brandon ti ha riportato all'albergo con la sua decapottabile mi guardò meravigliata non ti ho visto disse infine ma pensava ad altro ero al bar tu eri con michel occupatissima a farti prendere a schiaffi e a dirgli che avrebbe fatto bene a mettersi il panciotto blindato la prossima volta che ti capitava intorno poi al tavolo di brandon mi voltavi le spalle sono uscito prima di te e ho aspettato fuori incomincio a credere che tu sia un investigatore disse betty sottovoce guardò di nuovo la pistola non me l'ha restituita disse naturalmente non posso provarlo questo significa che ti piacerebbe poterlo provare mi servirebbe anche se non molto quando verranno a sapere tutto di me suppongo tu sappia di che cosa parlo siediti e smettila di digrignare i denti andò lentamente verso una sedia sedette sull'orlo e si chinò in avanti fissava il pavimento so che c'è qualcosa da scoprire dissi perché michel lo ha scoperto e perciò se volessi potrei scoprirlo anch'io chiunque ci riesce quando sa che c'è qualcosa da scoprire in questo momento non ho ancora deciso mi hanno ingaggiato per mantenere il contatto e riferire alzò la testa di scatto e hai riferito ho fatto rapporto dissi dopo una pausa in quel momento avevo perduto il contatto ho accennato a san diego tanto lo avrebbe saputo dal centralino perduto il contatto ripete piano chiunque sia a questo punto deve avere una grande opinione di te poi si morse il labbro scusami non volevo dire questo sto cercando di decidere una cosa decidi pure con comodo dissi sono soltanto le 3 e 20 adesso sei sarcastico guardai il pannello radiante non si vedeva niente ma il freddo era diminuito se non altro decisi che desideravo bere andai in cucina prepararmi un whisky bevi versai di nuovo e tornai alla camera betty ora teneva in mano una busta imitazione cuoio me la mostrò qui dentro assegni dell'american express per 5.000 dollari da 100 dollari l'uno che cosa saresti disposto a fare per 5.000 dollari bevi un sorso di whisky ci pensai su con espressione computa calcolando la media normale delle spese basterebbero per comprare tutto il mio tempo per diversi mesi naturalmente se fosse in vendita batté con la busta sul bracciolo della poltrona con l'altra mano stava quasi staccandosi una rotola sei in vendita disse e questo sarebbe soltanto un anticipo posso permettermi di pagare ho tanto denaro che tu non potresti neanche sognartelo il mio ultimo marito era così ricco da far pena gli ho cavato mezzo milione di dollari tondo tondo in albero un sogginio da vissuta e mi concesse tutto il tempo perché ci facessi l'abitudine non dovrei assassinare nessuno non dovresti assassinare nessuno non mi piace il modo in cui lo dici guardai con la coda dell'occhio la pistola che fino a quel momento non avevo sfiorato neanche con un dito betty era venuta a piedi in piena notte dalla casa del poniente per portarmela non era necessario toccarla la guardai mi chinai ad annusarla era sempre inutile toccarla ma ormai capivo che cosa c'era in ballo e chi indossa la pallottola domandai il freddo della camera mi si riversò nel sangue acqua gelida una pallottola sola come lo sai presi la rivoltella tirai fuori il caricatore lo guardai e lo inserì di nuovo beh potevano anche essere due dissi nel caricatore ce ne sono sei questa ne tiene sette potresti infilarne una in canne aggiungerne un'altra nel caricatore e potresti spararli tutti poi metterne sei nel caricatore si chiacchierà soltanto vero domandò lentamente non vogliamo dirlo chiaro e tondo va bene dov'è disteso su una sedia a sdraio sul balcone della mia camera tutte le camere su quel lato hanno il balcone il parapetto è di cemento il muro tra una camera e l'altra cioè tra un appartamento e l'altro sporge verso l'esterno un equilibrista o un arrampicatore potrebbe riuscirci a girarci attorno ma non portandosi un peso sono al dodicesimo piano non c'è niente di sopra soltanto l'attico tacque e corrugò la fronte poi fece un gesto desolato con la mano che tormentava la rotola ti sembrerà piuttosto pietoso riprese può esserci arrivato soltanto passando dalla mia camera e io non l'ho fatto passare dalla mia camera sei sicura che sia morto sicura è morto morto secco non so quando sia successo non ho sentito niente ma qualcosa mi ha svegliata non mi è sembrato uno sparo e poi era già freddo non lo so che cosa mi abbia svegliato non mi sono alzata subito sono rimasta a pensare non riuscivo a riaddormentarmi e dopo un poco ho acceso la luce mi sono alzata e ho passeggiato fumando poi ho notato che non c'era più nebbia e c'era la luna non da basso ma al mio piano quando sono uscita sul balcone ho visto ancora la nebbia al di sotto faceva un freddo terribile le stelle sembravano enormi sono rimasta fuori per un bel pezzo prima di vederlo anche questo probabilmente suona pietoso o molto improbabile non mi illudo che la polizia ci creda almeno in principio e poi insomma è così non ho una probabilità su un milione a meno che qualcuno non mi aiuti mi alzai mandai giù quel che rimaneva del whisky nel bicchiere e mi avvicinai a lei voglio dirti due o tre cose prima di tutto non la prendi con una reazione normale non sei gelida ma sei troppo fredda niente panico niente isterismi niente sei fatalista oggi ho ascoltato la conversazione con michel ho svitato quelle lampade indica il pannello e ho usato uno stetoscopio appoggiandolo alla parete divisoria michel sapeva chi sei e si tratta di qualcosa che se venisse pubblicato ti costringerebbe a cambiare un'altra volta nome e scappare in qualche altra città chissà dove hai detto che sei la donna più fortunata del mondo perché sei viva ora sul tuo balcone c'è un morto ucciso con la tua pistola e naturalmente si tratta di michel esatto a noi sì e larry e dici di non averlo ucciso tu e dici che la polizia da principio forse non lo crederebbe ma neanche in seguito lo crederebbe secondo me ci sei già stata una volta mi guardava sempre si alzò lentamente in piedi i nostri visi erano vicini ci guardavamo negli occhi ma non significava niente mezzo milione di dollari sono molti marlow non essere troppo difficile al mondo ci sono luoghi dove noi due potremmo avere una vita meravigliosa in uno di quei grandi palazzi sull'oceano a rio non so quanto potrebbe durare ma esiste sempre un altro modo di cavarsela non credi dissi quante donne sei contemporaneamente l'una diversa dall'altra adesso reciti la parte della compagna di un gangster quando ti ho visto per la prima volta eri una signora tranquilla e ben educata non ti piaceva farti mettere al tappeto da un gaglioffo come michel poi hai comperato un pacchetto di sigarette ti sei messa a fumare come se ti facesse schifo poi gli hai permesso di coccolarti quando sei arrivata qui poi ti sei strappata la camicetta davanti a me ah 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 cinica come una pupa di parcheveni dopo che il suo fornitore se n'è andato a casa poi ti lasci coccolare da me poi mi sbatti in testa una bottiglia di whisky adesso vieni a parlarmi di una vita meravigliosa al rio quale di queste donne avrà la testa sul guanciale accanto al mio quando mi sveglierò al mattino 5.000 dollari in anticipo è molto di più in seguito la pulizia non ti darebbe 5 stuzzicadenti se la pensi diversamente ecco il telefono che cosa dovrei fare per i 5 pezzi da mille emise il fiato lentamente come sollevata dopo una crisi l'albergo è costruito quasi sull'orlo del dirupo ai piedi del muro c'è soltanto un sentiero molto stretto sotto il dirupo ci sono le rocce e il mare è quasi l'alta marea il mio balcone al di sopra al dodicesimo piano a noi ci sono scale antincendio dalla rimessa incominciano sul pianerottolo dell'ascensore due o tre scalini più su della rimessa ma è una salita lunga e faticosa per 5 pezzi da mille mi arrampico vestito da subacqueo sei uscita dalla parte dell'atrio scalantincendio c'è un guardiano notturno nella rimessa ma quando sono uscito dormiva in una delle automobili hai detto che michel è disteso su una sedia a sdraio c'è molto sangue sussultò non non ci ho badato credo di sì non lo hai visto ti sei avvicinata tanto da scoprire che era morto secco dove è stato colpito non ho visto non si vedeva dove era la pistola a terra sulla terrazza vicino alla sua mano quale mano spalancò gli occhi ma che cosa importa non so quale mano sta disteso di traverso su una sedia con la testa che pende da una parte le gambe dall'altra dobbiamo continuare a parlarne va bene dissi non so un accidente di niente delle maree delle correnti di qui potrebbe ricomparire sulla spiaggia domani stesso tra un paio di settimane se passa molto tempo forse non si vedrà neanche più che è stato ucciso con una rivoltellata poi esiste sempre la possibilità che non lo ritrovino mai più non è molto probabile ma può anche accadere in queste acque ci sono dei barracude altri pesci voraci fai di tutto per rendere la cosa ancora più ripugnante disse beh mi sono lasciato trascinare e pensavo anche alla possibilità di un suicidio allora dovremmo rimettere la pistola dove stava era mancino lo sai perciò volevo sapere quale mano oh sì era mancino hai ragione ma non è suicidio quello non era il tipo che si uccide soddisfatto di sé e tronfio come un tacchino dicono che a volte c'è chi uccide ciò che ama di più non potrebbe essere se stesso no quello no davvero disse bett in tono brusco e definitivo se siamo molto fortunati probabilmente penseranno che sia caduto dal balcone lo sai dio sarà abbastanza ubriaco e a quel tempo sarò nell'america del sud mio passaporto è ancora valido che nome c'è sul tuo passaporto allungò una mano e mi sferò la guancia con la punta delle dita saprai tutto di me molto presto non essere impaziente saprai le cose più intime di me non puoi aspettare già intanto incomincia tu a diventare intima di quegli assegni dell'american express abbiamo ancora un paio d'ore di oscurità e c'è ancora la nebbia mentre mi vesto baloccati con gli assegni presi la penna dal taschino della giacca gliela porsi sedette accanto alla lampada incominciò a firmarli per la girata la lingua le spuntava tra i denti scriveva lentamente e con cura il nome che scriveva era elisabeth mayfield e così il cambiamento di nomi l'aveva preparato prima di partire da washington mentre mi vestivo mi domandavo se era veramente tanto sciocca da credere che l'avrei aiutata a nascondere il cadavere portai i bicchieri in cucina e passando presi la pistola lasciai che la porta a molla si richiudesse infilai la pistola e il caricatore sotto il bruciatore del fornello elettrico sciacquai i bicchieri e li strofinai con cura tornai nel soggiorno e mi vesti betty non alzò neanche la testa continuava a firmare assegni quando ebbe finito presi la busta e sfogliai gli assegni uno a uno controllando le buste tutto quel denaro non mi diceva proprio niente infilai la busta nella tasca spensi la lampada e andai verso la porta l'apri e betty era accanto a me mi stava molto vicina sguscia fuori dissi ti raccatto lungo la strada dove finisce la palizzata si voltò e si chinò un poco verso di me posso fidarmi domandò sottovoce fino a un certo punto se non altro sei sincero che cosa succede se non ci riusciamo se qualcuno ha sentito lo sparo se lo hanno trovato e arriviamo là e c'è la polizia la guardai in faccia e non le risposi provo a indovinare disse molto piano e molto sottovoce mi molleresti subito ma non avrai 5.000 dollari quegli assegni diventerebbero carta straccia non avresti il coraggio di incassarne neanche uno continuai a tacere lurido porco non alzò la voce neanche di un semitono perché sono venuta da te le presi il viso tra le mani e la baciai sulle labbra si ritrasse non per questo disse certamente non per questo e ancora una cosa lo so che è quasi insignificante l'ho imparato da insegnanti molto esperti lunghe dolorose e dure lezioni e molte ma è vero non sono stata io a ucciderlo forse ti credo non dartene la pena nessun altro ci crederà si volse uscì nel terrazzino e scese gli scalini scomparve tra gli alberi dopo dieci metri la nebbia la inghiottì chiusi la porta salì nella mia macchina infilai il vialetto silenzioso passai davanti all'ufficio immerso nel buio a parte la lampadina sopra il campanello tutto stava a indicare un sonno profondo ma gli autocarri rombavano su per il canyon carichi di materiale da costruzione di benzina e di tutte le infinite cose misteriose necessarie alla vita di una città avevano i fari antinebbia e salivano lentamente e pesantemente lungo la collina 50 metri dopo il cancello dove finiva la palizzata betty uscì dall'ombra e salì accesi i fari una sirena urlava lontano sull'oceano in alto dove il cielo era sereno una formazione di reattori proveniente da nord island passò con un sibilo e un rombo e scomparve prima che avessi il tempo di accendere una sigaretta betty sedeva immobile accanto a me guardava fissa nel vuoto e non parlava non vedeva né la nebbia né l'autocarro che avevamo raggiunto non vedeva niente stava seduta raggelata in quella posizione impietrita dalla disperazione come se la conducessero al patibolo era così o recitava la scena meglio interpretata che mai avessi visto capitolo 10 la casa del poniente si trovava con un lato sull'orlo di un dirupo davanti ai lati fra sette acri di prati e di aiuole infiorite con un patio sulla faccia e tavolini sistemati dietro uno schermo di vetro un sentiero fiancheggiato da rampicanti tagliava in due il prato e portava all'ingresso da una parte c'era il bar dall'altra una caffetteria e ai lati dell'edificio due posteggi coperti da un tetto nero e nascosti da cespugli alti più di un metro nel posteggio c'erano molte automobili nessuno si dava la pena di usare la rimessa sotterranea nonostante l'umida aria salsa dannosa per le cromature e le vernici mi fermai vicino alla rampa della rimessa il rombo dell'oceano era molto vicino gli spruzzi portati dal vento arrivavano fin là se ne sentiva il sapore e l'odore scendemmo e andammo verso l'ingresso della rimessa lungo la rampa si allungava un marciapiede sopraelevato il cartello dell'ingresso diceva scendere in prima e suonare betty mi afferrò per il braccio e mi fermò vado dall'altra parte a prendere l'ascensore sono troppo stanca per salire le scale non ce la faccio più va bene niente in contrario che numero è la camera 1224 che cosa succede se ci scoprono scoprono cosa lo sai quando quando lo passiamo oltre la balconata o non so dove io posso cavarmela in un formicaio per te non saprei dipende da quel che è ancora sullo stomaco come puoi parlarmi così prima di colazione mi voltò le spalle e si allontanò in fretta mi avviai giù per la rampa curvava come quasi tutte le rampe alla curva vidi l'ufficio circondato da vetrate con una lampadina accesa nel centro avanzai ancora un poco non c'era nessuno ascoltai per sentire se qualcuno lavorava riparava una macchina lavava il pavimento fischiava anche il più piccolo rumore che indicasse dove si trovava il guardiano e che cosa faceva nelle rimesse sotterranee si sentono anche i rumori più lievi non senti nulla scesi mi trovavo quasi al livello della parte superiore del piccolo ufficio ora chinandomi vedevo i bassi scalini che portavano all'ascensore del seminterrato c'era una porta con la scritta che indicava l'ascensore attraverso i pannelli di vetro filtrava la luce feci altri due passi e mi raggelai il guardiano notturno mi guardava dritto in faccia stava sul sedile posteriore di una grossa pacard la luce lo illuminava in pieno portava gli occhiali la luce si rifletteva sulle lenti stava disteso comodamente aspettai che si muovesse non si mosse la testa era appoggiata all'indietro la bocca aperta dovevo sapere perché non si muoveva forse fingeva di dormire perché proseguissi poi sarebbe filato al telefono a chiamare la polizia poi pensai che ero sciocco a pensare così faceva il turno di notte e veniva soltanto la sera non poteva conoscere tutti i clienti dell'albergo il marciapiede lungo la rampa serviva per camminarci erano quasi le quattro del mattino un lato d'albergo non sarebbe mai andato in missione così tardi andai dritto verso la pagard e guardai l'uomo la macchina era chiusa finestrini compresi l'uomo non si mosse allungai la mano verso la maniglia e cercai con cautela di aprire lo sportello ancora non si mosse sembrava molto chiaro di pelle e sembrava anche addormentato lo sentì russare ancora prima di aprire lo sportello poi mi arrivò in piena faccia il fetore mielato della marijuana molto lavorata quel tipo era fuori circolazione nella valle della pace dove il tempo rallenta e si ferma dove il mondo è tutto colori e musica e tra un paio d'ore sarebbe rimasto disoccupato se i poliziotti non lo agguantavano addirittura non lo sbattevano in ghiacciaia richiusi lo sportello della macchina e mi diressi verso la porta a vetri la oltrepassai e mi trovai sul piccolo pianerottolo dell'ascensore l'ascensore aveva due porte e sulla sinistra c'era un'altra porta in ferro che dava sulle scale antincendio aprì e mi avviai dodici piani più il semi interrato sono parecchie scale andavo lentamente contavo le porte man mano che salivo perché non erano numerate erano pesanti e solide e grigio come il cemento degli scalini sudavo e ansimavo ma finalmente aprì la porta del dodicesimo piano raggiunsi la camera 1224 e premetti la maniglia era chiusa a chiave ma si aprì quasi immediatamente come se betty fosse là dietro ad aspettare le passai davanti e andè a gettarmi in una poltrona per riprendere fiato era una grande camera spaziosa con porte finestre che si aprivano sulla balconata il letto matrimoniale era scomposto come se ci avessero dormito o lo avessero sistemato così oggetti di abbigliamento dappertutto sulle sedie oggetti da toletta sul tavolino valigie valeva 20 dollari al giorno minimo betty mise il chiavistello alla porta difficoltà il guardiano notturno è drogato fino agli occhi innocuo come un gattino missa e dalla poltrona e mi diressi verso le finestre aspetta esclamò mi voltai a guardarla è inutile non ci riusciremo rimasi fermo ad aspettare preferisco chiamare la polizia disse nonostante tutto quel che si vuol dire per me un'idea luminosa dissi perché non ci abbiamo pensato prima è meglio che tu te ne vada disse è inutile che ci vada di mezzo anche tu non risposi le guardai gli occhi non riusciva quasi a tenerli aperti era uno shock ritardato o una droga non riuscivo a capirlo ho preso due sonniferi disse leggendomi nel pensiero non resisto più non ce la faccio vattene via subito te ne prego mi sveglio e chiamo il cameriere lo manderò sul balcone con una scusa e troverà quel che troverà e io non ne saprò niente la lingua diventava spessa si riscosse e si passò con forza le mani sulle tempie mi dispiace per il denaro me lo restituisci vero mi avvicinai a lei perché se non te lo restituisco racconterai tutto per forza disse assonnata come posso non dirlo me lo tireranno fuori sono sono troppo stanca per lottare ancora la presi per il braccio e la scossi la testa le dondolò sei sicura di aver preso due compresse socchiuse gli occhi a fatica sì non ne prendo mai più di due allora ascolta vado fuori a dargli un'occhiata poi torno al rancio tengo il tuo denaro e anche la pistola forse riusciranno a rintracciarmi ma svegliati ascolta la testa le cadeva da tutte le parti la raddrizzò di colpo e spalancò gli occhi ma erano vitri e inespressivi ascolta sai non riescono ad accusare te non riusciranno neanche a trovare l'aggancio con me lavoro per un avvocato e il mio incarico sei tu gli assegni e la pistola vanno dove devono andare ma la tua storia non vale un soldo bucato servirà soltanto a ridurti peggio l'hai capito o no sì rispose non me ne importa un corno non sei tu che parli è il sonnifero cadde in avanti la ferrai e la condussi verso il letto ci cadde sopra di schianto le tolsi le scarpe le butte addosso una coperta e la rimboccai si addormentò di colpo e incominciò a russare andai a frugare nel bagno finché non trovai una bottiglietta di nembutal quasi piena c'era il numero della ricetta e la data di un mese prima una farmacia di baltimora versai nel palmo della mano le capsule gialle e le contai erano 47 e riempivano quasi la boccetta quando le prendono per uccidersi le prendono tutte meno quelle che cadono a terra ne lasciano sempre cadere rimisi le capsule nella boccetta e intascai il tutto tornai nella camera e guardai betty faceva freddo accesi il radiatore ma non troppo e finalmente aprì la porta finestra e usci sul balcone fuori faceva un freddo micidiale il terrazzino misurava circa tre metri e mezzo per quattro con un parapetto alto 75 centimetri più una ringhiera di ferro si poteva saltare di sotto senza fatica ma non cadere per caso c'erano due sedie a sdraio di alluminio con cuscini e due poltrone dello stesso tipo la parete divisoria di sinistra sporgeva come mi aveva spiegato betty secondo me neanche un acrobata sarebbe riuscito a girarci attorno senza l'armamentario per arrampicarsi la parete dell'altra parte saliva fino all'orlo di quella che doveva essere la terrazza dell'attico molti metri più in alto morti non ce n'erano né sulle sedie né sul pavimento della terrazza e nemmeno in qualche altro posto mi misi alla ricerca di tracce di sangue niente sangue niente sangue sul balconcino mi avvicinai al parapetto niente sangue nessuna traccia di niente mi appoggiai al parapetto e afferrandomi alla ringhiera mi sporsi il più possibile riuscivo a vedere fino a terra c'erano dei cespugli presso l'edificio una stretta striscia di prato un sentiero lastricato da pietroni poi un'altra striscia di prato e una palizzata alta con altri cespugli calcolai la distanza da quell'altezza non era facile ma dovevano essere almeno 40 metri oltre la palizzata il mare schiumava sulle rocce per metà sommerse Larry Mitchell era un paio di centimetri più alto di me ma pesava una decina di chili in meno all'incirca non esisteva un uomo che fosse capace di sollevare un cadavere di 80 chili al di sopra di quella ringhiera e lanciarlo in modo che cadesse nell'oceano esisteva una vaga possibilità che una donna non se ne rendesse conto una possibilità vaghissima del 10 per cento circa apri la porta finestra tornai dentro e la richiusi andai a mettermi accanto al letto dormiva ancora sodo e russava le toccai la guancia col dorso della mano era umida si agitò un poco e borbottò poi sospirò e mosse la testa sul cuscino niente respiro ansante niente profondo stupore niente coma e di conseguenza niente dose eccessiva di pillole mi aveva detto la verità a proposito di una cosa ma per quanto riguardava il resto no trovai la borsa nel primo cassetto del tavolino dietro aveva uno scomparto chiuso da una lampo ci infilai la busta con i traveler check e guardai dentro a scopo informativo c'erano delle banconote nuove un orario di santa fe la busta del biglietto del treno e un pezzo del biglietto e la prenotazione aveva occupato la cabina e sulla vettura 19 da washington a san diego niente lettere niente documenti dovevano essere chiusi a chiave nelle valigie nella borsa trovai quello che di solito si porta dietro una donna rossetto porta cipria borsellino monete poche chiavi tenute da un dal quale pendeva una tigre di bronzo un pacchetto di sigarette ancora chiuso una bustina di fiammiferi con un fiammifero in meno tre fazzoletti senza iniziali un pacchetto di lime di cartone una pinzetta per le pelli delle unghie qualcosa per le ciglia un pettine in una bustina di cuoio un tubetto di crema per le mani un minuscolo libretto di indirizzi mi ci lanciai vuoto mai usato nella borsa trovai anche un paio di occhiali da sole con montatura iridata in un astuccio una penna stilografica una matitina d'oro e nient'altro rimisi la borsa dove l'avevo trovata nella scrivania trovai un foglio di carta e una busta presi la penna dell'albergo e scrissi cara betty dolente di non aver potuto rimanere morto spiegherò domani larry chiusi il biglietto nella busta ci scrissi signorina betty mayfield e la lasciai cadere dove sarebbe stata se l'avessero infilata da sotto la porta finestra aprì la porta e usci mi diressi verso le scale poi dissi a voce alta all'inferno tutti e chiamai l'ascensore non arrivò suonai di nuovo e continuai a suonare per un pezzo finalmente comparve un giovane messicano mezzo addormentato aprì la porta e mi sbadigliò in faccia poi sorrise come per scusarsi gli ricambia il sorriso e non dissi nulla al banco di fronte agli ascensori non c'era nessuno il messicano si sistemò su una poltrona e si riaddormentò prima che riuscissi a fare sei passi dormivano tutti meno marlow lui lavora a turno continuato e non incassa neanche tornai al rancio descansato non vidi nessuno sveglio neanche la guardai voglioso il letto ma preparai la valigia con la pistola di betti sul fondo mesi 10 dollari in una busta e nell'uscire la infilai nella cassetta dell'ufficio insieme alla chiave della mia camera andai a san diego restituì l'auto a noleggio e feci colazione in un ristorante di fronte alla stazione alle 7 un quarto presi l'automotrice che arriva a los angeles senza mai fermarsi alle 10 in punto andai a casa in taxi e mi rasai feci la doccia una seconda colazione diede un'occhiata al giornale del mattino quando chiamai l'ufficio del signor clyde amney avvocato erano quasi le 11 rispose lui forse la signorina vermiglia non era ancora alzata parla marlow sono tornato posso venire l'avete trovata certamente avete chiamato washington dov'è preferisco dirvelo di persona avete chiamato washington voglio prima la vostra risposta oggi è una giornata piena di impegni la voce era brusca e priva di fascino tra mezz'ora sarò da voi riattaccai e telefonai alla rimessa dov'era la mia holz capitolo 11 ci sono troppi uffici come quello di clyde amney pavimento a pannelli quadrati messi angolo contro angolo in modo da sembrare una scacchiera luce indiretta tappeto da una parte all'altra mobili legno chiaro poltrone comode e parcelle esorbitanti i riquadri di metallo delle finestre si aprivano verso l'esterno sotto il palazzo c'era un posteggio piccolo ma molto ordinato suddiviso il reparti ognuno dei quali aveva un cartello con un nome quello di clyde amney chissà perché era vuoto e così ne usufruì forse l'autista lo accompagnava in ufficio il palazzo era di quattro piani molto nuovo interamente occupato da studi di medici e avvocati quando entrai la signorina vermilia stava preparandosi a una dura giornata di lavoro ritoccando la pettinatura biondo platino mi sembrava un pochino più consumata dell'ultima volta ripose lo specchietto e pescò una sigaretta oh guarda il signor faccia tosta in persona a che cosa dobbiamo questo onore amney mi aspetta il signor amney bravuomo ciccio caro per voi sorellina divenne furibonda in un secondo non chiamatemi sorellina miserabile piedi piatti e non chiamatemi bravuomo costosissima segretaria che cosa fate stasera e non ditemi che uscite di nuovo con quattro marinai la pelle intorno agli occhi le divenne più bianca la mano artigliò un fermacarte quasi me lo lanciò figlio d'una cagna gridò poi premette un pulsante del citofono e disse c'è il signor marlow signor amney poi si sistemò sulla sedia e mi diede un'occhiata o amici che potrebbero ridurvi a proporzioni così minime da costringervi a salire su una scala per mettervi le scarpe molti ci hanno lavorato sodo per questa battuta dissi ma il lavoro sodo non può sostituire il talento scoppiamo tutti e due a ridere all'improvviso la porta si aprì e il signor amney si affacciò mi fece cenno di entrare con un movimento della testa ma aveva gli occhi fissi sulla ragazza al platino entrai dopo un attimo richiuse la porta andò a sedersi all'enorme scrivania semicircolare con il piano di cuoio verde e mucchi di documenti importanti era un individuo lindo vestito con un'estrema cura troppo corto di gambe troppo lungo di naso e troppo rado di capelli aveva limpidi occhi castani che non avvocato sembrano dar fiducia sempre che se ne possa loro accordare avete infastidito la mia segretaria domandò con voce tutt'altro che limpida no uno scambio di cortesie sedetti sulla sedia del cliente lo guardai con qualcosa di molto simile alla cortesia mi è sembrata molto irritata si raggomitolò nella poltroncina alla vicepresidente e indurì la grinta è impegnata per tre settimane dissi non potevo aspettare tanto attento ai mali passi marlow alla larga è proprietà privata non vi direbbe l'ora oltre a essere un delizioso esemplare femminile è astuta come una volpe volete dire che sa anche scrivere a macchina estenografare anche arrossì di colpo ho già sopportato più del necessario di voi state attento molto attento in questa città ho abbastanza influenza ma adesso sentiamo il rapporto vediamo di essere rapidi e concisi avete parlato con washington lasciate perdere quel che ho fatto o non ho fatto voglio immediatamente il rapporto il resto non vi riguarda dove si trova in questo momento la king prese una bella matita ben temperata e un bel blocchetto di carta bianca poi lasciò cadere la matita e si versò un bicchier d'acqua da un termos nero e argento trattiamo dissi voi mi dite perché volete trovarla e per conto di chi stiamo lavorando e io vi dico dov'è siete stato assunto da me rimbeccò l'avvocato non sono tenuto a darvi informazioni di alcun genere faceva ancora il duro ma incominciava a sfilacciarsi un poco sono al vostro servizio se ne ho voglia signor amney non ho accettato assegni non ho firmato accordi avete accettato l'incarico avete preso un anticipo la signorina vermilia mi ha dato un assegno di 250 dollari come anticipo e un altro di 200 per le spese ma non li ho incassati eccoli qui tolsi i due assegni dal portafogli e li deposi sulla scrivania davanti a lui meglio che li teniate voi finché non avrete deciso se volete un investigatore o uno schiavo e ve li terrete anche finché non avrò scoperto se mi hanno offerto un incarico o mi hanno tirato dentro come un idiota in una faccenda della quale non so nulla guardò gli assegni non era affatto contento avete già avuto delle spese disse debolmente non vi preoccupate signor amney ho qualcosa da parte me la caverò e inoltre mi sono divertito siete molto cocciuto signor marlow non lo escludo ma è necessario nel mio mestiere altrimenti non avrei lavoro vi ho detto che la ragazza è ricattata i vostri amici di washington devono sapere il perché se è una delinquente bene ma mi va detto e ho ricevuto un'offerta che voi non potreste superare sareste disposto a cambiare partito per del denaro domandò con ira nella voce non sarebbe morale risi adesso siamo arrivati alla morale chissà che alla fine non si concluda qualcosa prese una sigaretta e l'accese con un accendisigaro panciuto dello stesso stile del termos e delle penne il vostro atteggiamento continua a non piacermi brontolò ieri non sapevo più di quanto ne sapeste voi ritenevo certo che un rinomato studio legale di washington non mi avrebbe chiesto di far nulla di contrario all'etica legale poiché la ragazza poteva essere arrestata senza nessuna difficoltà ho pensato che si trattasse di una seccatura domestica una moglie o una figlia fuggita o un importante ma riluttante testimonio già fuori dalla giurisdizione dove avrebbe potuto essere costretto a comparire ma erano soltanto mie supposizioni stamattina le cose sono un poco diverse si alzò e andò alla grande finestra girò le listelle delle veneziane in modo che il sole non cadesse sulla scrivania poi rimase a fumare a guardare fuori e infine tornò alla scrivania sedette di nuovo stamattina riprese lentamente con un figlio meditabondo ho parlato con il mio collega di washington e sono stato informato che la ragazza era la segretaria di un uomo importante e influente il nome non mi è stato comunicato e che si è allontanata con documenti pericolosi prelevati dal suo archivio privato documenti che potrebbero nuocergli se fossero resi di pubblica ragione non mi è stato detto in che senso forse aveva alterato la cartella delle tasse oggigiorno non si può mai sapere ha portato via quella roba per ricattarlo amney annui così si presume per lei non avevano altro valore il cliente lo chiameremo signor a non ha saputo della partenza della ragazza se non quando era ormai in un altro stato allora ha eseguito un controllo negli archivi e si è accorto della scomparsa dei documenti preferisce non rivolgersi alla polizia è convinto che la ragazza si allontanerà quel tanto che occorre per sentirsi al sicuro e allora darà inizio le trattative per la restituzione a caro prezzo del materiale vuole scoprire dov'è senza che lei lo sappia a correre e prenderla di contropiede soprattutto prima che si metta in contatto con qualche avvocato di pochi scrupoli come mi dispiace doverlo dire ce ne sono molti e prima che insieme a quest'avvocato di pochi scrupoli riesca a trovare un sistema per mettersi fuori portata ora venite a dirmi che qualcuno la ricatta a che proposito se la vostra storia regge potrebbe essere perché qualcuno è in grado di rovinarle l'impresa dissi forse sa qualcosa su di lei che potrebbe mandarla dentro senza neanche aprire l'altra scatola di dolci se la mia storia regge rimbeccò l'avvocato come sarebbe a dire è piena di buchi sembra un colabrodo signor amney vi hanno raccontato delle fandonie prima di tutto non capisco perché questo signore abbia conservato documenti a quanto mi dite pericolosissimi e se proprio ci teneva a non buttarli via perché andarli a mettere dove una qualsiasi segretaria poteva trovarli e se non si è accorto della scomparsa dei documenti prima della partenza della ragazza come è riuscito a farla seguire in treno inoltre la fuggiasca aveva comperato un biglietto per la california ma poteva scendere in un posto qualsiasi di conseguenza era necessario seguirla anche sul treno e se così è stato fatto che bisogno c'era che la seguissi da qui il mio tono stava diventando pesante e poi per questa faccenda da come me la raccontate ci vorrebbe una agenzia molto in grande con diramazione in tutto il paese sarebbe un'idiozia rischiare un uomo solo ieri l'ho perduta potrei perderla di nuovo ci vogliono almeno sei persone per un pedinamento efficace in una zona abbastanza vasta e sei sono il minimo in una città molto grande ce ne vogliono dodici devono mangiare dormire cambiarsi la camicia se uno segue in macchina deve poter mollare immediatamente un altro mentre trova il posto per parcheggiare i magazzini e gli alberghi possono avere una mezza dozzina di uscite ma quella ragazza non fa altro che starsene per tre ore in bella mostra nella sala d'aspetto della union station e i vostri amici di washington non fanno altro che spedire per posta la fotografia chiamarvi al telefono e rimettersi a guardare la televisione molto chiaro disse c'è altro il suo viso era di pietra sì ancora qualcosa perché se non si aspettava di essere seguita ha cambiato nome perché se si aspettava di essere seguita lo ha reso tanto facile vi ho già detto che altri due individui lavorano sullo stesso lato della strada uno è un investigatore privato di kansas city di nome gobel ieri sera esmeralda sapeva benissimo dove andare chi glielo ha detto io ho dovuto inseguirla sganciare all'autista del mio tassi perché usasse il radiotelefono e scoprisse dove andava l'altro tassi e adesso ditemi perché mi avete dato questo incarico ci arriveremo disse amne in tono brusco chi è l'altro che come dite voi lavora sullo stesso lato della strada un individuo di nome michel vive laggiù l'ha incontrata in treno le ha prenotato il posto a esmeralda sono così sollevai due dita incrociandole a parte che lei lo odia a morte lui le tiene sospeso sulla testa il fatto che sa chi è di dove viene quel che è successo laggiù e perché cerca di nascondersi sotto un altro nome questo sono riuscito a scoprirlo ma niente più amne in tono acido disse certamente la ragazza era seguita anche sul treno credete di avere a che fare con degli idioti siete servito soltanto come diversione per scoprire se avesse complici o no con la vostra reputazione contavo su di voi per far tanto baccano che se ne sarebbe accorta probabilmente saprete che cos'è un pedinamento aperto uno che si fa scoprire di proposito dalla persona in questione poi la molla in modo che un altro possa ricominciare quando la persona si sente al sicuro questa è stata la vostra parte mi sorrise con aria sprezzante ma non mi avete detto ancora dov'è non volevo dirglielo ma sapevo di doverglielo dire avevo accettato il suo incarico e la restituzione del denaro era soltanto una mossa per costringerlo a darmi qualche informazione allungai una mano e presi l'assegno di 250 dollari lo prendo come pagamento intero spese comprese si trova la casa del poniente a esmeralda sotto il nome di betty mayfield è carica di denaro ma naturalmente la vostra esperta organizzazione è già al corrente di tutto mi alzai grazie della fregatura signor amney uscì e richiusi la porta la signorina vermiglia alzò la testa da una rivista sentì un lieve scatto attutito sulla sua scrivania spiacente di essere stato scortese dissi stanotte non ho dormito lasciate perdere schermaglie con un poco di pratica potrei anche trovarvi di mio gusto siete abbastanza piacevole in modo alquanto primitivo grazie andai verso la porta non posso dire che avesse l'aria vogliosa ma non sembrava più difficile da guantarsi del controllo sulle azioni della general motors tornai indietro e chiusi la porta credo che stasera pioverà non c'è qualcosa che si potrebbe discutere in una serata di pioggia se non siete troppo occupata mi lanciò un'occhiata rapida e incuriosita dove dove volete passo da casa vostra sarebbe maledettamente carino quella flitwood darebbe una spinta alle mie azioni nella zona non pensavo a questo neanch'io verso le sei e mezzo e starò attenta alle calze ci contavo i nostri sguardi si incontrarono uscì in fretta capitolo 12 alle sei e mezzo la flitwood fece le fuse davanti alla mia porta che tenevo già aperta quando la signorina vermilia salì la scala indossava un mantello color carne con il bavero alzato intorno ai capelli platinati si piantò nel centro del soggiorno e si guardò in giro distrattamente poi scivolò fuori dal mantello con un movimento agile lo gettò da parte e sedette non credevo che sareste venuta dissi sapevate maledettamente bene che sarei venuta scocce soda se ne avete ne ho portai da bere sedetti accanto a lei ma non abbastanza vicino da significare qualcosa accostammo i bicchieri e bevemmo vi andrebbe da romano per pranzo e poi dove abitate los angeles ovest una casa in una vecchia strada tranquilla il caso vuole che sia di mia proprietà vi ho invitato se ricordate dipende da voi naturalmente pensavo che foste un tipo duro volete dire che il pranzo non me lo devo pagare io con questa vi siete meritata uno schiaffo risi all'improvviso e mi guardò da sopra l'orlo del bicchiere mi considero schiaffeggiata c'eravamo sbagliati tutti e due romanov può aspettare che ne dite potremmo provare prima a los angeles ovest perché non qui mi pianterete in asso qui un anno e fa ho fatto un sogno ne resta ancora un brandello me lo voglio tenere si alzò in piedi di scatto e afferrò il mantello potei aiutarla a infilarlo dolente dissi forse avrei dovuto dirvelo prima se volse avvicinando il viso al mio ma non la toccai dolente di aver fatto un sogno di averlo tenuto vivo anch'io ho fatto sogni ma i miei sono scomparsi non ho avuto il coraggio di tenerli in vita non è proprio così c'è stata una donna era molto ricca credeva di volermi sposare probabilmente non la rivedrò mai più ma ricordo ancora andiamo disse sottovoce e lasciamo perdere i ricordi vorrei averne almeno uno che valesse qualcosa mentre scendevamo in strada non la toccai guidava magnificamente quando una donna guida bene è quasi perfetta capitolo 13 la casa si trovava in una strada silenziosa tra san vincent e sanchez boulevard un breve vialetto tra gli alberi conduceva all'ingresso nella parte posteriore aprì la porta e accese le luci in tutta la casa poi scomparve senza una parola il soggiorno arredato con originale buon gusto dava una sensazione di benessere tornò con due grossi bicchieri si era tolta il mantello sei già stata sposata vero dissi non è andata ne ho ricavato questa casa e un poco di denaro ma non volevo niente era un caro ragazzo ma non si andava d'accordo adesso è morto incidente aereo pilota di reattori succede continuamente c'è un posto vicino a san diego pieno di ragazze sposate con piloti di reattori quando erano vivi presi un sorso dal bicchiere lo deposi le levai il bicchiere di mano e posi anche quello ricordi quando mi hai detto di smetterla di guardarti le gambe credo di sì adesso prova a farmi smettere la tirai a me venne tra le mie braccia senza una parola la sollevai e non so come trovai la camera la deposi sul letto le tirai sulla gonna oltre le cosce bianche dove finivano le lunghe calze trasparenti mi afferrò la testa e se la premette contro il seno animale non si potrebbe avere meno luce andai a spegnere la luce un lieve bagliore veniva dal corridoio quando mi voltai era in piedi vicino al letto nuda come afrodite che esce dall'egeo stava immobile e fiera ma non era in pudica accidenti dissi quando ero giovane si poteva ancora spogliare lentamente una ragazza oggigiorno è già a letto mentre l'altro lotta ancora con il colletto delle camicia tirò giù la coperta e si distese sul letto tutta nuda era soltanto una bellissima donna nuda cosciente della propria bellezza e priva delle solite noiose inibizioni soddisfatto delle mie gambe domandò non risposi quando ci parlammo disse in tono sognante ho detto che c'è in te qualcosa che mi piace cioè che non allunghi le mani e qualcosa che non mi piace sai che cosa no che non mi hai costretta a farlo allora il tuo atteggiamento non era molto incoraggiante si dice che tu sia un investigatore per piacere spegni tutte le luci poi poco dopo nel buio diceva caro caro con quel tono speciale che una donna adopera soltanto in quei momenti speciali poi un lento dolce rilassarsi la pace il silenzio sempre soddisfatto delle mie gambe mormorò impossibile sono un'angoscia continua sempre per quanto faccia l'amore con te mostro orribile mostro vieni più vicino mise la testa sulla mia spalla ora stavamo molto vicini non ti amo disse e perché dovresti amarmi ma cerchiamo di non essere troppo cinici ci sono momenti sublimi anche se sono soltanto momenti che non potranno mai più ripetersi la sentivo tesa e calda accanto a me il suo corpo traboccava di vitalità le belle braccia mi tenevano stretto e di nuovo nel buio quel grido soffocato poi di nuovo la pace silenziosa ti odio disse con la bocca sulla mia bocca non per questo ma perché la perfezione non riesce mai due volte e a noi è riuscita troppo presto non ti rivedrò mai più e non voglio rivederti dovrebbe essere per sempre o mai più e ti comportavi come la passeggiatrice da strapazzo che di vita sbagliata ne avesse vista troppa anche tu avevamo torto tutti e due ma è inutile baciami più forte all'improvviso non era più nel letto se n'era andata senza movimento e senza rumore dopo un poco la luce si accese nel corridoio apparve sulla soglia avvolta in una lunga veste da camera addio disse con calma chiamo un taxi dico che aspetti fuori non mi rivedrai mai più e amney un povero stupido spaventato ha bisogno di qualcuno che lo tenga su che gli dia la sensazione del potere della conquista gliel'ho data il corpo di una donna non è tanto sublime da non poter essere usato soprattutto quando è già fallita in amore scomparve mi alzai mi vestì e prima di uscire rimasi in ascolto non sentì nulla chiamai ma non ci fu risposta quando uscì sul marciapiede il taxi arrivava allora di fronte alla casa mi voltai a guardare la casa sembrava immersa nel buio non ci abitava nessuno era stato un sogno ma qualcuno aveva chiamato il taxi capitolo 14 partì da los angeles per la grande autostrada che passa nei dintorni di oceanside avevo molto tempo per pensare da sananofre a oceanside ci sono 36 chilometri della grande autostrada a sei carreggiate punteggiata a intervalli da carcasse nude contorte di automobili abbandonate destinate ad arrugginire sotto la grande massicciata finché qualcuno non le porta via e così mi misi a pensare alla ragione per la quale tornavo a esmeralda era una faccenda complicata e soprattutto non mi riguardava più di solito un investigatore trova un cliente che per poco denaro vuole troppe informazioni le informazioni si trovano non si trovano a seconda delle circostanze lo stesso vale per il pagamento ma ogni tanto capita di trovare le informazioni e anche altro troppo come sarebbe un cadavere che non c'è più quando si va a cercarlo il buon senso dice torna a casa e scorda tutto denaro non ce n'è il buon senso interviene sempre troppo tardi il buon senso è come il tipo che viene a dirvi che avreste dovuto far controllare i freni una settimana prima di sfasciare la macchina il buon senso è l'attaccante che il lunedì mattina avrebbe vinto la partita di domenica se fosse stato in squadra ma non c'è mai il buon senso è l'omino vestito di grigio che non sbaglia mai un'addizione ma fa sempre i conti con il denaro degli altri alla svolta infilai il canyon e scesi fino al rancio descansado jack e lucille erano al loro solito posto deposi la valigia e minchinai sulla scrivania esatto quel che ho lasciato sì grazie rispose jack volete di nuovo la stessa camera se è possibile perché non ci avete detto che siete un investigatore che domanda gli sorrisi un investigatore va in giro a dire che un investigatore la guardate la tv o no quando trovo il tempo non molto spesso alla tv un investigatore lo si riconosce subito non si leva mai il cappello che cosa sapete sul conto di larry mitchell niente rispose jack in tono sostenuto è amico di brandon il signor brandon è il proprietario lucille intervenne tutta allegra avete trovato joy arms sì grazie e avete uh uh chiudi il becco piccina ordinò secco jack mi strizzò l'occhio e spinse la chiave sul banco verso di me lucille vive una vita monotona signor marlow è qui condannata con me il mio centralino è un anello con un brillante così piccolo mi vergognavo di darglielo ma che cosa si può fare quando si ama una ragazza lo si deve dimostrare lucille sollevò la mano e la mosse per far luccicare il brillante lo odio disse guardandolo lo odio come odio il sole l'estate le stelle lucenti e la luna piena così tanto lo odio presi la chiave la valigia e me ne andai ancora un poco di quella storia mi sarei innamorato di me stesso avrei finito con regalarmi un anellino qualsiasi senza pretese capitolo 15 alla casa del poniente la camera 1224 non rispondeva andai al banco un impiegato dall'area severa divideva la corrispondenza lo fanno sempre la signorina mayfield abita qui vero domandai prima di rispondere mise una lettera in una casella sì signore chi devo annunciare conosco il numero della sua camera non risponde l'avete vista oggi mi dedicò una parte più vasta della sua attenzione ma non lo mandavo davvero in estasi non credo rispose si volse a guardare la chiave non c'è volete lasciare un messaggio sono preoccupato ieri sera non si sentiva bene potrebbe essere in camera e stare tanto male da non rispondere al telefono sono un amico mi chiamo marlow mi guardò attentamente i suoi occhi erano pieni di saggezza scomparve dietro un paravento dalla parte dell'ufficio cassa e parlò con qualcuno tornò quasi subito sorrideva non credo che la signorina mayfield stia male signor marlow ha ordinato un abbondante prima e seconda colazione in camera e ha ricevuto molte telefonate grazie infinite dissi lascerò un messaggio soltanto il nome è che richiamerò più tardi potrebbe essere fuori in giardino sulla spiaggia disse abbiamo una bella spiaggia riparata dal molo guardò l'orologio alle sue spalle se alla spiaggia non si tratterrà molto farà freddo molto presto grazie tornerò la parte centrale dell'atrio si raggiungeva salendo tre scalini e passando sotto un'arcata c'era molta gente i soliti appassionati degli altri d'albergo piuttosto anziani piuttosto ricchi che non fanno altro che guardare con occhi avidi trascorrono l'esistenza così due vecchie signore dalle facce severe dalle permanenti violace lottavano con un enorme gioco di pazienza sistemato su un tavolino da gioco più oltre si svolgeva una partita di canasta due donne due uomini una delle due donne portava indosso tanti ghiaccioli da raffreddare il deserto di moujav e tanto trucco da dipingere un vaporetto tutte e due fumavano con bocchini lunghissimi gli uomini che stavano con loro sembravano grigi e stanchi probabilmente a forza di firmare assegni più lontano seduta in modo da poter guardare fuori dalla vetrata una giovane coppia si teneva per mano la ragazza aveva un luccicone di smeraldi e diamanti e la fede matrimoniale e continuava a sfiorarli con la punta delle dita aveva un'aria trassognata quasi intontita uscì dalla parte del bar e vagabondai per il giardino presi il sentiero che costeggiava il dirupo e riconobbi senza difficoltà il punto che si vedeva dal balcone di betty mainfield lo riconobbi per la posizione d'angolo acuto la spiaggia e il piccolo molo ricurvo si trovavano a una ventina di metri di distanza ci si arrivava scendendo una scala c'era gente distesa sulla sabbia alcuni indossavano costumi da bagno altri pantaloncini altri stavano soltanto seduti su qualche telo i bambini correvano dappertutto strillando betty mainfield non era sulla spiaggia tornai all'albergo e andai a fermi nell'atrio fumai andai all'edicola comperei un giornale della sera e lo buttai via mi avvicinai al banco il mio biglietto era ancora nella casella 1224 andai al telefono interno e chiamai il signor michel non risponde spiacente il signor michel non risponde una voce di donna parlò dietro di me il portiere mi ha detto che volete vedermi signor marlow disse siete voi il signor marlow era fresca come una rosa di maggio indossava pantaloni verde scuro un paio di mocassini una giacca a vento verde sulla camicetta bianca e una sciarpa la fascia che le tratteneva i capelli creava un gradevole effetto alla colpo di vento un inserviente allungava le orecchie da due metri di distanza e dissi signorina mayfield sono la signorina mayfield ho la macchina qua fuori avete il tempo di venire a vedere la casa guardò l'orologio sì direi di sì rispose dovrei andare a cambiarmi ma oh va bene da questa parte signorina mayfield mi seguì attraversammo l'atrio incominciavo a sentirmi di casa betty mayfield lanciò uno sguardo feroce le due vecchie signore intenti al gioco di pazienza odio gli alberghi disse se tornassi qui tra 15 anni dovrei le stesse persone sedute sulle stesse sedie sì signorina mayfield conosci qualcuno che si chiama clyde amney scosse la testa dovrei conoscerlo helen vermilia ross gobel scosse di nuovo la testa bevi qualcosa non ora grazie uscimo dal bar e ci avviamo lungo il sentiero lei aprì lo sportello della holtz uscì a marcia indietro e infilai grand street verso le colline betty si mise sul naso un paio di occhiali neri iridescenti ho trovato gli assegni disse sei uno strano tipo di investigatore mesi la mano in tasca tirai fuori la boccetta del sonnifero ieri sera ero spaventato dissi le ho contate ma non sapevo quante ce ne dovessero essere hai detto di averne prese due non potevo essere certo che non ti saresti alzata per inghiottirne un pugno prese la boccetta e la mise nella tasca della giacca a vento avevo bevuto parecchio l'alcol e i barbiturici non vanno d'accordo credo di essere crollata di botto non era niente di grave comunque adesso è passata del tutto beh non lo sapevo ci vogliono almeno 35 grani di quella roba per uccidere e anche in quel caso ci vogliono molte ore ero in una situazione difficile il polso e il respiro andavano bene ma non sapevo se sarebbe durata se chiamavo un medico rischiavo di dover dare molte spiegazioni se ne avevi presa una dose eccessiva sarebbero entrati in ballo quelli della omicidi anche se finiva tutto bene fanno indagini su tutti i tentati suicidi ma se sbagliavo oggi non saresti qui con me e dove saresti stata è un'idea rispose ma non ho intenzione di mettermi a pensarci chi sono quelli che hai nominati clyde amney è l'avvocato che mi ha dato l'incarico di seguirti dietro istruzioni di uno studio legale di washington ellen vermiglia è la sua segretaria ross gobel è un investigatore privato di kansas city che dice di voler trovare michel glielo descrissi il suo viso divenne di pietra michel perché ti interessa al di larry mi fermai all'angolo della grand street per consentire a un vegliardo su una poltrona a rotelle motorizzata di svoltare a sinistra a 5 chilometri l'ora esmeralda è piena di questi maledetti arnesi perché cerca l'herry michel domandò betti con amarezza non possono piantarla tutti una buona volta non dirmi niente ti raccomando dissi continua a farmi domande alle quali non sono in grado di rispondere fa bene al mio complesso di inferiorità ti ho detto che non lavoro più e allora perché sono qui facile cerco di reagguantare quei 5.000 dollari di traveler chic svolta a sinistra all'angolo disse e possiamo salire sulla collina di lassù c'è un panorama meraviglioso e un mucchio di case eccezionali badano al diavolo lassù è anche molto tranquillo prese una sigaretta dal pacchetto fissato al cruscotto e l'accese con questa fanno due in due giorni dissi ci stai dando sotto ieri sera ho contato le tue sigarette e i fiammiferi ho frugato nella tua borsa quando mi ritrovo impelagato in una faccenda strana come questa divento piuttosto curioso specialmente quando la cliente crolla e mi molla in grembo il pupo sono stati il sonnifero e l'alcol disse ero fuori squadra arancia descansato eri in ottimo stato solida come acciaio dovevamo partire per rio e vivere nel lusso e a quanto pare anche nel peccato bastava che sganciassi il cadavere che fregatura niente cadavere mi fissava ancora ma dovevo stare attento alla guida proseguì ancora poi svoltai a sinistra e infilai una strada a senso unico con le vecchie rotaie del tram ancora incastrate nel selciado sconnesso volta a sinistra e dopo quel cartello laggiù c'è la scuola superiore chi ha sparato con la pistola e a che cosa si premette le tempie con le mani forse sono stata io devo essere stata pazza dov'è la pistola al sicuro nel caso il tuo sogno si avverasse all'improvviso potrei essere costretto a farla salta al fuori ora la strada saliva mesi la hold in terza betty osservò con interesse si guardò attorno considerò i sedili di cuoio chiaro e i diversi meccanismi come mai puoi permetterti una macchina così costosa non guadagni molto denaro vero sono tutte costose ormai anche quelle a buon mercato tanto vale prenderne una che possa viaggiare ho letto da qualche parte che uno come me dovrebbe sempre avere una macchina scura insignificante per non farsi notare chi l'ha scritto non era mai stato a los angeles dove per farsi notare bisogna avere una mercedes benz rosa carne una veranda sul tetto e tre belle ragazze che prendono il sole ridacchiò e inoltre approfondì è un'ottima pubblicità e a rio potrei venderla per di più di quel che l'ho pagata nuova con un mercantile il trasporto non verrebbe a costare molto sospirò o smettila di prendermi in giro con questa storia oggi non ho voglia di scherzare hai visto in circolazione il tuo amichetto rimase immobile larry ne hai altri beh pensavo che parlassi di clac brandon lo conosco appena larry ieri sera era molto ubriaco no non l'ho visto forse ci sta ancora dormendo sopra non risponde al telefono la strada si biforcava una linea bianca girava verso sinistra continuai dritto senza una ragione particolare passammo davanti ad alcune vecchie case spagnole alte sul pendio ed alcune case molto moderne in basso dall'altra parte la strada proseguiva in un'ampia curva verso destra il selciato sembrava nuovo arrivammo in un vasto piazzale dove sorgevano due grandi ville in mattoni di vetro le finestre che guardavano verso il mare avevano i vetri verdi il panorama era splendido lo contemplai per tre secondi consecutivi andai a fermarmi contro il parapetto in fondo al piazzale e spensi il motore stavamo a un'altezza di 300 metri circa e l'intera città si stendeva davanti a noi come una fotografia di 45 gradi presa dall'alto potrebbe star male dissi potrebbe essere uscito per quel che ne sappiamo potrebbe addirittura essere morto ti ho detto prese a tremare le levai di mano il mozzicone di sigaretta e lo spensi nel portacenere chiusi i finestrini e le misi un braccio intorno alle spalle si abbandonò contro di me ma tremava ancora sei un uomo comodo disse ma non aver fretta c'è una bottiglia là dentro ne vuoi un sorso sì presi la bottiglia e riuscì a staccare la striscia di metallo con i denti e una mano mesi la bottiglia tra le ginocchia e svitai il tappo gliela avvicinai alle labbra ne beve un sorso e rabbrividi avvitai il tappo e riposi la bottiglia odio bere alla bottiglia disse è poco raffinato non cerco di amoreggiare con te e betty sono preoccupato vuoi che ti aiuti tacque per un attimo poi parlò con voce ferma riprenditi quegli assegni erano i tuoi te li ho dati non si distribuiscono cinque pezzi da mille a questo modo non ha senso per questa ragione sono tornato da los angeles ci sono andato stamani molto presto nessuno perde la capoccia per un tipo come me parla di mezzo milione di dollari e propone di andare a rio a stabilirsi in una bella casa con tutti i lussi nessuno ubriaco sobrio fa una cosa simile perché ha sognato che c'era un morto sul suo balcone per piacere potevo sbrigarmi io a batterlo nell'oceano che cosa ti aspettavi da me arrivando all'albergo che ti tenessi la mano mentre sognavi si scostò e si rannecchiò dall'altra parte del sedile va bene sono una bugiarda sono sempre stata una bugiarda guardai nello specchietto retrovisivo una piccola automobile scura aveva infilato la strada dietro di noi e si era fermata non vedevo chi o che cosa ci fosse dentro poi salì sul marciapiede manovrò rapidamente e tornò indietro avevano sbagliato e si erano accorti che la strada finiva sul piazzale mentre salivo quelle maledettissime scale ripresi hai inghiottito le compresse poi hai finto di essere spaventosamente assonnata e poi dopo un poco ti sei addormentata per davvero questo lo credo bene sono andato sul balcone niente stecchito niente sangue se ci fosse stato il morto forse sarei riuscito a fargli scavalcare il parapetto lavoro duro ma non impossibile ma sei elefanti ben addestrati non sarebbero riusciti a lanciarlo tanto lontano da farlo ammarare nell'oceano ci sono 15 metri dalla base dell'edificio alla palizzata e occorreva lanciarlo tanto al di là da fargli superare la palizzata è impossibile lanciare di là un oggetto pesante come un uomo in modo da fargli superare quei 15 metri te l'ho detto che sono una bugiarda ma non mi hai detto il perché siamo seri ammettiamo che sul tuo balcone ci fosse un morto che cosa avrei dovuto fare io secondo te portarlo giù a braccia per le scale infilarlo nella macchina andarmene da qualche parte nei boschi a seppellirlo quando c'è in ballo qualche cadavere dovresti confidarti con chi ti sta vicino hai preso il denaro disse con voce atona sei stato al gioco per scoprire chi dei due era pazzo lo hai scoperto dovresti esserne soddisfatto non ho scoperto niente neanche chi sei sia dirò te lo avevo detto che avevo perso la testa esclamò con violenza paura preoccupazioni alcol sonniferi perché non mi lasci in pace te l'ho detto ti restituisco il denaro che cosa vuoi ancora che cosa devo fare per avere il denaro prendilo e basta ora parlava con voce sicura non devi fare niente prendilo e vattene lontano molto lontano secondo me ti occorre un buon avvocato una contraddizione in termini osservò se fosse buono non sarebbe avvocato esatto è così hai avuto qualche esperienza spiacevole in questo campo finirò col saperlo da te o in qualche altro modo ma continuo a parlare seriamente sei nei guai a parte quel che è accaduto a michel sei già abbastanza nei guai e farai bene a procurarti un avvocato hai cambiato nome per qualche ragione uno studio legale di washington ti cerca per qualche ragione e il loro cliente ha le sue buone ragioni per farti ricercare da loro tacqui e la guardai non la vedevo bene nel crepuscolo che calava laggiù in fondo l'oceano diventava azzurro di un azzurro cupo che mi ricordò gli occhi della signorina vermilia uno stormo di gabbiani si diresse a sud in una massa quasi compatta l'aereo della sera di los angeles veniva lungo la costa con le luci di bordo accese il faro sotto la fusoliera si accese e l'apparecchio virò largo sul mare in un lungo pigro cerchio verso l'aeroporto di lindeberg e così non sei altro che l'uomo tutto fare di un avvocato equivoco disse betti con cattiveria e afferrò un'altra sigaretta non è molto equivoco si dà forse troppo da fare ma questo non c'entra puoi sganciargli qualche dollaro senza metterti a piangere il punto è qualcosa che si chiama segreto professionale un investigatore autorizzato non ce l'ha un avvocato si quando si assume l'incarico di occuparsi degli interessi del cliente che lo ha consultato se l'avvocato ingaggia un investigatore perché si occupi di quegli interessi allora anche l'investigatore ha il suo segreto professionale può averlo soltanto in questo modo lo sai quel che puoi farne del tuo segreto professionale disse soprattutto sei stato un avvocato a darti l'incarico di spiarmi le tolsi di mano la sigaretta presi un paio di boccate poi gliela restituì va bene betti non ti servo a nulla scordati che ho tentato di darti una mano belle parole ma soltanto perché pensi che ti pagherò di più se mi aiuti sei come tutti gli altri e non voglio neanche la tua maledetta sigaretta la gettò dal finestrino riportami in albergo scesi dalla macchina e schiacciai la sigaretta non si deve mai farlo sulle colline della california le dissi neanche fuori stagione risali in macchina girai la chiave premetti il pulsante della messa in moto indietreggiai girai e raggiunsi la curva dove la strada si divideva sulla linea bianca della curva c'era una piccola macchina ferma affari spenti poteva essere vuota puntai con decisione verso la parte opposta della strada e accesi di colpo gli abbaglianti mentre giravo essi illuminarono la macchina un cappello si abbassò su un viso ma non abbastanza rapidamente da nascondere gli occhiali la larga faccia e le orecchie del signor ross gobel di kansas city girai del tutto e infilai la strada che scendeva dalla collina e lunghe curve pigre non sapevo dove andasse ma tutte le strade di quella zona prima o poi arrivano all'oceano in fondo c'era un incrocio a t voltai a destra e dopo aver percorso una stradina angusta raggiunsi il viale e girai di nuovo a destra mi diressi verso la zona centrale di esmeralda betty non parlò più finché non arrivammo all'albergo quando mi fermai salto a terra rapidamente se aspetti qui ti porto il denaro siamo stati seguiti dissi che cosa si fermò di colpo con la testa girata per metà una macchina piccola non puoi averla notata se non guardavi quando l'ho illuminata con gli abbaglianti mentre svoltavo in cima alla collina chi era la voce suonava tesa e come faccio a saperlo deve averci seguiti da qui perciò tornerà qui potrebbe essere un poliziotto si volse a guardarmi immobile raggelata fece un passo avanti lentamente poi mi si gettò addosso come se volesse graffiarmi la faccia mi afferrò per le braccia e cercò di scuotermi il fiato le usciva similando portami via di qui portami via di qui per amor del cielo in qualsiasi posto nascondimi dammi un poco di pace in un posto dove non possono seguirmi perseguitarmi minacciarmi ha giurato che lo avrebbe fatto ha giurato che mi avrebbe seguita fino in capo al mondo alla più remota isola del pacifico sulla vetta della montagna più alta nel cuore del deserto più solitario dissi deve aver letto un libro piuttosto antiquato lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi hai i sentimenti di uno squalo non ti porto in nessun posto dissi qualsiasi cosa sia quel che ti tormenta resterai dove sei e la farai finita mi voltai e salì in macchina quando guardai era già a metà strada verso l'ingresso del bar camminava a passi rapidi capitolo 16 se avessi avuto un minimo di buonsenso sarei andato a prendere la valigia e sarei tornato diretto a casa lasciandola perdere definitivamente quando avesse deciso la parte da recitare in quale atto e di quale commedia probabilmente ormai sarebbe stato troppo tardi perché potessi farci qualcosa a parte il fatto di lasciarmi pizzicare per vagabondaggio aspettai fumando gobel e la sua schifosa carriola dovevano comparire infilarsi nel posteggio da un momento all'altro aveva cominciato l'inseguimento dall'albergo e all'albergo doveva tornare tanto più che ci aveva seguiti soltanto per uno scopo per sapere dove andavamo non comparve finì la sigaretta la gettai via e uscì a marcia indietro mentre svoltavo dal viale nella strada vidi la macchina ferma sull'altro lato sulla sinistra proseguì e svoltai a destra senza forzare l'andatura perché non fondesse per starmi dietro a un paio di chilometri c'era un ristorante chiamato epicuro una toia bassa e un muro di mattoni lo nascondevano dalla strada aveva un bar l'ingresso si trovava di lato entrai non c'era nessuno il barista chiacchierava col capo cameriere che non indossava ancora la giacca consultavano uno di quei libri lunghi e stretti dove si segnano le prenotazioni diedi un'occhiata e scorsi una fila di nomi ma era ancora presto potevo andare a un tavolo la sala da pranzo illuminata da candele era divisa in due da una bassa parete 30 persone l'avrebbero affollata il capo cameriere mi accompagnò a un tavolo d'angolo e accese la candela dissi che volevo un doppio gibson un cameriere si avvicinò e incominciò a levare dal tavolo l'altro coperto gli dissi di lasciar stare forse un amico mi avrebbe raggiunto scrutai il menù grande quanto la sala da pranzo o quasi se fossi stato curioso per leggerlo mi ci sarebbe voluta una lampadina a pila era il locale più buio nel quale fossi mai entrato al tavolo vicino avrebbe potuto esserci mia madre e non l'avrei riconosciuta il gibson arrivò riuscivo a vedere la sagoma del bicchiere sembrava che dentro ci fosse qualcosa lo assaggiai e non era male in quel momento gobble si infilò nella sedia di fronte alla mia anche se quasi non lo vedevo mi parva identico al giorno prima continuai a scrutare il menù chissà perché non lo stampavano in caratteri per ciechi gobble allungò una mano prese il mio bicchiere di acqua gelata e beve come vi va con la ragazza domandò in tono distratto maluccio perché e cosa ci andate a fare sulla collina l'idea era di provare ma lei non ne aveva voglia vi riguarda pensavo che cercaste un tipo di nome michelle molto molto strano un tipo di nome michelle mai sentito nominare vero da allora sì l'ho visto era ubriaco molto ubriaco si è quasi fatto scaraventare fuori a pedate da un pubblico locale molto strano disse gobble soghignando e come mai sapete come si chiama perché qualcuno l'ha chiamato ma sarebbe troppo strano no soghignò vi ho detto di starmi fuori dai piedi ora so chi siete mi sono informato accesi la sigaretta e gli soffiai fumo in faccia va a friggere un uovo marcio duro è soghignò ho staccato braccia e gambe a gente più robusta sentiamo i nomi si chinò sul tavolo e il cameriere si avvicinò bourbon e acqua disse gobble roba buona niente di quelle porcherie da bar e non provate c'è imbrogliarbi me ne accorgerei subito e acqua minerale quella di qui è schifosa il cameriere lo guardò in silenzio un altro disse spingendo il bicchiere verso di lui che cosa c'è di buono stasera domandò gobble quei cartelloni mi hanno fastidio agitò un dito sprezzante in direzione del menù che il cameriere gli porgeva il platosur e l'arrosto disse in tono gelido il cameriere che schifo disse gobble vada per l'arrosto il cameriere mi guardò dissi che andava bene anche per me il cameriere se ne andò gobble si chinò di nuovo sul tavolo dopo aver lanciato una rapida occhiata dietro di sé ai lati vi sta andando male amico annunciò in tono giulivo non la passerete liscia un vero peccato riconobbi e a che proposito una sfortuna nera amico nerissima calcolata male la marea o che so io un pescatore subacqueo uno di quelli con i piedi di rana e la maschera di gomma si è infilato sotto una roccia un pescatore subacqueo si è infilato sotto una roccia un brivido mi corse per la schiena quando il cameriere arrivò con i bicchieri dovetti controllarmi per non agguantare subito il mio molto strano amico provatevi a ripeterlo e vi fracasso quei maledetti occhiali ringhiai prese il bicchiere sorseggiò assaporò ci pensò poi annui sono venuto qua giù per far soldi annunciò non sono venuto per combinare guai si può far soldi combinando guai e si può far soldi tenendo il becco chiuso capito probabilmente una nuova esperienza chiesi in tutti i sensi che storia era quella del pescatore controllai la voce ma mi costò fatica si appoggiò allo schienale i miei occhi incominciavano ad abituarsi alla penombra vedevo un'espressione di godimento sulla sua faccia grassa scherzavo disse non so niente di pescatori subacquei ho imparato soltanto ieri sera come si pronuncia quella parola ma non so ancora niente e a dire il vero qualcosa di strano c'è non riesco a trovare michel abita all'albergo bevi ancora un sforzo non di più non era il momento di tuffarmici dentro probabilmente ne avrei avuto bisogno più tardi lo so che abita all'albergo amico ma non so dove si trova in questo momento non è nella sua camera quelli dell'albergo non lo hanno visto uscire pensavo che forse voi e la ragazza ne sapeste qualcosa la ragazza è matt dissi lasciatela fuori e l'accento di kansas city è un oltraggio alla morale da queste parti quando voglio farmi insegnare l'inglese non vado certamente da uno scassato spione della california voltò la testa e gridò cameriere cinque o sei persone si voltarono a guardarlo con evidente disgusto il cameriere arrivo dopo qualche secondo con la stessa espressione degli altri clienti ancora strepitò gobel schioccando le dita non è necessario urlare disse il cameriere e se ne andò col bicchiere quando voglio essere servito gli urlò dietro gobel voglio essere servito spero che il sapore dell'alcol di legna vi piaccia disse a gobel noi due si potrebbe andare d'accordo disse gobel con indifferenza se aveste un poco di cervello e se voi aveste un poco di educazione 15 centimetri di statura in più un'altra faccia un altro nome e se non vi comportaste come se foste convinto di batterli tutti sui cento metri e rana piantiamo la collinezzi e torniamo a michel esclamò globo in tono brillante e a quel bocconcino che cercavate di manipolare lassù in collina michel l'ha incontrata in treno e ha avuto su di lei lo stesso effetto che voi avete su di me le ha ispirato un vehemente desiderio di andarsene nella direzione opposta stavo sprecando il mio tempo quello era invulnerabile come il mio trisavolo o davvero soghignò e così michel per lei è soltanto una conoscenza fatta in treno e quando ha approfondito non le è riuscito simpatico e così l'ha mollato per voi che è fortuna trovarsi nei dintorni il cameriere arrivò con il pranzo preparò tutto con gesti eleganti contorno insalata pane tostato caldo avvolto nel tovagliolo caffè dissi che l'avrei ordinato dopo gobel disse di sì e domandò dove era la bevanda il cameriere rispose che arrivava subito a piccola velocità diceva il suo tono gobel assaggiò l'arrosto e assunse un'aria sorpresa accidenti è buono disse come sono entrato e ho visto così pochi clienti credevo che questo locale fosse una fregatura guardate l'orologio dissi da queste parti ci si mette in moto molto più tardi si usa così e poi siamo fuori stagione giusto molto più tardi disse ruminando molto molto più tardi le due le tre del mattino a volte la gente va a far visita agli amici siete di nuovo a rancio amico lo guardai senza rispondere devo fare il disegnino amico quando ho da lavorare sto alzato fino a tardi non dissi una parola si asciugò la bocca vi siete un poco riscosso quando ho detto di quel tale incastrato sotto una roccia o sbaglio non risposi ok chiudete pure bottega sogghignò gobel pensavo che forse si poteva fare un affaruccio insieme avete il fisico e siete solido ma non sapete proprio niente di niente niente di quel che occorre per il nostro mestiere al mio paese ce ne vuole del cervello per farsi strada fatemi una proposta dissi fra i denti mangiava molto svelto anche se parlava tanto respinse il piatto e cavò di tasca uno stuzzicadenti questa città è ricca amico disse lentamente l'ho osservata bene mi ci sono dedicato ho parlato con molta gente mi dicono che ancora uno dei pochi luoghi del nostro bel paese verdeggiante dove il denaro non basta a esmeralda bisogna esserci dentro altrimenti non si conta niente se si vuole entrarci essere invitati dappertutto e far amicizia con la gente bisogna avere classe qui c'è un tale che a kansas city in un modo nell'altro ha messo insieme 5 milioni di dollari ha comperato terreni ha costruito case alcuni tra i più bei palazzi delle città ma non entrava al beach club perché nessuno lo invitava e così l'ha comperato sanno chi è ci danno sotto a vapore quando si tratta di cavarne qualcosa ottiene quel che gli occorre paga i conti è un ottimo cittadino da gran ricevimenti ma gli ospiti vengono da fuori a meno che non siano la feccia la solita gentaglia e c'è sempre dove circola molto denaro ma la gente di classe per loro è peggio che un negro era un discorso lungo e mentre parlava ogni tanto gobl mi lanciava un'occhiata poi si guardava attorno nella sala si appoggiava comodamente allo schienale e si lavorava i denti avrà il cuore spezzato dissi come hanno fatto a sapere di dove viene il suo denaro gobl si chinò verso di me a primavera viene sempre qui in vaganza un pezzo grosso del ministero del tesoro è capitato che vedesse in giro il signor ricco sapeva tutto di lui ha sparso la voce non credete che gli si spezzi il cuore non li conosce quelli della mala che ha messo da parte la grana e sono diventati rispettabili dentro muore dissanguato amico ha scoperto che esiste qualcosa che non può comperare l'idea lo sta svuotando di dentro come un guscio e come fate a sapere questo sono in gamba mi muovo scopro i fatti tutti meno uno dissi e sarebbe se ve lo dicessi non servirebbe a niente arrivò il cameriere con la bevanda ritardata e portò via i piatti ci presentò ancora il menu basta disse gobl squagliatela il cameriere guardò lo stuzzicadenti allungò una mano e lo passe con mossa rapida di tra le dita di gobl c'è la toletta qui bravo uomo disse lasciò cadere lo stuzzicadenti nel portacenere se ne andò con il portacenere visto disse gobl classe disse al cameriere che voleva una fetta di torta al cioccolato e un caffè è il conto per il signore aggiunsi con piacere rispose il cameriere gobl assunse un'espressione di schifo il cameriere si allontanò mi appoggiai al tavolo e parlai sottovoce siete il più grosso bugiardo che abbia mai incontrato in questi due giorni e ho incontrato dei campioni non credo che abbiate un interesse per michel non credo che lo abbiate mai visto sentito nominare fino a ieri quando vi è venuta l'idea di usarlo come copertura vi hanno mandato qui per sorvegliare una donna e so chi vi ha mandato non chi paga ma chi se ne è occupato so perché è sorvegliata e so come si fa a impedire che venga sorvegliata se avete carte alte meglio giocarle subito e svelto domani potrebbe essere troppo tardi respinse la sedia e si alzò gettò una banconota spiegazzata sul tavolo e mi squadrò con molta freddezza lingua lunga cervello scarso disse risparmiatela per giovedì mattina quando metterò fuori i bidoni della spazzatura amico non sapete proprio niente di niente e secondo me non lo saprete mai si allontanò a testa alta con aria bellicosa presi il biglietto piegato e spiegazzato che gobel aveva lasciato sul tavolo come mi aspettavo era soltanto un dollaro per uno che guida una carriola che può anche raggiungere 50 all'ora in discesa e mangia in posti dove il pranzo fisso è da 85 cents e il lusso del sabato sera il cameriere si avvicinò e mi diede il conto pagai e lasciai il dollaro di gobel nel piatto grazie disse il cameriere quel tale un vostro amico non è la parola esatta dissi forse è povero disse il cameriere con aria tollerante una delle belle cose di questa città è che la gente che ci lavora non può viverci quando uscì nel ristorante c'erano ormai più di 20 persone e le voci rimbalzavano contro il soffitto e contro le pareti capitolo 17 la rampa che scendeva nella rimessa era come l'avevo vista alle 4 del mattino ma quando raggiunsi la curva senti lo scroscio dell'acqua l'ufficio era vuoto da qualche parte lavavano un'automobile ma non doveva essere l'inserviente varcai la porta che conduceva il pianerottolo dell'ascensore la tenni aperta nell'ufficio dietro di me la cicala suonò lasciai che la porta si richiudesse e rimasi ad aspettare un uomo magro con un lungo grembiale bianco svoltò l'angolo portava gli occhiali aveva la pelle color fiocchi d'avena freddi e gli occhi incavati e stanchi il suo viso aveva qualcosa di mongolo del meridionale dell'indiano e anche qualcosa di più oscuro i capelli neri erano lisci sul cranio stretto la vostra macchina signore il nome prego la macchina del signor mitchell è dentro la buic bicolore non rispose subito gli occhi si addormentarono di certo gli avevano già rivolto quella domanda poco prima che gliela facessi io il signor mitchell è uscito stamattina molto presto con la macchina a che ora prese la matita agganciata alla tasca sopra il nome dell'albergo cucito a lettere rosse prese la matita e la guardò a poco prima delle sette il mio turno finisce alle sette avete un turno di 12 ore sono le sette passate rimise la matita in tasca ho un turno di otto ore a rotazione oh ieri avete lavorato dalle 11 alle 7 giusto guardava oltre le mie spalle qualcosa di molto lontano ora ho finito tirai fuori il pacchetto di sigaretta e gliene offrì una scosse la testa posso fumare soltanto nell'ufficio ho seduto in una pacchette la mano destra si contrasse come per impugnare un coltello come va la scorta serve niente mi guardava fisso avreste dovuto dire che scorta dissi non rispose e io che avrei detto che non parlavo di tabacco continuai ma di roba preparata con il miele i nostri occhi si incontrarono e rimasero a fissarsi finalmente l'uomo disse sottovoce ne vendete ne siete uscito in fretta se alle sette di stamani eravate in funzione per me avevate l'area di star fuori circolazione per parecchio forse nella vostra testa c'è un orologio come per eddi arcaro eddi arcaro ripete oh sì il fantino ha un orologio nella testa così si dice potremmo trattare disse con voce lontana il prezzo nell'ufficio la cicala suonò senza rendermene conto avevo sentito l'ascensore che scendeva la porta si aprì e la coppia che avevo visto con la mano in mano nell'atrio ne uscì erano tutti e due in abito da sera stavano fianco a fianco con l'aria di due ragazzini sorpresi mentre si baciano l'inserviente li guardò poi si allontanò e poco dopo una macchina venne avanti una bella chrysler nuova decapottabile e il giovane trattava la ragazza con estrema cura come se fosse già incinta l'inserviente scese e tenne aperto lo sportello il giovanotto salì in macchina e ringraziò l'inserviente la glass room è molto lontana domandò no signore l'inserviente spiegò come potevano arrivarci in quanto tempo l'uomo sorrise lo ringraziò infilò una mano in una tasca e gli diede un dollaro di mancia potevo portarvi la macchina all'ingresso signor preston bastava telefonare giù e avvertirmi oh grazie ma va bene così rispose in fretta il giovanotto mise in moto la chrysler ronzò si avviò lentamente su per la rampa e scomparve sposini freschi dissi molto carini non vogliono essere notati l'inserviente mi stava di nuovo davanti con quel suo sguardo vacuo ma noi non siamo carini aggiunsi se siete un poliziotto fuori la latta credete che sia un poliziotto siete una specie di fetente ficcanaso qualsiasi cosa dicesse il tono di voce non cambiava mai congelato in bemolle e neanche l'espressione del viso vero verissimo approvai sono un privato ieri sera ho seguito una persona fin qui eravate in una pacard da quella parte indicai sono venuto ad aprire lo portello e ho annusato la merce avrei potuto andarmene da qui con quattro cadilla che non vi sareste neanche girato nel letto ma questi sono fatti vostri il prezzo di oggi disse non sto discutendo di ieri sera michel se n'è andato da solo annui niente bagaglio nove pezzi l'ho aiutato a caricare se n'è andato soddisfatto controllato all'ufficio aveva il conto pagato e timbrato bene e con tutto quel bagaglio naturalmente aveva qualcuno per aiutarlo il ragazzo dell'ascensore fino alle sette e mezzo non c'è nessun altro quale ragazzo dell'ascensore un messicano che si chiama cico non siete messicano sono in parte cinese in parte hawaiano in parte filippino e in parte negro sono uno schifo una domanda ancora come diavolo riusciti a passarla liscia la mistura dico si guardò attorno fumo soltanto quando mi sento parecchio sotto e che diavolo vi importa che diavolo dovrebbe importare a chiunque se mi pescano perdo un lavoraccio da poco magari mi sbattono dentro magari dentro ci sono sempre stato tutta la vita la galera me la porto dentro soddisfatto parlava troppo quelli che hanno i nervi stabili sono così un momento parlano a monosillabi il momento dopo è una diga che si spezza la lenta voce monotona continuò non ce l'ho con nessuno vivo mangio ogni tanto dormo venite a trovarmi uno di questi giorni vivo in un pollaio una vecchia costruzione in un vicolo detto polton's lane abito proprio dietro la esmeralda hardware company il gabinetto è nella legnaia mi lavo in cucina in un lavandino di latta dormo sul letto con le molle rotte tutto almeno vent'anni questa è la città dei ricchi venite a trovarmi vivo sulla proprietà di un ricco nella vostra storia su mitchell manca un pezzo dissi quale la verità lo cercherò sotto la branda rischia di essere parecchio polverosa ci fu un rumore sordo di un'automobile che scendeva sulla rampa l'inserviente si allontanò io varcai la porta e chiamai l'ascensore uno strano tipo quell'inserviente molto strano però piuttosto interessante e anche triste uno tra i tristi uno tra i perduti l'ascensore ci impiegò molto tempo per scendere e prima che arrivasse avevo compagnia 1,87 di maschio sano bello e solido di nome clark brandon indossavo una giacca di cuoio un pesante maglione blu a collo alto un paio di pantaloni di velluto piuttosto sdrucidi e un paio di scarponi con la lacciatura di quelli che servono quando si deve camminare a lungo in aperta campagna sembrava il capo di una squadra di minatori un'ora dopo senza dubbio sarebbe stato alla glass room in abito da sera con l'aria da padrone e forse lo era davvero un mucchio di soldi un mucchio di salute e un mucchio di tempo per ricavarne quanto di meglio e ovunque andasse sarebbe stato il padrone mi lanciò un'occhiata e quando arrivò l'ascensore mi lasciò entrare per primo il ragazzo lo salutò con rispetto brandon rispose chinando la testa uscimmo tutti e due nell'atrio brandon andò verso il banco e venne accolto dal portiere con un luminoso sorriso come nuovo non gliel'avevo mai visto gli consegnò un fascio di lettere brandon si appoggiò al banco e aprì le buste l'una dopo l'altra le lasciò cadere nel cestino della carta straccia poco lontano quasi tutte le lettere fecero la stessa fine c'era uno scaffale con dei prospetti di viaggio ne presi uno accesi una sigaretta e mi misi a esaminare il prospetto brandon aveva trovato una lettera che lo interessava la lesse più volte vidi che era breve scritta a mano sulla carta dell'albergo ma a meno che di non andare a leggere da dietro la sua spalla non vedevo l'altro teneva in mano una lettera poi si chinò a ripescare la busta nel cestino la esaminò mise la lettera in tasca e si avvicinò al banco porse la busta al portiere portata a mano avete visto chi l'ha portata non capisco chi sia il portiere guardò la busta e annui sì signor brandon l'ha lasciata un tale poco dopo che sono entrato in servizio un tale grassoccio di mezza età con gli occhiali abito cappotto e cappello grigi non era un tipo di qui un tipo misero una persona da poco ha chiesto di me no signore mi ha detto soltanto di mettere la busta nella vostra casella qualcosa che non va signor brandon aveva l'aria losca il portiere scosse la testa no come ho già detto di una persona da poco brandon sogghignò vuol farmi diventare un vescovo bormone per 50 dollari deve essere matto prese la busta dal banco e la mise in tasca fece per allontanarsi poi domandò avete visto l'herry mitchell no signor brandon non l'ho visto ma sono di servizio soltanto da un paio d'ore grazie brandon si avviò verso l'ascensore di entrò era un altro ascensore l'inserviente sorrise con tutta la faccia e disse qualcosa brandon non rispose non lo guardò il ragazzo assunse un'espressione addolorata e richiuse la porta brandon era accigliato era molto meno bello con quella grinta rimisi il prospetto di viaggio al suo posto e mi avvicinai al banco il portiere mi guardò senza interesse il suo sguardo diceva che non abitavo in albergo sì signore aveva capelli grigi e il portamento distinto volevo chiedere del signor mitchell ma ho sentito quel che avete detto i telefoni interni sono da quella parte accennò con il mento il centralino vi metterà in comunicazione ne dubito come sarebbe a dire aprì la giacca per prendere il portafogli il portiere contraste le dita alla vista del calcio della pistola sotto il mio braccio presi il portafogli e ne tolsi un biglietto da visita potrei vedere il poliziotto della casa se ne avete prese il biglietto e lo lesse alzò la testa accomodatevi nell'atrio signor marlow grazie prima ancora che mi fossi voltato del tutto era già attaccato al telefono passai oltre l'arcata e andai a sedermi contro la parete in un punto dal quale potevo vedere il banco non dovetti aspettare a lungo l'uomo aveva una schiena dritta e dura viso dritto e duro e il genere di pelle che non si abbronza mai si arrossa soltanto e poi impallidisce di nuovo i suoi capelli erano inanellati e di un biondo rossastro apparve sotto l'arcata e osservò lentamente la scala non mi guardò più a lungo di quanto non guardasse gli altri poi venne a sedersi nella poltrona accanto alla mia indossava un abito marrone e una cravatta gialla a farfalla gli abiti gli stavano bene addosso sugli zigomi aveva una lieve peluria bionda nei capelli una sfumatura di grigio mi chiamo javonen disse senza guardarmi il vostro nome non lo so ho il biglietto in tasca che cosa volete un certo michel cerco larry michel lo cercate e perché affari ci sono ragioni per le quali non dovrei cercarlo nessuna ragione è fuori città partito stamattina presto l'ho sentito dire mi lascia piuttosto perplesso è arrivato soltanto ieri con il super shift fino a los angeles poi ha preso la macchina ed è arrivato fin qui era anche in bolletta ha dovuto farsi prestare soldi per il pranzo è andato a pranzare alla glass room con una ragazza era molto ubriaco fingeva di esserlo così ha evitato di pagare il conto può firmare assegni qui disse javonen con indifferenza gli occhi saettavano per la sala come se si aspettasse di vedere uno dei giocatori di canasta estrarre la pistola e accoppare il suo compagno oppure le due signorine intente al gioco di pazienza e incominciare a strapparsi i capelli a vicenda aveva due espressioni dura e più dura il signor michel è molto conosciuto a esmeralda beh ma non favorevolmente dissi qui sono uno dei direttori signor marlow ho anche l'incarico di investigatore della casa non posso discutere con voi la reputazione di un ospite dell'albergo non è necessario la conosco già da diverse fonti l'ho visto in azione ieri sera ha strizzato qualcuno e ne ha ricavato di che lasciare la città a quanto mi dicono portandosi via il bagaglio chi vi ha detto questa informazione me lo chiese con aria dura cercai di non rispondergli con aria dura inoltre vi sottopongo tre dati dissi uno ieri notte nel suo letto non ha dormito nessuno due oggi l'ufficio è stato informato che la sua camera era libera tre qualcuno del personale di notte stasera non comparirà al lavoro michel non poteva portarsi via tutto senza aiuto giavonen mi guardò poi pattugliò di nuovo la sala con gli occhi bene potete dimostrare di essere quel che dite di essere un biglietto se lo può far stampare chiunque tirai fuori il portafogli e ne sfilai la copia fotostatica della mia licenza e gliela porsi la guardò poi me la restituì la intascai la nostra organizzazione sa come regolarsi nei confronti degli ospiti che se ne vanno senza regolare il conto disse succede in tutti gli alberghi il vostro aiuto non ci serve e non ci piacciono le pistole il portiere l'ha vista chiunque altro potrebbe vederla nove mesi fa abbiamo avuto una tentata rapina uno dei rapinatori è morto gli ho sparato io l'ho letto sul giornale dissi ho avuto una paura terribile per giorni e giorni non avete letto tutto la settimana seguente abbiamo perduto clienti per 45 mila dollari la gente se ne andava a branchi afferrata l'idea ho mostrato di proposito la mia pistola al portiere è tutto il giorno che chiedo di michel senza ottenere risposta se è partito perché non dirmelo nessuno doveva confidarmi che aveva mollato il conto nessuno ha detto che ha mollato il conto il suo conto signor marlow è stato pagato interamente e con questo a che punto stiamo a domandarci come mai la sua partenza è segreta assunse un'espressione sprezzante nessuno ha detto questo non ascoltate con attenzione ho detto che è partito per un viaggio ho detto che il conto è stato pagato interamente non ho detto quanto bagaglio si è portato via non ho detto che ha lasciato la stanza non ho detto che si è portato via tutto vorrei proprio sapere che cosa volete cavarne chi ha pagato il suo conto diventò quasi rosso in faccia sentite giovanotto vi ho detto che ha pagato il conto personalmente ieri sera tutto più una settimana in anticipo sono stato molto paziente con voi ora qualcosa me la direte voi dove volete arrivare in nessun posto mi avete convinto chissà perché ha pagato una settimana in anticipo giavonen sorrise appena appena diciamo una caparra su un sorriso sentite marlow sono stato cinque anni nel controspionaggio militare la gente so giudicarla compreso il tipo del quale parliamo paga in anticipo perché sa che preferiamo così è un sistema solido pagava sempre in anticipo maledizione attento lo interruppi il vecchio signore col bastone da passeggio si interessa alle vostre reazioni si volse a guardare in fondo alla sala dove un vecchio magro e dissanguado sedeva in una poltrona bassa e rotonda con il mento appoggiato alle mani inguantate e le mani inguantate appoggiate al manico di un bastone da passeggio guardava verso di noi senza batter ciglio o quello disse giavonen fino a qui non ci vede a 80 anni si alzò e mi si mise davanti ok disse di più non sganciate siete un poliziotto privato avete un cliente delle istruzioni a me interessa soltanto proteggere l'albergo la prossima volta lasciate a casa la pistola se avete domande da fare chiedete di me inutile interrogare il personale se ne parla in giro e non ci piace se insinuassi che siete di troppo la polizia di qui non vi tratterebbe con molta cordialità posso bere qualcosa al bar prima di andarmene tenete la giacca abbottonata cinque anni nel controspionaggio militare sono un bel numero di esperienze dissi guardandolo con ammirazione dovrebbe bastare mi salutò con un cenno del capo e si allontanò oltre l'arco a schiena dritta spalle all'indietro mento in avanti un uomo alto e snello vi è impiantato uno che ci sapeva fare mi aveva munto a secco di tutto quel che stava scritto sul mio biglietto poi notai che il vecchio seduto nella poltrona bassa aveva sollevato una mano inguantata del manico del bastone muoveva un dito verso di me puntai un dito al petto e trasmisi la domanda il vecchio annui mi alzai e andai da lui chiedendomi che cosa potessi avere da dirmi era vecchio sul serio ma tutt'altro che fragile tutt'altro che annebbiato i capelli bianchi erano ben pettinati il naso lungo tagliente coperto di venuzze gli occhi azzurri e appena stinti ancora acuti ma le palpebre pendevano stanche al di sopra all'orecchio aveva il bottone di plastica dell'apparecchio acustico grigiastro come i capelli i guanti di camoscio erano rivolti all'indietro sul polso sulle scarpe nere lucide portava ghette grigie prendete una sedia giovanotto aveva una voce sottile e secca che frusciava come le foglie di bambù sedetti accanto a lui mi scruttò da vicino e sorrise il nostro ottimo signor giavone ne ha passato cinque anni nel controspionaggio militare come senza dubbio vi avrà comunicato sì signore è così siete curioso di sapere come ha pagato il suo conto il signor michel lo guardai meravigliato guardai l'apparecchio acustico batte sul taschino della giacca ero sordo molto tempo prima che inventassero questi arnesi un cavallo che ha indietreggiato sull'ostacolo colpa mia l'ho alzato troppo presto ero ancora giovane non riuscivo a rassegnarmi a usare il cornetto acustico e così ho imparato a leggere sulle labbra ci vuole una certa pratica ma dopo tanti anni di allenamento è come se ascoltassi con le mie stesse orecchie e michel ci arriveremo non abbiate fretta al sola testa e sorrise una voce disse buonasera signor clarendon un cameriere andò verso il bar il signor clarendon lo seguì con lo sguardo non prendetelo in considerazione disse è un ruffiano ho trascorso molti molti anni negli atri nei saloni nei bar sulle terrazze e nei giardini degli alberghi di tutto il mondo sono sopravvissuto a tutta la mia famiglia continuerò a essere inutile curioso finché non mi trasporteranno in barella in una clinica i draghi bianchi inamidati mi cureranno tireranno su il letto e giù il letto mi daranno da mangiare quell'orribile cibo da ospedale mi prenderanno polso e temperatura a intervalli irregolari soprattutto quando starò per addormentarmi me ne starò disteso ad ascoltare il fruscio delle sottane inamidate il fruscio delle suole di gomma sul pavimento asettico e vedrò il silenzioso orrore del sorriso del medico poi mi metteranno sotto la tenda a ossigeno qualche paravento intorno al lettino bianco e senza neanche saperlo farò quella cosa che tutti gli uomini non possono mai fare due volte volse la testa lentamente e mi guardò è chiaro che parlo troppo come vi chiamate philip marlow sono henry clandon quarto appartengo a quella che un tempo veniva chiamata la classe superiore groton harvard edelberg la soborna ho perfino trascorso un anno a upsala non riesco a ricordare bene il perché e così siete un investigatore privato visto che a un certo punto parlo anche d'altro oltre che di me stesso e sì signore avreste dovuto venire da me per le informazioni ma naturalmente non potevate saperlo scossi la testa accesi una sigaretta dopo averne offerta una al signor henry clandon quarto che la rifiutò insomma signor marlow c'è qualcosa che senza dubbio saprete in tutti gli alberghi di lusso del mondo c'è sempre una mezza dozzina di vecchi oziosi dei due sessi che non fanno niente e guardano come gufi ascoltano sentono discutono vengono a sapere qualcosa su tutti non hanno niente altro da fare perché la vita d'albergo è la forma più penosa tra tutti gli aspetti della noia e senza dubbio adesso annoio voi vorrei sapere di michel signor clarendon vorrei saperlo stasera giusto sono egocentrico e chiacchierò come una scolaretta vedete quella donna con i capelli scuri che gioca canasta quella con troppa gioielleria addosso che porta occhiali con una montatura d'oro troppo pesante non indicò e non guardò ma la individuai aveva qualcosa di eccessivo e sembrava piuttosto naturale era quella dai ghiaccioli e dalla vernice si chiama margot west è divorziata sette volte accumuli di denaro è un aspetto piuttosto sgradevole ma non riesce a tenersi un uomo ce la mette tutta fin troppo ma non è sciocca può avere un'avventura con un uomo come michel dargli del denaro pagargli i conti ma non lo sposerebbe mai ieri sera hanno litigato sono quasi sicuro che gli ha pagato il conto lo ha già fatto altre volte credevo che michel ricevesse un assegno mensile da suo padre che sta a toronto non gli basta è henry clarendon quarto mi lanciò un sorriso sardonico mio caro ragazzo michel non ha un padre a toronto non riceve un assegno mensile vive sulle donne per questa ragione abita in un albergo di lusso c'è sempre qualche femmina ricca e solitaria negli alberghi di lusso non molto bella e non molto giovane ma provvista di altri fascini esmeralda durante la bassa stagione che dura dalla fine del concorso ippico a del mar alla metà di gennaio circa c'è poco da rastrellare allora michel si mette in viaggio maggiorca o svizzera se ce la fa florida o una delle isole dei caraibi se non a fondi sostanziosi questa non gli è andata male ho saputo che è arrivato soltanto fino a washington mi lanciò un'occhiata rimasi di pietra educatamente un giovanotto secondo lui simpatico bene educato che fa compagnia un vecchio signore che ama chiacchierare ok dissi forse gli ha pagato il conto dell'albergo ma perché una settimana in anticipo appoggiò una mano in guantata sull'altra piegò in avanti il bastone e lo seguì con il corpo fissava il disegno del tappeto finalmente sbatte i denti aveva trovato la soluzione si raddrizzò di nuovo la buona uscita disse in tono secco la fine ultima irrevocabile del romanzo la signora west come dicono gli inglesi ne ha abbastanza e inoltre in compagnia di michelle c'era un nuovo arrivo una ragazza dai capelli di un rosso scuro castano rossastro non rosso fuoco rosso lampone ho notato nei loro rapporti qualcosa che mi è sembrato un po strano erano tutti e due piuttosto tesi michelle sarebbe capace di ricattare una donna cléridol ridacchiò ricatterebbe un neonato nella culla l'uomo che vive sulle donne le ricatta sempre anche se la parola non si può usare e ruba quando riesce a metter la mano sul loro denaro michelle ha fassificato due assegni con la firma di margot west l'avventura è finita così lei ha trattenuto gli assegni senza dubbio ma non farà altro che tenerseli signor clarendon con tutto il dovuto rispetto come fate a sapere tutte queste cose me le ha dette lei ha pianto sulla mia spalla guardò la bella donna dai capelli scuri in questo momento non sembra che io ti stia dicendo la verità e tuttavia è così e perché la dite a me il viso prese un'espressione piuttosto maligna non sono molto corretto mi piacerebbe sposare margot west rovescierebbe il gioco un uomo della mia età si diverte delle piccole cose un uccello che canta uno strano fiore che sboccia perché a un certo punto il bocciolo della sterlizia si volta ad angolo retto perché si apre gradatamente perché i petali emergono sempre secondo un determinato ordine in modo che l'estremità acuta del bocciolo assomiglia al becco di un uccello e i petali azzurri arancio hanno la forma di un uccello del paradiso quale strana dita ha creato un mondo così complicato quando probabilmente lo avrebbe potuto fare molto più semplice è onnipotente come potrebbe esserlo c'è sempre tanta sofferenza e quelli che soffrono sono quasi sempre gli innocenti perché la femmina del coniglio inseguita dalla faina ripara i piccoli davanti a sé e si lascia sgozzare perché due settimane dopo non li riconosce neanche più credete in dio giovanotto era una faccenda molto lunga ma ci arrivai anch'io se lo intendete come un dio onnisciente e onnipotente che abbia creato tutto proprio com'è no ma dovreste signor marlow è una grande consolazione ci arriviamo tutti alla fine perché dobbiamo morire e diventare polvere forse per l'individuo è tutto qui forse non lo è ci sono molte opinioni sulla vita dopo la morte non mi piacerebbe molto un paradiso dove mi trovassi insieme a un pigmeo del congo o un colli cinese o un venditore di tappeti levantino o addirittura un produttore di hollywood probabilmente sono uno snob ed è un'osservazione di cattivo gusto non riesco a immaginare un paradiso diretto da un benevolo signore con la barba lunga comunemente chiamato dio sono concetti molto sciocchi di menti molto immature ma non si deve discutere le convinzioni religiose del prossimo per quanto possano essere idiote naturalmente non ho alcun diritto di supporre che andrò in cielo a dire il vero sono alquanto noioso d'altra parte come faccio a concepire un inferno dove il bambino che è morto prima di essere battezzato si trova nella stessa spiacevole situazione di un assassino professionista o di un comandante di un campo di concentramento nazista o di un membro del politburo com'è strano che le migliori aspirazioni dell'uomo piccolo sporco animale e anche le sue migliori azioni il suo grande altruistico eroismo il suo coraggio quotidiano in un mondo nemico com'è strano che tutte queste cose siano di gran lunga migliori del suo destino sulla terra bisogna trovare una logica in qualche modo non venite a dirmi che l'onore è soltanto una reazione chimica che l'uomo che dà volontariamente la vita per un altro segue soltanto uno schema logico di completamento dio si compiace quando un gatto muore avvelenato dio si compiace perché la vita è crudele e soltanto i forti sopravvivono i più forti in che senso oh no niente affatto se dio fosse onnipotente onnisciente in qualsiasi senso letterale non si sarebbe preso la briga di creare l'universo non esiste successo dove non esiste la possibilità di fallimento è blasfemo insinuare che dio ha le sue giornate storte nelle quali niente gli va bene e che i giorni di dio sono molto molto lunghi siete molto saggio signor clarendon avete detto qualcosa a proposito di rovesciare il gioco sorrise debolmente credete che abbia perduto il segno dell'infinito libro delle mie parole no signore non l'ho perduto una donna come la signora west finisce quasi sempre con lo sposare una serie di eleganti cacciatori di patrimoni ballerini di tango con le basette biondi maestri di sci con splendidi muscoli sbiaditi aristocratici francesi e italiani oscuri principotti del medio oriente l'ultimo peggiore di quello precedente potrebbe addirittura arrivare a sposare uno come michel se sposasse me sposerebbe un vecchio seccatore ma se non altro gentiluomo già ridacchiò il monosillabo indica sazietà di henry clarendon quarto non vi biasimo molto bene signor marlow perché vi interessate al signor michel o non potete dirmelo no signore non posso mi interessa sapere come mai è partito appena è tornato chi ha pagato il suo conto e il perché se è stata la signora west oppure un amico ben fornito come clark brandon e perché è stato necessario pagare anche una settimana in anticipo sono cose che l'albergo non vuole si risappiano cose che potrebbero provocare il genere di pubblicità che odiano e cioè suicidio e assassinio questo genere di faccende lo dico soltanto come esempio avrete notato che il nome di un grande albergo non viene quasi mai ricordato quando uno degli ospiti salta dalla finestra è sempre un albergo del centro un albergo di lusso o qualcosa di simile e se è un posto di gran classe non si vedono mai poliziotti nell'atrio qualsiasi cosa sia accaduta di sopra si volse e il mio sguardo seguì la direzione del suo il tavolo di canasta si scioglieva la donna verniciata e ingioiellata che si chiamava margot west se ne andò verso il bar in compagnia di uno degli uomini con il bocchino piantato in bocca come un buon presso e allora bene dissi e lavoravo sodo se michel tiene la camera non so che numero 418 intervenne clarendon con calma sull'oceano 14 dollari il giorno fuori stagione 18 nella stagione alta non mi sembra buon mercato per uno di quella specie ma diciamo che ce l'ha ancora e così è partito per qualche giorno ha preso la macchina ha fatto scendere il bagaglio verso le sette di stamani un'ora proprio strana per andarsene visto che stanotte era ubriaco come una puzzola clarendon si appoggiò allo schienale e rilassò le mani inguantate si capiva che incominciava a essere stanco se fosse accaduto così l'albergo non preferirebbe far credere che se n'è andato definitivamente allora doverste cercarlo altrove se davvero lo cercate incontrai lo sguardo pallido sorrise signor marlow non vi spiegate molto bene io parlo e parlo e non solo per sentire il suono della mia voce non posso sentirla in ogni caso parlare mi offre l'occasione per studiare il prossimo senza essere scortese vi ho studiato la mia intuizione se la parola corretta mi dice che il vostro interesse per il signor michel è piuttosto relativo altrimenti non ne parlereste così apertamente oh oh dissi può darsi c'era spazio per un paragrafo di prosa scorrevole henry clarendon quarto poteva approfittarne io non avevo più un accidente di niente da dire andate ora sono stanco vado in camera a riposare è stato un piacere avervi conosciuto signor marlow si alzò lentamente in piedi e si appoggiò al bastone fu uno sforzo mi alzai anch'io non do mai la mano disse le mie mani sono brutte e mi dolgono per questa ragione porto sempre i guanti buonasera se non vi rivedo buona fortuna se ne andò a passi molto lenti e a testa eretta si capiva che camminare non lo divertiva i due scalini per passare nell'atrio centrale li fece uno per volta con un intervallo il piede destro si muoveva sempre per primo il bastone da passeggio premeva forte vicino al sinistro passò sotto l'arco continuai a guardarlo mentre andava verso l'ascensore il signor henry clarendon quarto era un esemplare piuttosto scivoloso mi diressi verso il bar la signora margot west scendeva nell'ombra ambrata con uno dei giocatori di canasta il cameriere deponeva i bicchieri davanti a loro non ci badai granché perché più in là a un tavolino contro la parete c'era una persona che conoscevo meglio e che mi guardava era sola indossava gli stessi abiti ma aveva tolto la fascia dai capelli che le pendevano liberi intorno al viso sedetti il cameriere si avvicinò e gli ordinai whisky il cameriere se ne andò un giradischi invisibile diffondeva una musica bassa e piacevole mi sorrise appena mi spiace di aver perduto il controllo disse sono stata molto scortese non parliamone me lo meritavo mi cercavi no eri o dimenticavo prese la borsa e se la depose in grembo ci frugò dentro poi posò qualcosa sul tavolo era piccola ma non riusciva a nasconderla con la mano e si vedeva che era una busta di traveler chicks te le avevo promessi no prendila stupido non voglio che il cameriere se ne accorga presi la busta e me la feci scivolare in tasca dalla tasca interna presi un libretto di ricevute sistema e la carta carbone poi scrissi ricevo dalla signorina betty mayfield hotel casa deponiente esmeralda california la somma di 5.000 dollari in traveler chick dell'american express da 100 dollari l'uno girati da lei stessa rimangono di sua proprietà e verranno restituiti dietro sua richiesta in qualsiasi momento finché non verrà stabilita la ricompensa e non avrò accettato un incarico firmato firmai la ninna nanna e le mostra il libretto delle ricevute leggi e firma nell'angolo sinistro in basso prese il biglietto e lo alzò verso la luce mi stanchi da morire disse e adesso che cosa cerchi di dimostrare che non baro prese la penna che le porgevo e firmò poi mi restituì due oggetti staccai l'originale e glielo diedi riposi il libretto il cameriere arrivò con il bicchiere per me non aspettò che pagassi betty scosse la testa e il cameriere se ne andò perché non mi domandi se ho trovato l'herry benissimo hai trovato l'herry no se l'è squagliata aveva una camera al quarto piano dalla stessa parte della tua più o meno sotto si è portato via nove pezzi di bagaglio ed è filato con la buic il poliziotto della casa che si chiama javonen e si definisce uno dei direttori dichiara che michel ha pagato il conto più una settimana di anticipo sulla sua camera non ha nessuna preoccupazione e naturalmente non gli sono simpatico lo sei a qualcuno a te sì per il valore di 5.000 dollari oh che idiota credi che michel ritornerà ti ho detto che ha pagato una settimana in anticipo betty beve in silenzio sì me l'hai detto ma potrebbe anche voler dire qualcos'altro certamente potrebbe essere una cortina fumogena ad esempio potrebbe voler dire che il conto non lo ha pagato lui ma un altro perché questo qualcun altro voleva avere il tempo di fare qualcosa ad esempio di sbarazzarsi di quel cadavere dal tuo balcone sempre che ci sia stato un cadavere oh smettila fini di bere spense la sigaretta si alzò e mi lasciò col conto lo pagai e tornai nell'atrio senza una ragione logica probabilmente per istinto e vidi gobel mentre entrava nell'ascensore mi parve che avesse un'espressione piuttosto tesa nel voltarsi incontrò il mio sguardo o almeno così mi parve ma non diede segno di riconoscermi l'ascensore salì andai a prendere la macchina e tornai al rancio descansato mi distesi sul divano letto e mi addormentai era stata una giornata pesante forse se mi riposavo un poco il cervello mi sarebbe schiarito forse mi sarebbe venuta una vaga idea su quel che stavo facendo capitolo 18 un'ora dopo ero fermo davanti al magazzino della esmeralda hardware non era l'unico che ci fosse a esmeralda ma l'unico che confinasse sul dietro col vicolo chiamato palton's lane andai verso est e contai i negozi ne contai sette fino all'angolo tutti scintillanti di cristalli e di cromature all'angolo c'era un negozio di abbigliamento con la vetrina illuminata e dentro sciarpe guanti e gioielli falsi niente prezzi girai l'angolo e andai verso sud lungo il marciapiede crescevano grossi e caoliptus dai rami molto bassi i tronchi erano spessi e pesanti diversi da quelli snelli nei dintorni di los angeles all'angolo di polton's lane vidi un'agenzia di automobili seguì l'alto muro bianco osservando le cassette rotte i mucchi di scatole i bidoni della spazzatura e posteggi polverosi l'ingresso di servizio dell'eleganza contai gli edifici era facile non occorreva fare domande una luce splendeva alla finestra di una minuscola costruzione che molto tempo prima forse era stata una casa come tutte le altre aveva avanti un terrazzino in legno con la ringhiera rotta una volta doveva essere stato verniciato ma in un passato remoto prima che apparissero i negozi un tempo quel cortile pieno di sporcizia forse era stato un giardino i tegoli erano contorti la porta d'ingresso era color mostarda la finestra era sbarrata nell'interno si vedeva un pezzo di quel che doveva essere stata una tapparella il terrazzino era alto due gradini dal suolo dietro il tugurio a metà strada fra la piattaforma e il carico del magazzino c'era quel che probabilmente era stato un gabinetto il tubo dell'acqua usciva dalla parte di roccata migliorie del ricco sulla proprietà del ricco catapecchia di un locale superai il buco dove avrebbe dovuto esserci un gradino e bussai alla porta non c'era un campanello nessuno rispose premetti la maniglia nessuno aveva chiuso la porta la spinsi ed entrai provai la sensazione che dentro avrei trovato qualcosa di molto brutto una lampadina in un lume storto con il paralume di carta strappato un divano con sopra una coperta sporca una vecchia seggiola di vimini una sedia a dondolo un tavolo coperto di linole un macchiato sul tavolo accanto a una tazzina di caffè una copia di il diario un giornale spagnolo un piatto con i mozziconi di sigaretta un piatto sporco e una piccola radio che trasmetteva musica la musica cessò e una voce d'uomo incominciò a fare la pubblicità in spagnolo girai la manopola e lo feci tacere il silenzio cadde come un sacco di piume poi il ticchettio di una sveglia dietro una porta socchiusa poi il tintinio di una catenella un rumore frusciante e una voce gracchiante disse rapidamente chi è qui è poi un irrascibile chiacchierio scimmiesco poi silenzio di nuovo da una grossa gabbia nell'angolo l'occhio rotondo e irto di un pappagallo mi guardava scivolò lungo il più lontano possibile amico dissi il pappagallo cacciò una stridula risata folle attento come parli fratello dissi il pappagallo arrancò all'indietro frugone la scodellina bianca e scosse i grani di miglio dal becco con aria sprezzante nell'altra scodellina c'era acqua sudicia di miglio scommetto che non sei neanche addomesticato dissi il pappagallo mi squadrò e si gonfiò tutto poi giro la testa e mi guardò con l'altro occhio si chinò in avanti arruffò le penne e dimostrò che avevo ragione necio urlò nedo dell'acqua gocciolava da un rubinetto rotto la sveglia ticchettava il pappagallo imitò il ticchettio fragorosamente e dissi carino ico della kingata disse il pappagallo gli feci una smorfia spinsi la porta socchiusa su quel che restava di una cucina il pavimento di linoleum davanti al lavandino era consunto e lasciava intravedere le assi un fornello arrugginito a tre bruciatori uno scaffale con dei piatti la sveglia uno scaldabagno abitato dalla parte dell'angolo di quelli antiquati che scoppiano perché non hanno la valvola di sicurezza una porticina chiusa con la chiave nella serratura e una sola finestra chiusa il soffitto era scrostato e macchiato dall'umidità dietro di me il pappagallo si agitava nella gabbia e ogni tanto emetteva un gracidio annoiato sull'acquaio di latta trovai un pezzo di tubo di gomma nero e una siringa ipodermica con lo stantuffo chiuso nel secchiaio tre tubetti di vetro lunghi e sottili e accanto i minuscoli tappoli di sughero quei tubetti li avevo già visti altrove aprì la porticina uscì e andai al gabinetto rimodernato il tetto obliquo si trovava circa due metri e mezzo da terra sul davanti e a meno di due dietro la porta si apriva verso l'esterno lo sgabuzzino era troppo piccolo perché potesse aprirsi nell'altra direzione era chiusa ma il chiavistello molto vecchio non resistette a lungo gli alluci dell'uomo sfioravano il pavimento la testa stava in alto nel buio a pochi centimetri dalla trave che reggeva il tetto pendeva da un filo nero probabilmente un pezzo di cordone elettrico le dita dei piedi puntavano verso terra come se tentasse di appoggiarvisi i risvolti consunti dei pantaloni vecchi di tela arrivavano fino a sotto i calcagne lo toccai quel tanto che bastava per sentire che era freddo e che non valeva la pena di staccarlo da là non aveva trascurato niente e in cucina accanto all'acquaio aveva annodato il tubo di gomma intorno al braccio poi contratto il pugno per mettere rilievo la vena si era iniettato un'intera siringa di solfato di morfina poiché tutti e tre i tubetti erano vuoti probabilmente almeno uno dei tre era stato pieno poi aveva deposto la siringa e slegato il tubo di gomma non ci voleva molto tempo con una buona quantità iniettata direttamente nel sangue infine era andato al gabinetto era salito sul sedile per annodarsi il cordone intorno al collo a quel punto probabilmente era già intontito bastava rimanesse là fermo finché le ginocchia cedevano e il peso del corpo sistemava il resto non aveva sentito nulla dormiva già richiusi la porta non tornai nella casa mentre andavo verso palton's lane in quella zona così elegante il pappagallo mi sentì e si sentì gracchiare qui es qui es qui es chi è nessuno amico mio passi nella notte mi allontanai senza far rumore capitolo 19 camminavo piano senza una meta ma sapevo già dove sarei arrivato ci arrivavo sempre alla casa del poniente risali in macchina ritornai in grand street e vagai senza scopo poi mi trovai al solito posto nel posteggio davanti al bar mentre scendevo guardai la macchina ferma accanto alla mia la scassatissima vecchia bagnarola di gobel era appiccicoso come un cerotto in un altro momento mi sarei frugato nel cervello nel tentativo di capire che cosa compinasse ma ora avevo un problema più grave dovevo andare alla polizia a riferire dell'impiccato ma non sapevo che cosa dire perché ero andato in quella casa perché mi aveva detto di aver visto michel partire di mattina presto che importanza aveva perché cercavo michel volevo fare quattro chiacchiere con lui su che argomento e a questo punto non avevo più risposte che non portassero a betty mainfield chi era di dove veniva perché aveva cambiato nome che cosa era accaduto a washington o in virginia o chissà dove che l'aveva costretta a fuggire in tasca avevo 5.000 dollari suoi in traveler's chic e betty mainfield non era neanche formalmente mia cliente c'ero dentro fino in fondo raggiunsi l'orlo del dirupo e ascoltai il rumore del mare non vedevo nulla soltanto il balenio delle onde che venivano verso la riva in una baia le onde non si rompono scivolano dentro educatamente come passeggiando presto ci sarebbe stata la luna ma per il momento non si vedeva poco lontano da me c'era qualcuno che faceva quello che facevo io una donna aspettai che si muovesse quando si sarebbe mossa avrei capito chi era non esistono due persone che si muovono nello stesso modo come non esistono due impronte digitali identiche accesi una sigaretta e lasciai che la fiamma mi illuminasse il viso mi si avvicinò non sarebbe ora che tu la piantassi di seguirmi sei mia cliente cerco di proteggerti forse quando avrò 70 anni qualcuno mi dirà il perché non ti ho chiesto di proteggermi non sono tua cliente perché non torni a casa se hai una casa e non la smetti di seccare il prossimo sei mia cliente per 5.000 dollari devo fare qualcosa per guadagnarmeli forse lasciarmi crescere i baffi sei impossibile ti ho dato il denaro perché mi lasciassi in pace sei l'uomo più impossibile che conosca e di gentaglia ne ho conosciuta che cosa ne è del bell'appartamento nella zona elegante di rio dove avrei vissuto nel lusso con vestaglie di seta accarezzandoti i lunghi lisci capelli mentre il maggior domo preparava la tavola con argenteria e con quel lieve sorriso disonesto e gli atteggiamenti delicati di un rucchiere omosessuale che fluttua intorno a una diva del cinema o piantala non era dunque una proposta seria era un capriccio passeggero o neanche questo soltanto un trucco per farmi perdere il sonno e trottare dappertutto alla ricerca di cadaveri inesistenti nessuno ti ha mai dato un pugno sul naso spesso ma a volte mi hanno mancato la afferrai cercò di liberarsi ma senza usare le unghie la baciai sui capelli all'improvviso si afferrò a me e alzò il viso e va bene baciami se ti fa piacere probabilmente preferiresti che accadesse nelle vicinanze di un letto sono un essere umano non illuderti sei uno sporco meschino investigatore baciami la baciai con la bocca quasi contro la sua di sì si è impiccato si staccò da me di colpo chi domandò con una voce che si sentiva appena il guardiano notturno della rimessa di qui forse non l'hai mai visto usava mesca te marioana ma stasera si è riempito di morfina e si è impiccato nel gabinetto dietro la sua baracca in poltons lane un vicolo dietro grand street tremava tutta si aggrappava a me come per impedirsi di cadere cercò di dire qualcosa ma dalle labbra le uscì soltanto un mormorio era quello che mi ha detto di aver visto michel partire con le sue nove valigie stamattina presto non gli credevo sapevo dove abitava e questa sera sono andato da lui per parlargli ancora e adesso devo andare a raccontarlo alla polizia e che cosa racconto senza dire tutto di michel e poi anche di te di tutta questa storia te ne prego te ne prego lasciami fuori da questa storia sussurrò ti darò dell'altro denaro ti darò tutto il denaro che vuoi oh santo cielo me ne hai già dato anche troppo non lo voglio non voglio denaro voglio riuscire in qualche modo a capire quel che sto facendo e il perché avrai sentito parlare dell'etica professionale ne ho ancora attaccato addosso a qualche brandello sei mia cliente sì ci rinuncio alla fine cedono sempre tutti vero tutt'altro finisce che spesso malmenano me tolsi di tasca la busta con i traveler check accesi la lampadina a pila e ne sfilai 5 rinchiusi la busta e gliela porsi ho tenuto 500 dollari così diventa legale e adesso raccontami tutto non occorre che tu vada a raccontare di averlo trovato e invece sì devo andare subito alla polizia e non posso raccontare nessuna storia che non mi si rivolti contro tre minuti dopo tieni prenditi i tuoi assegni e se ci riprovi a sganciarmeli un'altra volta ti sculaccio afferrò la busta e scappò via nel buio verso l'albergo mi piantò in asso rimasi come un cretino non so quanto ci rimasi ma finalmente intascai cinque assegni tornai stancamente all'automobile mi diressi verso il luogo nel quale dovevo andare capitolo 20 un certo fred pope direttore di un motel una volta mi aveva spiegato molte cose su esberalda era anziano e chiacchierone ma ascoltare serve sempre qualcosa nel mio mestiere non si sa mai a volte capita di raccogliere per puro caso qualcosa che può anche diventare utile ci sono da 30 anni disse quando sono arrivato avevo l'asma secca adesso ho l'asma umida ricordo quando questa città era così tranquilla che i cani dormivano in mezzo al viale chi ce l'aveva doveva fermare la macchina scendere e spingerli da parte quegli schifosi ringhiavano di domenica era come se uno fosse già sepolto tutto chiuso e sbarrato come i sotterranei di una banca si poteva passeggiare per gran street divertirsi quanto un morto secco all'obitorio non si poteva neanche comprare un pacchetto di sigarette era così silenzioso che si sentivano i topi pettinarsi i baffi io e la mia signora è morta da 15 anni si giocava cribbage nella casetta che avevamo sulla strada a lungo il dirupo e stavamo in ascolto per sentire se accadeva qualcosa di emozionante come un vecchione che uscisse a passeggio e picchiasse col bastone non so se siano stati gli helwing a volerla così o se il vecchio helwing l'abbia fatto per cattiveria in quegli anni non abitava qui allora era un pezzo grosso nell'industria degli attrezzi agricoli più probabile che fosse tanto dritto da capire che col tempo esmeralda sarebbe diventata un ottimo investimento sarà disse fred pope insomma la città l'ha creata lui e dopo un poco viene a vivere qui sulla collina in una di quelle grandi ville bianche col tetto di tegole molto elegante aveva giardini e terrazze e grandi prati verdi e cespugli fioriti e cancelli di ferro battuto portati dall'italia ho sentito dire e sentieri lastricati di pietre dell'arizona e tanta terra da tenere i vicini fuori dai piedi beveva un paio di bottiglia al giorno e ho sentito dire che era un tipo tutt'altro che facile aveva una figlia patricia helwing era quanto di meglio e lo è ancora a quel punto esmeralda incominciava già a crescere in principio erano soprattutto vecchie signore con i loro mariti e le pompe funebri lavoravano da matti con tutti quei vegliardi che morivano e venivano seppelliti dalle vedove desolate quelle maledette donne durano troppo la mia non ha durato tacque e scosse la testa per un attimo poi riprese ormai c'è un servizio di tram da san diego ma la città era ancora silenziosa troppo silenziosa qui non nasceva quasi mai nessuno essere incinta veniva considerato troppo audace ma la guerra ha cambiato tutto adesso abbiamo i giovani studentelli in blue jeans e camicie sporche artiste e ubriachi e negozietti del regalo che vendono bicchieri da due soldi per un quarto di dollaro abbiamo ristoranti e spacci di liquori ma non abbiamo biliardi sale da gioco e separe l'anno scorso hanno tentato di mettere un telescopio a gettone nel parco avreste dovuti sentirli gli urli di quelli dell'amministrazione municipale l'hanno impedito e come a quel luogo non è più rifugio degli uccellini abbiamo negozi eleganti come a beverly hills e la signorina patricia ha dedicato la vita intera a lavorare come un castoro per dare belle cose alla città elwig è morto cinque anni fa i dottori gli dissero che se non moderava la bevanda non sarebbe campato neanche un anno le ha sbattuti fuori urlando che se non poteva bere quando gli faceva comodo mattina pomeriggio sera preveriva farne a meno del tutto smise di bere del tutto e un anno dopo era morto i dottori hanno trovato il nome per la malattia lo trovano sempre e suppongo che anche la signorina elwig abbia trovato un nome per loro insomma li hanno sbattuti fuori dell'ospedale e questo li ha sganciati definitivamente da esmeralda non importava proprio niente qui avevano altri 60 dottori la città è piena di elwig alcuni con altri nomi ma tutti di una stessa famiglia per un verso per l'altro alcuni sono ricchi altri lavorano direi che la signorina elwig lavora più sodo di tutti adesso ha 86 anni ma tosta come una mula non mastica tabacco non beve non fuma non bestemmia non usa trucco ha dato alla città un ospedale una scuola privata una biblioteca un centro artistico campi da tennis e dio solo sa che cosa ancora e va sempre in giro con una rolls royce di 30 anni fa rumorosa quanto un orologio svizzero il sindaco di qui è a due passi dall'essere un elwig mi pare che la signorina elwig abbia costruito anche il municipio e lo abbia venduto alla città per un dollaro che donna naturalmente adesso qui abbiamo anche gli ebrei ma lasciatemelo dire dicono che gli ebrei sono capaci di rubarvi il naso dalla faccia se non si sta attenti tutte storie gli ebrei amano commerciare amano gli affari ma sono duri soltanto in superficie sotto sotto un uomo d'affari ebreo è una gran brava persona è umano se vogliamo parlare di scorticatori qui in città c'è un gruppetto capacissimo di ridurti all'osso e mandare il conto per la mano d'opera ti levano di sotto l'ultimo dollaro e ti guardano come se tu avessi rubato capitolo 21 la sede della polizia era in lungo edificio moderno tra elwig e orcat posteggiai la macchina ed entrai e ancora mi domandavo come avrei raccontato la storia ma sapevo di doverla raccontare e sapevo anche che una volta là dentro avrei dovuto dire tutto quanto sapevo senza poter nascondere nulla l'ufficio era piccolo ma molto pulito e la gente di servizio indossava una camicia impeccabile i pantaloni sembravano stirati dieci minuti prima una batteria di sé altoparlante sulla parete comunicava rapporti della polizia e degli sceriffi da tutto il paese una placca d'ottone sulla scrivania diceva che la gente di servizio si chiamava griddle mi guardò come guardano sempre in attesa cosa desiderate signore aveva una voce fredda e piacevole e l'aria disciplinata devo denunciare un decesso in una baracca dietro la esmeralda hardware di grand street nel vicolo che si chiama polton's lane c'è un uomo impiccato in una specie di gabinetto è morto niente da fare il vostro nome prego stava già premendo alcuni punzanti philip marlow sono un investigatore privato di los angeles avete annotato il numero di quella casa non ho visto numeri ma è proprio dietro la esmeralda hardware ambulanza urgente disse al microfono probabile suicidio in una baracca dietro la esmeralda hardware uomo impiccato in un gabinetto dietro la casa mi guardò sapete come si chiama scossi la testa era il guardiano notturno della rimessa della casa del poniente sfogliò il libretto lo conosciamo faceva uso di marijuana non so come facesse a tenersi l'impiego ma ormai ha finito la manodopera di questo genere qui è molto scarsa un sergente alto con la faccia di granito entrò nell'ufficio mi lanciò una rapida occhiata e usci una macchina si mise in moto l'agente di servizio premette il bottone di un piccolo apparecchio sulla scrivania capitano e griddle un certo signor philip marlow ha denunciato un decesso in polton's lane l'ambulanza è avvertita il sergente green è partito ho due macchine di pattuglia nella zona ascoltò per un attimo poi mi guardò il capitano alessandro vorrebbe parlarvi signor marlow in fondo al corridoio ultima porta a destra prego era di nuovo al microfono ancora prima che uscissi l'ultima porta a destra recava l'indicazione di due nomi capitano alessandro su una targa avvitata a legno e sergente green su un cartoncino movibile la porta era socchiusa bussai ed entrai l'uomo alla scrivania era candido quanto l'agente di servizio osservava una scheda con una lente di ingrandimento mentre un registratore raccontava una squallida storia con voce rotta infelice il capitano era alto circa 1,85 aveva capelli folti e scuri e la pelle olivastra il berretto dell'uniforme stava sulla scrivania alzò la testa fermò il registratore posò la lente di ingrandimento e la scheda accomodatevi signor marlow sedetti mi guardò per un attimo senza parlare aveva dolci occhi marroni ma il taglio della bocca mi pareva rude anche senza divisa si sarebbe rivelato per quel che era mi risulta che conoscete il maggiore javonen della casa del poniente lo conosco ma non siamo amici sorrise appena lo credo non ama gli investigatori privati che vanno in giro per l'albergo a fare domande è stato nel controspionaggio militare lo chiamiamo ancora maggiore questa è la città più maledettamente beneducata che conosca da queste parti siamo tutti gentili da far schifo ma siamo poliziotti conoscevate questo ceferino chang ah si chiamava così non lo sapevo si posso sapere che cosa fate a esmeralda sono stato incaricato da un avvocato di los angeles il signor clyde amney di andare al super chief e di seguire una certa persona affinché non si fermava in qualche luogo non mi è stato comunicato il perché ma il signor amney ha detto di agire per incarico di uno studio legale di washington e di non conoscerne lui stesso la ragione ho accettato l'incarico perché non c'è niente di illegale nel seguire una persona se non la si disturba la persona in questione si è fermata esmeralda sono tornato a los angeles e ho cercato di scoprire che cosa c'era sotto non ci sono riuscito e così ho incassato quello che considero un compenso ragionevole 200 dollari e mi sono risarcito delle spese il signor amney non sembra molto soddisfatto di me il capitano annoi questo non spiega come mai siete qui e nemmeno che cosa avevate a che fare con ceferino chang e poiché in questo momento non lavorate più per il signor amney a meno che non lavoriate per un altro avvocato non avete l'obbligo del segreto professionale abbiate pazienza un attimo capitano ho scoperto che la persona che seguivo era ricattata o aveva subito un tentativo di ricatto da parte di un certo larry mitchell abita o abitava alla casa ho tentato di mettermi in contatto con lui ma quel che so sono riuscito a ricavarlo da javonen e da questo ceferino chang javonen mi ha detto che era partito aveva pagato il conto e una settimana di anticipo per la sua camera chang mi ha detto che era partito alle 7 di stamani con 9 valigie nei modi di chang sentivo qualcosa di strano e così avevo deciso di parlargli ancora una volta come sapevate dove abitava me l'ho detto lui era un uomo molto infelice mi ha detto che viveva sulla proprietà di un ricco e sembrava adirato perché non la viene in ordine non basta signor marlow ok d'accordo lo so anch'io prendeva la droga ho finto di essere uno spacciatore nel mio mestiere capita spesso di dover improvvisare meglio ma manca qualcosa il nome del vostro cliente se l'avete potrebbe restare confidenziale dipende non rileviamo mai i nomi delle vittime di ricatti a meno che non si presentino in tribunale ma se questa cosa è stata accusata o condannata per un delitto oppure ha avvarcato i confini di uno stato per evitare l'accusa sarebbe mio dovere come rappresentante della legge riferire dove si trova e come si chiama la signora e allora lo sa già perché domandarlo a me io non so perché mi sia fuggita non vuole dirmelo so soltanto che è nei guai e che ha paura e che michel in qualche modo ha saputo qualcosa su di lei fece un agile gesto con la mano e pescò una sigaretta in un cassetto se la infilò in bocca ma non l'accese mi lanciò un'occhiata decisa ok marlow lasciamo stare per il momento ma se scovate qualcosa è qui che venite a riferire mi alzai anche lui si alzò e mi porse la mano non siamo duri di proposito è il nostro lavoro non prendetevela con javonen il padrone dell'albergo conta parecchio da queste parti grazie capitano cercherò di essere bravo e buono anche con javonen percorsi il corridoio lo stesso agente era alla scrivania mi salutò con un cenno del capo uscì nella strada e salì in macchina rimasi a sedere stringendo il volante tra le mani non ero molto abituato ai poliziotti che mi trattavano come se avessi il diritto di vivere me ne stavo ancora fermo a pensare quando l'agente di servizio si affacciò alla porta e gridò che il capitano alessandro voleva vedermi di nuovo quando tornai nell'ufficio il capitano alessandro era al telefono mi fece cenno di sedere nella poltroncina e continuò ad ascoltare a prendere rapidi appunti in una specie di scrittura concentrata come quella che molti cronisti usano dopo un poco disse grazie mille ci terremo in contatto si appoggiò allo schienale e corrugò la fronte era un rapporto dell'ufficio dello sceriffo di escondido hanno ritrovato la macchina di michel si direbbe abbandonata pensavo che mi interessasse saperlo grazie capitano dove a una trentina di chilometri da qui lungo una strada che porta la provinciale 395 ma non quella che si prende normalmente per arrivarci si chiama lo spenaschitos canyon non c'è altro che terra bruciata c'è spugli e un torrente arido conosco quel posto stamattina un rancher di nome gates c'è passato con un piccolo autocarro alla ricerca di pietre per costruire un muro ha superato una buic bicolore ferma sul lato della strada e non ci ha badato ha soltanto osservato che non era in cattive condizioni soltanto ferma sul ciglio della strada più tardi verso le quattro gates è tornato a prendere un altro carico di pietre la buic c'era ancora questa volta si è fermato e ha guardato dentro non c'erano chiavi ma la macchina non era chiusa niente danni gates ha trascritto il numero della targa il nome e l'indirizzo del libretto di circolazione quando è tornato al suo ranch ha chiamato l'ufficio dello sceriffo a escondido non hanno trovato niente hanno aperto il baule vuoto a parte la gomma di ricambio gli arnesi gli agenti sono tornati a escondido e hanno chiamato qui ho appena finito di parlare accesi una sigaretta e ne offrì una al capitano alessandro scosse la testa qualche idea marlo non più di quante ne abbiate voi sentiamole se michel aveva qualche buona ragione per scomparire è un amico disposto a raccoglierlo un amico del quale nessuno sapeva niente qui avrebbe potuto mettere la macchina in una rimessa questo non avrebbe incuriosito nessuno non ci sarebbe stato niente di strano una macchina lasciata in custodia e basta michel poteva trasportare le valigie nella macchina dell'amico e così non c'era nessun amico e michel si è dissolto nel nulla con le sue nove valigie in una valle solitaria andate pure avanti la voce era diventata dura tagliente mi alzai niente prepotenze capitano alessandro fino a questo momento siete stato molto comprensivo vi prego non mettetevi in mente che io abbia qualcosa che fare con la scomparsa di michel non sapevo come non so tuttora che cosa aveva scoperto a proposito della mia cliente so soltanto che è una donna sola spaventata e infelice quando saprò il perché se mai riuscirò a scoprirlo ve lo comunicherò oppure no se non vengo a dirvelo prendetevela pure con me non sarà la prima volta che mi capita non svendo neanche ai poliziotti cortesi speriamo che tutto ci conduca nel migliore dei modi marlow lo spero anch'io capitano e grazie per avermi trattato cortesemente usci un'altra volta nel corridoio salutai con un cenno del capo la gente di servizio e salì in macchina mi sentivo di vent'anni più vecchio sapevo ed ero convintissimo che lo sapesse anche il capitano alessandro che michel non era più tra i vivi che non aveva portato la sua macchina all'ospenaschitos canyon ma ce l'aveva portata qualcun altro con michel morto sul sedile posteriore non c'era altro modo di vedere la cosa ci sono cose che sono fatti in senso statistico su carta sul nastro prove e ci sono cose che sono fatti soltanto perché fatti devono essere altrimenti non c'è niente di sensato capitolo 22 è come un urlo improvviso nella notte ma senza suono quasi sempre di notte perché le ore dell'oscurità sono le ore del pericolo ma mi è accaduto anche alla luce del giorno quello strano momento di chiarezza quando all'improvviso so qualcosa che non c'è nessuna ragione di sapere a meno che durante i molti anni e la molta tensione non abbia imparato a sentire quello che i toreri chiamano il momento della verità non c'era altra ragione nessuna ragione logica eppure sostai di fronte all'ingresso del rancio descansado spensi i fari e il motore poi prosegui per una cinquantina di metri e frenai di colpo andai verso l'ufficio sopra il campanello notturno c'era il lieve bagliore della lampadina ma l'ufficio era chiuso erano soltanto le dieci e mezzo girai tutto attorno e mi incamminai tra gli alberi scorsi due automobili ferme una da noleggio anonima come un gettone telefonico e l'altra la bagnarola scura di gobble non molto prima l'avevo vista alla casa del poniente e ora era qui avanzai tra gli alberi finché non mi trovai vicino alla mia camera buio e silenzio salì i pochi gradini senza far rumore accostai l'orecchio alla serratura poi sentì un singhiozzo strozzato di un uomo non di una donna poi una risata bassa sogghignante poi quel che mi parve un colpo forte poi silenzio tornai indietro tra gli alberi fino all'automobile aprì il ruolo e tirai fuori una chiave inglese tornai alla mia camera silenziosamente prudentemente come prima e anche di più ascoltai di nuovo silenzio niente il silenzio nella notte presi la lampadina a pila la accesi per un attimo puntandola contro la finestra poi mi scostai dalla porta per alcuni minuti non accadde nulla poi la porta si socchiuse mi lanciai avanti e spalancai la porta con la spalla l'uomo barcollò indietro e poi rise vidi il bagliore della pistola nella penombra gli pestai sul polso con la chiave inglese urlò pestai sull'altro polso sentì cadere la pistola accesi le luci e richiusi la porta con un calcio aveva i capelli rossi la faccia bianca e gli occhi smorti ridotto com'era restava duro non camperai a lungo disse tu non campi affatto levati di torno riuscì a ridere hai ancora le gambe dissi piegale ed istenditi a faccia in giù se vuoi continuare ad avere una faccia cercò di sputarmi addosso ma si soffocò scivolò in ginocchio a braccia allargate ora gemeva crollò all'improvviso sono maledettamente duri quando hanno la meglio e non conoscono altro genere di situazione gobol giaceva sul letto la faccia era tutta a maccature e tagli aveva il naso rotto era svenuto e respirava come se fosse strozzato per metà il rosso era sempre esteso e la pistola giaceva a terra poco lontano gli sfilai la cintura e gli legai le caviglie poi lo rivoltai e gli frugai nelle tasche nel portafogli trovai 660 dollari una patente a nome di richard avrest e l'indirizzo di un piccolo albergo di san diego un fascio di assegni di una ventina di banche un pacchetto di cambiali ma niente portodarmi lo lasciai dove stava e andai all'ufficio premetti il pulsante del campanello notturno e ci sopra il dito dopo un poco apparve una figura nell'oscurità era jack in pigiama e vestaglia tenevo ancora in mano la chiave inglese spalancò gli occhi che cosa succede signor marlow niente un manigoldo nella mia camera mi aspettava per uccidermi e un altro disgraziato fatto più o meno a pezzi sul mio letto niente di speciale tutto normalissimo da queste parti oh chiamo la polizia sarebbe veramente carino da parte vostra jack come vedete sono ancora vivo sapete che cosa dovreste fare di questo posto trasformarlo in un ospedale per animali aprì la porta ed entrò nell'ufficio quando lo sentì parlare con la polizia tornai nella mia camera il rosso aveva fegato era riuscito a mettersi seduto contro la parete aveva sempre gli occhi smorti e la bocca contorta in una smorfia mi avvicinai al letto gobble aveva gli occhi aperti non ce l'ho fatta sussurrò non sono in gamba come credevo fregato sta per arrivare la polizia che cosa è successo mi ci sono cacciato dentro a tuffo nessun reclamo quello è un macellaio sono fortunato respiro ancora mi ha costretto a venire fin qui mi ha rinfrescato mi ha legato e poi se n'è andato per un poco qualcuno deve averlo seguito gobble fuori vicino alla vostra c'è una macchina da noleggio se l'aveva alla casa come ha fatto a tornare a prenderla gobble voltò lentamente la testa e mi guardò pensavo di essere uno di quelli dritti ma ho capito che non è così voglio tornare a casa city il pesce piccolo non ce la fa con quello grosso non sempre mi avete salvato la vita poi arrivò la polizia prima quelli della pattuglia ragazzi simpatici cortesi e seri con uniformi immacolate le faccia sempre di sasso poi un grosso sergente di quelli duri che disse di chiamarsi olsminder sergente di servizio con la pattuglia guardò il rosso poi si avvicinò al letto chiamate l'ospedale disse deciso senza voltarsi uno dei poliziotti uscì il sergente si chinò su gobble volete dirmelo il rosso mi ha pestato mi ha preso il denaro mi ha piantato contro una pistola alla casa mi ha fatto venire fin qui poi mi ha pestato perché gobble emise un sospiro e abbandonò la testa sul cuscino svenne di nuovo o finse di svenire il sergente si raddrezzò e si rivolse a me con uno sguardo niente affatto affettuoso è la vostra storia niente da dire sergente l'uomo sul letto ha pranzato con me stasera ci siamo incontrati un paio di volte ha detto di essere un investigatore privato di kansas city mai saputo quel che faceva qui è quello il sergente fece un gesto molle verso il rosso che aveva sempre in faccia quella specie di sorriso innaturale da epilettico mai visto in vita mia di lui non so niente a parte il fatto che mi aspettava dietro la porta con la pistola vostra quella chiave inglese si sergente l'altro poliziotto tornò nella camera disse il sergente arrivano e così avevate una chiave inglese disse freddamente olsminder e perché diciamo che avevo la sensazione che qualcuno mi aspettasse qui dentro con intenzioni non del tutto amichevoli diciamo che non avevate nessuna sensazione ma che lo sapevate e sapevate molte altre cose diciamo che voi non mi date del bulgiardo finché non sapete di che si tratti e diciamo anche che non vi mettete a fare il bullo soltanto perché avete tre galloni e diciamo anche qualcos'altro questo tipo è un colinquente ma ha i polsi fratturati e sergente sapete bene che cosa vuol dire non potrà mai più maneggiare una pistola e vi mettiamo dentro per disturbo alla pubblica quiete se lo dite voi sergente poi arrivò l'ambulanza caricarono prima gobble poi l'infermiere fece la prima medicazione ai polsi del rosso gli slegarono le caviglie il rosso mi guardò e rise la prossima volta collega troverò qualcosa di originale ma stavolta ti è andata bene proprio bene lo portarono fuori gli sportelli dell'ambulanza sbatterono e il ronzio del motore si allontanò da noi rapidamente il sergente era seduto senza berretto si asciugava la fronte riproviamoci disse dal principio facciamo come se non ci si odiasse a vicenda ma si tentasse di capire qualcosa è possibile sì sergente è possibile capitolo 23 alla fine mi ritrovai alla sede della polizia il capitano alessandro non c'era firmai la mia dichiarazione al sergente olsminder una chiave inglese disse in tono meditabundo avete corso un bel rischio poteva spararvi quattro volte nel tempo che ci voleva per pestare non credo sergente prima gli ho dato una bella botta con la porta e può anche darsi che non avesse l'idea di spararmi secondo me non lavorava in proprio andammo avanti ancora un poco su questo tono poi mi lasciarono andare era troppo tardi per fare qualcosa troppo tardi per parlare con qualcuno ma andai all'ufficio telefonico mi chiusi in una delle due cabine esterne e composi il numero della casa del poniente la signorina mayfield per favore la signorina betty mayfield camera 1224 non posso chiamare un cliente a quest'ora perché avete un polso slogato quella notte ero proprio un tipo duro credete che chiamerei se non fosse un caso urgente chiamo e betty rispose con voce assonnata parla marlow guai grossi vengo lì o venite da me che cosa che genere di guai credimi sulla parola almeno per una volta vengo a prenderti al posteggio devo vestirmi dammi un poco di tempo usci salì sulla macchina e andai alla casa fumavo la terza sigaretta e desideravo di avere qualcosa da bere quando arrivò in fretta e senza far rumore salì in macchina non capisco che cosa sia questa storia incominciò a dire malinterruppi sei l'unica che lo capisci e stanotte mi direi tutto e non affaticarti con l'indignazione questa volta non attacca partì di scatto e attraversai velocemente le strade silenziose poi giù per la collina infilai i cancelli del rancio descansato e mi fermai tra gli alberi scese senza aprir bocca entrammo e accesi le luci qualcosa da bere sì sei drogata no stasera no se intendi un sonnifero sono stata fuori con clark e ho bevuto molto champagne mi fa sempre venire sonno preparai da bere le porsi un bicchiere sedetti e appoggiai la testa all'indietro ti prego di scusarmi dissi sono stanco ogni due o tre giorni devo sedermi è una debolezza che cerco di vincere ma non sono più giovane come un tempo michel è morto trattenne il fiato e la mano prese a tremarle forse era diventata pallida non ero certo morto sussurrò morto o piantala come diceva lincoln tutti ci cascano ogni tanto e alcuni ci cascano sempre ma non è sta zitto sta zitto ma chi diavolo ti credi di essere soltanto uno che ha tentato in tutti i modi di aiutarti uno con esperienza e comprensione sufficienti per capire che stavi nei guai fino al collo e voleva aiutarti a uscirne senza nessuna collaborazione da parte tua e tu non hai fatto altro che rendermi ancora più difficile il compito michel è morto disse a voce bassa ansante non volevo essere scortese dove hanno trovato la sua automobile abbandonata in un posto che non puoi conoscere e a circa 30 chilometri nell'interno lungo una strada che nessuno percorre quasi mai un posto che si chiama los penaschitos canyon una zona deserta nella macchina niente neanche una valigia soltanto una macchina vuota ferma sul ciglio di una strada dove non passa mai nessuno guardò il bicchiere poi ingoiò un gran sorso hai detto che è morto sembra che siano passate settimane intere ma era soltanto ieri quando sei venuta qui a offrirmi il meglio di rio se ti aiutava a sbarazzarti del suo cadavere ma non c'era devo essermelo sognato fanciulla sei venuta qui alle 3 del mattino in uno stato più o meno di shock hai descritto dov'era e com'era disteso sulla sedia del tuo balconcino e io sono venuto con te ho salito le scale antincendio con l'infinita precauzione per la quale la mia professione è famosa e niente michel e poi tu che dormivi nel tuo lettino con le tue compresse per tenerti compagnia continua con la commedia ribatte con ira lo so che ti diverti perché la compagnia non me l'hai fatta tu forse non avrei avuto bisogno delle compresse se non ti dispiace una cosa alla volta e prima cosa quando sei venuta qui dicevi la verità michel era morto e si trovava nel tuo balcone ma qualcuno ha portato via il cadavere mentre tu venivi qui a fare di me un cretino gigante qualcuno lo ha trasportato nella sua macchina poi ha preparato le sue valigie ha portato via anche quelle c'è voluto tempo e ci voleva una ragione di quelle importanti chi farebbe una cosa simile soltanto per risparmiarti la seccatura di annunciare che sul tuo balconcino c'è un morto o piantala fini di bere e posò il bicchiere sono stanca posso stendermi sul tuo letto no se non ti spogli e va bene mi spoglierò è a questo che volevi arrivare vero può darsi che il letto non ti piaccia ci hanno pestato gobel poco fa è stato un tale con una pistola a noleggio che si chiama richard harvest ridotto un cencio gobel te lo ricordi vero l'uomo grassoccio nella piccola automobile nera che ci ha seguiti su per la collina non conosco nessuno che si chiama gobel e non conosco nessuno che si chiami richard harvest come fai a sapere tutte queste cose perché erano qui nella tua camera il pistolero da noleggio aspettava me quando ho saputo della macchina di michel ho avuto un'intuizione perfino i generali e le persone importanti ne hanno perché io no il difficile sta nel sapere quando bisogna seguirla stanotte o ieri notte sono stato fortunato ho seguito l'impulso lui aveva una pistola ma io avevo una chiave inglese sei un meraviglioso uomo forte e imbattibile disse con amarezza il letto non mi disturba devo spogliarmi subito mi avvicinai a lei la tirai in piedi e la scrollai piantala con le cretinerie betty quando vorrò il tuo corpo bellissimo e candido non sarai più mia cliente voglio sapere di che cosa hai paura come diavolo posso fare qualcosa se non lo so tu puoi dirmelo scoppiò in sigliozzi tra le mie braccia le donne hanno ben poche difese ma con quel poco che hanno riescono a fare meraviglie la tenni stretta contro di me puoi piangere piangere singhiozzare finché ne hai voglia avanti dacci dentro sono paziente se non fosse che beh accidenti se non fosse che oltre non andai si stringeva forte a me e tremava sollevo il viso e mi abbassò la testa finché non mi accorsi che la baciavo c'è qualche altra donna domandò sottovoce contro i miei denti ce ne sono state ma qualcuna di molto speciale c'è stata una volta per un momento ma ormai è passato tanto tempo prendimi sono tua tua sono tutta tua prendimi capitolo 24 pestavano sulla porta mi svegliai aprì gli occhi ancora estupidito lei mi stava grappata con tanta forza che non potevo quasi muovermi scostai delicatamente le braccia e mi liberai dormiva ancora scesi dal letto indossai una vestaglia e andai alla porta non l'apri che succede dormivo il capitano alessandro vuole vederti subito aprite spiacente ma è impossibile devo radermi fare la doccia vestirmi eccetera diciamo fra mezz'ora aprite sono il sergente green desolato sergente ma non posso vengo in ufficio appena pronto c'è una bambola là dentro sergente queste sono domande scorrette vengo subito senti i passi che scendevano dal terrazzino senti qualcuno ridere senti una voce dire quello è proprio ricco chissà che cosa fa nei giorni di vacanza senti la macchina della polizia che si allontanava andai nel bagno feci la doccia e mi rasai mi vesti betty ancora stava incollata sul cuscino scrissi un biglietto e lo misi sul mio cuscino devo andare alla polizia sai dov'è la macchina le chiavi sono qui uscii silenziosamente richiusi la porta e trovai la macchina a noleggio di prima ero sicuro che avesse le chiavi dell'accensione quelli come richard harvers non si preoccupano delle chiavi ne hanno sempre per qualsiasi tipo di macchina il capitano alessandro era esattamente uguale al giorno prima non sarebbe mai cambiato con lui c'era un tale un uomo anziano dalla faccia di pietra e dagli occhi cattivi il capitano alessandro mi indicò la solita sedia entrò un poliziotto in uniforme e mi mise davanti una tazza di caffè poi uscì lanciandomi un sorrisetto astuto marlow questo è il signor king solving di westfield non so come sia arrivato fin qui ma c'è arrivato dice che betty mayfield ha assassinato suo figlio non dissi niente non c'era niente da dire bevi il caffè che era troppo caldo ma buono vorreste spiegarvi meglio signor king solving è questo chi è aveva una voce tagliente come i suoi occhi un investigatore privato di nome philip marlow viene da los angeles è qui perché betty mayfield è sua cliente a quanto pare le vostre idee sulla signorina mayfield sono molto più feroci delle sue non ho nessuna idea sulla signorina capitano dissi mi piace darle una strizzatina ogni tanto mi calma i nervi vi piace farvi calmare i nervi da un'assassina urlò il signor king solving beh non lo sapevo che fosse un'assassina signor king solving per me sono novità vi dispiacerebbe spiegarmi la ragazza che si fa chiamare betty mayfield suo nome da ragazza era la moglie di mio figlio lee king solving non ho mai approvato il matrimonio è stata una di quelle idiozie del tempo di guerra mio figlio ha avuto il collo spezzato e doveva portare un busto per sostenere la spina dorsale una notte lei glielo tolse e lo tormentò fin che lui non le si gettò addosso purtroppo da quando era tornato beveva moltissimo e c'erano state delle liti ha inciampato ed è caduto sul letto quando sono entrato l'ho trovata che cercava di rimettergli il busto era già morto guarda il capitano alessandro tutto ciò viene registrato a noi parola per parola benissimo signor king solving immagino che non sia tutto qui esatto a westfield godo di molta influenza sono il proprietario della banca del giornale più importante e di quasi tutte le industrie quelli di westfield sono amici miei mia nuora è stata arrestata e accusata di assassinio il verdetto è stato di colpevolezza i giurati erano tutti di westfield signor king solving certamente perché non avrebbero dovuto esserlo non saprei ma mi sembra una città un pochino unilaterale come tendenze giovanotto non fate lo spiritoso con me scusatemi potreste concludere nel nostro stato esiste una legge strana e credo che esista in poche altre giurisdizioni di solito l'avvocato per la difesa chiede automaticamente un verdetto di innocenza che viene automaticamente rifiutato nel mio stato il giudice può decidere anche dopo il verdetto il giudice era vecchio si è riservato il verdetto quando i giurati hanno presentato il verdetto di colpevolezza ha fatto un lungo discorso dicendo che i giurati non avevano considerato la possibilità che mio figlio ubriaco e furente si fosse levato il busto per spaventare sua moglie ha detto che c'era di mezzo troppa amarezza e che i giurati non avevano voluto prendere in considerazione che mia nuora avesse fatto proprio quel che diceva di aver fatto e cioè avesse cercato di rimettere il busto a mio figlio ha respinto il verdetto e ha assolto l'accusata le ho detto che aveva assassinato mio figlio e che avrei fatto in modo che non potesse più trovare né pace nel rifugio su questa terra sono qui per questo guarda il capitano fissava il vuoto signor king solving disse a parte le vostre convinzioni personali la signora king solving che conosco come betty mayfield è stata processata e assolta l'avete chiamata assassina questa è diffamazione potremmo accordarci su un milione di dollari rise in modo quasi grottesco non l'età da quattro soldi urlò quasi al mio paese vi sbatterebbero dentro subito per vagabondaggio facciamo un milione e un quarto dissi non valgo quanto la vostra ex nuora king solving si rivolse al capitano alessandro ma che succede qui dentro abbaio siete tutti una banda di criminali signor king solving state parlando con un ufficiale della polizia non mi importa un accidente di cosa siete gridò king solving sempre più furente di poliziotti corrotti ce ne sono dappertutto vi consiglio di accertarvene prima di parlare disse alessandro quasi divertito accese una sigaretta soffiò fuori il fumo e sorrise nella nebbia calma signor king solving avete dei disturbi cardiaci prognosi sfavorevole agitarvi vi farà malissimo ho studiato medicina ma non so come sono diventato poliziotto colpa della guerra credo king solving si alzò in piedi aveva degli spruzzi di saliva sul mento e mise uno strozzato ma non finisce qui ringhiò alessandro annui uno degli aspetti interessanti del lavoro di polizia è che non finisce mai resta sempre da sistemare qualcosa e secondo voi che cosa dovrei fare arrestare una persona che è già stata processata e assolta soltanto perché voi siete un pezzo grosso a westfield le ho detto che non le avrei mai dato pace disse furente king solving che l'avrei seguita fino in capo al mondo che avrei fatto in modo che tutti sapessero chi è veramente e chi è un'assassina che ha ucciso mio figlio ed è stata assolta da un giudice idiota ecco chi è il capitano alessandro si rizzò in tutti i suoi 185 centimetri filate disse con freddezza mi avete seccato ne ho conosciuti di idioti prepotenti in vita mia erano quasi tutti poveracci minorati di mente questa è la prima volta che incontro un uomo grande grosso e potente stupido e malvagio quanto un criminale di 15 anni sarete anche il padrone a westfield o vi credete di esserlo ma nella mia città non siete padrone neanche di una cicca di sigaro filate prima che vi faccia mettere dentro per offese a un funzionario di polizia nell'esercizio delle sue funzioni king solving si avviò quasi barcollante verso la porta cercò a tastoni la maniglia benché la porta fosse spalancata alessandro lo guardò andare via poi sedette lentamente siete stato parecchio duro capitano mi si spezza il cuore se qualcosa di quel che gli ho detto potrà servirgli a guardarsi un poco in faccia accidenti quelli come lui mai posso andare sì gobble non presenta denuncia oggi riparte per kansas city scaveremo fuori qualcosa su questo richard harvest ma a che serve lo mettiamo dentro per qualche tempo ma ne restano a centinaia di quelli come lui disponibili per lo stesso genere di lavoro che cosa ne faccio di betty mayfield non ho la vaga idea che abbiate già fatto qualcosa rispose senza muovere un muscolo no finché non saprò che cosa sia successo a michel neanch'io muovevo un muscolo so soltanto che è scomparso questo non vuol dire che la polizia debba occuparsene mi alzai ci scambiamo una di quelle occhiate e me ne andai capitolo 25 dormiva ancora neanche quando entrai si svegliò dormiva come una bambina silenziosa col viso sereno la osservai per un attimo poi accesi una sigaretta e andai in cucina misi al fuoco lo splendido bricco di alluminio da quattro soldi leggero come una carta fornito dalla direzione poi tornai a sedermi sul letto il biglietto che aveva lasciato sul cuscino insieme alle chiavi della macchina c'era ancora la scossi dolcemente aprì gli occhi a fatica che ore sono domandò stiracchiando pigramente le braccia nude ho dormito come un sasso è ora che tu ti svegli e ti vesta sto preparando il caffè mi hanno chiamato dal comando di polizia ci sono stato è arrivato tuo suocero signora king solving balzò a sedere e mi fissò senza fiato il capitano d'alessandro gliel'ha cantata in musica e parecchio non può farti più niente era tutta qui la tua paura ha detto ha detto quel che è successo a westfield è venuto fin qui apposta è tanto furente da saltarti addosso da solo e allora non lo hai fatto vero quello che dice no gli occhi le lampeggiavano anche se tu lo avessi fatto ormai non importerebbe più ma non ne sarei molto felice per via di ieri sera come è riuscito a saperlo mitchell era da quelle parti o vicino santo cielo i giornali non hanno parlato d'altro per settimane intere non gli è stato difficile riconoscermi non c'erano i giornali di qui probabilmente ne hanno parlato soprattutto per la particolarità legale ma io non sapevo nulla il caffè dovrebbe essere pronto come lo prendi è senza zucchero bene non ho né panna né zucchero perché ti facevi chiamare ilion or king no non rispondere è una domanda stupida il vecchio king solving conosce il tuo nome da ragazza andai in cucina tornai con due tazze di caffè ne diedi una a betty sedetti in una poltrona i nostri occhi si incontrarono ed eravamo di nuovo estranei depose la tazza buono potresti voltarti dall'altra parte mentre mi tiro fuori dal letto certamente presi una rivista dal tavolino e finsi di leggere era la storia di un investigatore privato convinto che una donna nuda morta impiccata al tubo della doccia dopo essere stata torturata fosse quanto di più eccitante betty era ormai nel bagno gettai la rivista nel cestino della carta straccia perché non avevo a portata di mano il bidone delle immondizie poi mi misi a pensare che ci sono due tipi di donne con le quali si può fare l'amore quelle che si danno completamente con un abbandono così totale come elen vermilia da non pensare nemmeno al proprio corpo e ci sono quelle sempre trattenute che vogliono sempre nascondersi un poco ricordavo una novella di anatole france dove una ragazza voleva sempre levarsi le calze perché tenendole le pareva di essere una prostituta aveva ragione quando betty uscì dal bagno sembrava una rosa appena sbocciata truccata a meraviglia con occhi scintillanti e ogni capello al suo posto mi riporti all'albergo voglio parlare con clark sei innamorata di lui credevo di essere innamorata di te ma adesso non ne sono più certa era un grido nella notte dissi cerchiamo di non farlo diventare più di quel che era in cucina c'è ancora caffè no grazie voglio fare colazione non sei mai stato innamorato tanto da desiderare di stare ogni giorno ogni mese ogni anno con una donna andiamo un uomo così dolce come fa a essere così cattivo domandò con aria perplessa se non fossi duro non sarei vivo se non riuscissi ad essere dolce non meriterei di essere vivo l'aiutai a mettersi il sovrabito e uscimmo salimmo in macchina mentre andavamo verso l'albergo betty non parlò quando arrivamo dopo essermi infilato nel solito posteggio levai di tasca i cinque travelers chicks e glieli porsi speriamo che sia l'ultima volta che vanno avanti e indietro dissi incominciano a consumarsi li guardò ma non li prese pensavo che fossero la tua parcella disse in tono piuttosto reciso non discutere betty lo sai che non potrei accettare denaro da te dopo stanotte dopo niente non potrei accettarlo non ho fatto niente per te e ora che cosa farai dove andrai ormai sia il sicuro qualcosa farò devo pensarci sei innamorata di brandon può darsi è un ex bandito ha assoldato un pistolero per spaventare goble il pistolero era pronto a uccidermi potresti amare un uomo simile una donna non ama un uomo per quello che forse non ne aveva l'intenzione addio betty ho fatto quel che ho potuto ma non bastava allungò la mano e prese gli assegni secondo me sei matto sei l'uomo più matto che conosca scese dalla macchina e si allontano rapidamente come sempre capitolo 26 le diedi il tempo di salire alla sua camera poi entrai nell'atrio e andai al telefono interno chiesi di clac brandon javonen mi passo vicino e mi lanciò un'occhiataccia ma non fiatò rispose una voce da uomo la sua signor brandon non mi conoscete anche se l'altro giorno siamo saliti insieme in ascensore mi chiamo philip marlow sono un investigatore privato di los angeles un amico della signorina mayfield vorrei parlarvi per qualche minuto se non vi disturba mi pare di aver sentito parlare di voi marlow ma stavo per uscire facciamo stasera verso le sei vorrei tornare a los angeles signor brandon non mi tratterò a lungo va bene disse di mala voglia salite aprì la porta era alto solido muscoloso in condizioni perfette né duro né molle non mi porse la mano si fece da parte e io entrai siete solo signor brandon certamente perché non vorrei che altri sentissero quanto voglio dirvi bene ditelo e facciamola finita sedette in una poltrona e appoggiò i piedi a un panchetto accostò un accendino d'oro a una sigaretta dal bocchino dorato roba costosa sono venuto qui dietro istruzioni di un avvocato di los angeles con l'incarico di seguire la signorina mayfield e di scoprire dove andava per poi riferire non sapevo il perché e l'avvocato diceva di non saperlo ma agiva per incarico di un noto studio legale di washington e così l'avete seguita e con questo si è incontrata con l'herry mitchell o lui ha fatto in modo di incontrarla sapeva qualcosa sul suo conto l'ha fatto con molte altre donne disse freddamente brandon era specializzato in questo campo non lo è più vero mi guardò con occhi freddi inespressivi che cosa significa ha finito di lavorare non esiste più ho sentito dire che ha lasciato l'albergo de partita in automobile io che centro non mi avete domandato come mai non esiste più sentite marlow scosse la cenere dalla sigaretta con aria sprezzante può anche darsi che non me ne importi un accidente arrivate a quel che mi riguarda o levatevi di torno arrivato qui mi sono trovato ad avere a che fare se così si può dire con un certo gobel che diceva di essere un investigatore privato di kansas city gobel mi ha seccato parecchio continuavo a seguirmi dappertutto continuavo a parlarmi di michelle non riuscivo a capire dove mirasse poi un giorno da basso vi hanno consegnato una lettera anonima vi ho visto quando l'avete riletta più volte avete domandato al portiere chi l'aveva lasciata e non lo sapeva avete perfino raccattato la busta dal cestino della carta straccia e quando siete salito non avevate l'aria soddisfatta l'aspetto di brandon era meno tranquillo la voce aveva una sfumatura tagliente non siete troppo curioso giovanotto mai pensato domanda sciocca come potrei guadagnarmi da vivere se non fossi curioso meglio levarvi di qui visto che potete ancora camminare gli risi in faccia e questo lo seccò parecchio si alzò e si avvicinò alla mia poltrona sentite ragazzino da queste parti conto parecchio non mi lascio scocciare dalla gentuccia come voi fuori non volete sentire il resto ho detto fuori mi alzai spiacente ero disposto a sistemare tutto in privato e non fatevi venire in mente che cerchi di mungere come gobol di queste cose non ne faccio ma se mi sbattete fuori senza ascoltare fino in fondo dovrò andare dal capitano alessandro lui mi ascolterà rimase a guardarmi con occhi furenti poi uno strano sorriso gli apparve in faccia eh sì vi ascolterà e con questo posso farlo trasferire con una telefonata no il capitano alessandro non lo fate trasferire stamattina si è seccato con eric in solving e eric in solving non è abituato a sentirsi maltrattare in qualsiasi posto o momento ha spezzato praticamente in due king solving con alcune parole ben azzeccate credete di poterlo convincere a mollare non campereste abbastanza gesù disse sempre sorridendo una volta conoscevo gente della vostra specie ma vivo qui da tanto tempo e avevo dimenticato che ne fabbricano ancora ok vi ascolto tornò alla sua poltrona prese un'altra sigaretta dal bocchino dorato e l'accese ne volete no grazie richard harvest mi sembra che sia stato uno sbaglio non ci sapeva fare no davvero marlow ho un sadico da quattro soldi non ci sapeva proprio fare ecco quel che succede quando si perdono i contatti si perde anche la capacità di giudizio avrebbe potuto rintontire gobol dalla paura senza toccarlo neanche con un dito e poi portarlo da voi che cretino che dilettante visto come ridotto non serve più a niente si metterà a vendere matite volete bere qualcosa non sono in questi rapporti con voi signor brandon lasciatemi finire la notte in cui mi sono messo in contatto con betty e la notte in cui avete sbattuto michel fuori dalla glass room molto bene devo ometterlo betty è venuta nella mia camera a rancio descansado una delle vostre proprietà a quanto mi dicono ha detto che michel era morto su una poltrona del suo balcone mi ha offerto tutto perché l'aiutassi a fare qualcosa sono venuto qui e sul suo balcone morti non ce n'erano l'indomani mattina l'inserviente della rimessa mi ha detto che michel era partito con la sua macchina e nove valigie aveva pagato il conto e una settimana in anticipo per tenere la camera lo stesso giorno la sua auto è stata ritrovata abbandonata all'ospenachitos canyon niente valigie niente michel brandon mi guardava in silenzio perché betty mayfield aveva paura di dirmi quel che le faceva paura perché era stata dichiarata colpevole di assassino da un tribunale di westfield ma il verdetto era stato respinto dal giudice che in quello stato ne ha il potere ma henry kinsolving padre del marito che era stata accusata di aver ucciso le disse che l'avrebbe seguita dovunque e non l'avrebbe lasciata mai più in pace ed ecco che betty scopre un morto sul suo balcone la polizia avrebbe indagato e sarebbe saltata fuori tutta la storia è spaventata e confusa è convinta che non potrà essere fortunata un'altra volta in fondo i giurati l'avevano dichiarata colpevole brandon disse sottovoce aveva il collo spezzato è caduto dalla mia terrazza betty mayfield non avrebbe potuto spezzargli il collo venite ve lo spiego uscimmo sull'ampia terrazza soleggiata brandon si avvicinò al parapetto e io guardai giù e guardavo la poltrona a sdraio sul balcone di betty questo parapetto non è abbastanza alto non è sicuro d'accordo disse brandon con calma e ora ammettiamo che fosse così si appoggiò con il parapetto che non gli arrivava neanche a metà coscia anche michel era alto ha afferrato betty e la trattiene e lei lo respinge con forza e lui casca di sotto e cade in modo puro caso che gli si spezza il collo proprio come era morto suo marito non potete biasimarla se si è lasciata prendere dal panico non biasimo nessuno brandon neanche voi si scostò dal muretto e guardò verso il mare in silenzio poi si volse non vi accuso dissi ma siete riuscito a sbarazzarvi del cadavere di michel e in che modo tra l'altro siete anche un pescatore scommetto che qui in questo appartamento avete una solida cima siete molto forte siete disceso sul balconcino di betty avete legato la corda sotto le braccia di michel avete la forza necessaria per calarlo a terra dietro i cespugli poi avete preso la chiave siete andato nella sua camera a fare le valigie per poi portarle nella rimessa con l'ascensore o per le scale ci volevano almeno tre viaggi non molti per voi poi siete uscito con la sua macchina probabilmente sapevate che il guardiano notturno era pieno di droga e non avrebbe parlato questo è accaduto a tarda notte l'uomo della rimessa ha mentito per quanto riguardava l'ora poi avete condotto la macchina molto vicino al punto dove giaceva il cadavere di michel l'avete caricato a bordo e siete andato all'ospenachitos canyon brandon rise con amarezza e così eccomi all'ospenachitos canyon con un automobile un morto e nove valigie come ne esco elicottero e chi lo pilota voi non fanno ancora molti controlli con gli elicotteri ma presto incominceranno perché diventano sempre più numerosi il pilota probabilmente lo ha lasciato all'ospenachitos canyon poi se n'è tornato a casa con un'auto che è andata a prenderlo un uomo nella vostra posizione può fare qualsiasi cosa e poi avete caricato il cadavere di michel e le valigie sull'elicottero siete uscito in mare vi siete sbarazzato del carico per poi tornarvene indietro con l'elicottero un lavoretto bene organizzato pulito simpatico brandon emise una risata rocca troppo rocca sonava forzata e credete che sarei veramente tanto cretino da correre tanti rischi per una ragazza che ho appena conosciuta uuuh provate a ripensarci brandon l'avete fatto per voi stesso state dimenticando gobal gobal veniva da kansas city no come voi e con questo niente fine del percorso ma gobal non è venuto qui per il piacere del viaggio e non cercava michel perché lo conosceva già insieme credevano di aver trovato una miniera d'oro la miniera d'oro eravate voi ma michel è morto e gobal ha cercato di proseguire da solo era un topo in lotta con una tigre ma vi avrebbe fatto piacere spiegare come mai michel era caduto dalla vostra terrazza vi avrebbe fatto piacere un'indagine sui vostri precedenti sono così pesanti che la polizia avrebbe pensato subito che aveste gettato michel di sotto e anche se non riuscivano a dimostrarlo che cosa sareste diventato esmeralda dopo andò lentamente fino in fondo alla terrazza e torno indietro si fermò di fronte a me in viso non aveva nessuna espressione potrei farvi uccidere marlo ma non so come mai dopo tanti anni che vivo qui non sono più quello di una volta e così mi avete battuto non posso difendermi in alcun modo se non facendovi uccidere michel era l'esemplare umano più infimo che esista un ricattatore di donne se tutto quel che pensate fosse vero se fossi io il responsabile della sua morte non me ne pentirei ed è anche possibile credetemi che mi sia dato tanto da fare soltanto per betty mayfield non mi aspetto che lo crediate ma è possibile e adesso trattiamo pure quanto quanto o per cosa quanto per non andare alla polizia ve l'ho già detto niente volevo soltanto sapere quel che era successo avrò più o meno capito giusto tutto giusto marlo in pieno possono ancora pescarmi può darsi ma ora mi levo dai piedi come ho già detto voglio tornare a los angeles può darsi che qualcuno mi dia del lavoro devo pur vivere no non volete stringermi la mano no avete ingaggiato un bandito questo vi elimina dalla categoria delle persone alle quali stringo la mano se non avessi avuto quell'intuizione potrei essere morto non volevo che uccidesse nessuno ma lo avete ingaggiato capitolo 27 uscì dall'ascensore e javonen aveva l'aria di aspettarmi venite al bar disse voglio parlarvi andammo al bar che a quell'ora era molto silenzioso sedemmo a un tavolino d'angolo javonen disse con voce pacata mi considerate un fetente vero voi avete un lavoro io un lavoro il mio vi ha disturbato perché non vi fidavate di me ma non basta per definirvi un fetente cerco di proteggere l'albergo e voi chi cercate di proteggere non lo so mai spesso quando lo so non so in che modo vado in giro a tastoni e mi rendo insopportabile spesso sono molto incapace l'ho saputo dal capitano alessandro se non è troppo personale quanto guadagnate con il vostro mestiere beh stavolta sono andato fuori dei soliti binari maggiore a dire il vero questa volta non ho guadagnato un soldo l'albergo vi pagherebbe 5000 dollari per proteggere i suoi interessi per albergo si intende il signor clark brandon lo suppongo il padrone è lui suona molto bene 5000 dollari una musica deliziosa la ascolterò mentre sarò in viaggio verso los angeles mi alzai dove devo mandare l'assegno signor marlow al fondo di assistenza della polizia saranno felici di riceverlo i poliziotti non guadagnano molto quando si trovano nei guai devono andare a chiedere prestiti al fondo sì credo che il fondo assistenza vi sarebbe molto riconoscente e voi no siete stato maggiore del centro spionaggio militare avrete avuto un mucchio di occasioni per incassare ma vedo che lavorate ancora beh mi metto in viaggio sentite marlow non fate lo sciocco volevo dirvi ditelo a voi stesso javonen avrete un pubblico in estasi e buona fortuna usci dal bar e salì in macchina andai al descansado a prendere la mia roba e nell'ufficio per pagare il conto jack e lucille erano al solito posto lucille mi sorrise jack disse niente conto signor marlow ho ricevuto istruzioni e vogliamo farvi le nostre scuse per ieri sera ma non servono a molto vero quanto sarebbe il conto non molto 12 e 50 circa misi il denaro sul banco jack lo guardò e si accigliò ho detto che non c'è conto signor marlow perché no ho occupato la camera ma il signor brandon certa gente non impara mai vero felice di avervi conosciuti vorrei la ricevuta mi serve per le tasse capitolo 28 andando a los angeles non forzai la velocità mai più di 140 l'ora beh arrivai a 160 un paio di volte arrivato a yucca avenue infilai la holes nella rimessa e andai a guardare nella cassetta delle lettere niente come sempre salì la lunga scala di legno e aprì la porta di casa la stanza era impersonale poco accogliente e noiosa come sempre l'aria sapeva di chiuso aprì un paio di finestre e andai a prepararmi da bere in cucina sedetti sul divano e fissai il muro ovunque andassi qualsiasi cosa facessi sarei sempre tornato a quella vita a una parete in una stanza insignificante in una casa senza significato posai il bicchiere sul tavolino senza bere l'alcol non serviva a curarmi non c'era rimedio a parte quel che avevo di duro dentro di me che non voleva niente da nessuno il telefono si mise a trillare presi il ricevitore disse parla marlow il signor philip marlow sì vi chiamano da parigi signor marlow vi richiamo deposi lentamente ricevitore e credo mi tremasse un poco la mano guidato troppo veloce dormito troppo poco la comunicazione arrivò 15 minuti dopo sono linda linda loring ti ricordi di me vero tesoro come potrei dimenticare come stai stanco come sempre ho appena concluso una faccenda molto faticosa e tu sono triste nostalgia di te ho cercato di dimenticarti e non ci sono riuscita era meraviglioso stare insieme un anno e mezzo fa e per una notte che cosa dovrei dirti ti sono rimasta fedele non so il perché il mondo è pieno di uomini ma ti sono rimasta fedele io no linda pensavo di non rivederti mai più non sapevo di doverti rimanere fedele no non lo pretendevo dico soltanto che ti amo ti chiedo di sposarmi hai detto che non sarebbe durato neanche sei mesi ma perché non proviamo chissà potrebbe durare in eterno ti supplico che cosa può fare una donna per avere l'uomo che vuole non lo so non so neanche come faccia a sapere che vuole proprio lui viviamo in due mondi diversi tu sei ricca abituata a essere viziata io sono un ronzino stanco con un avvenire dubbio tuo padre probabilmente farebbe in modo che tu non avessi neanche il dubbio non hai paura di mio padre non hai paura di nessuno hai soltanto paura del matrimonio mio padre li sa conoscere gli uomini ti prego ti prego sono a riz ti mando subito il biglietto per l'aereo risi vi mandi il biglietto per l'aereo ma perché razza di individuo mi prendi lo mando io a te il biglietto per l'aereo così avrai tutto il tempo per ripensarci ma tesoro non occorre che tu mi mandi il biglietto per l'aereo o sì hai denaro abbastanza per comperarti 500 biglietti ma questo sarà il mio biglietto prendilo o non venire verrò tesoro verrò stringimi tra le braccia non voglio comperarti voglio soltanto amarti ti aspetto come sempre prendimi tra le braccia il telefono diede uno scatto ci fu un ronzio e la comunicazione venne tolta presi il bicchiere mi guardai attorno nella stanza vuota che non lo era più c'era una voce e c'era una donna alta snella deliziosa c'era una testolina bruna sul cuscino nella camera da letto c'era il dolce soave profumo di una donna contro di me stretta con le labbra morbide e gli occhi socchiusi il telefono trillò di nuovo dissi sì parla clyde amney l'avvocato non mi sembra di aver ricevuto un rapporto conclusivo non vi pago perché vi divertiate voglio immediatamente un rapporto particolareggiato e completo sulle vostre attività voglio sapere nei minimi particolari che cosa avete fatto quando siete tornato a esmeralda mi sono divertito un pochino a mie spese la voce divenne un lamento acuto esigo un rapporto completo immediatamente altrimenti farò in modo che vi tolgano la licenza ho una proposta da farvi signor amney perché non andate a baciare un'anitra ci furono suoni strozzati e furenti riattaccai il telefono trillò quasi subito non lo sentì quasi l'aria era piena di musica